Benvenuti nella sala ciliniera del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico per questa bellissima giornata con amplissima visibilità, grazie molte. Cominciamo questa conferenza annuale del Centro NEXA su internet e società con i saluti istituzionali della professoressa Barbara Gagliardi dell'Università di Torino. Buongiorno a tutti, io vengo in qualità di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino dunque oggi rappresento qui il mio direttore che purtroppo non ha potuto essere presente e dunque ha chiesto a me di sostituirlo e il Dipartimento di Giurisprudenza. Ci tenevamo ad esserci perché è la prima conferenza del Centro NEXA che è organizzata anche sotto legida del nostro Dipartimento grazie all'accordo che abbiamo stipulato con il Politecnico l'anno scorso. Per noi la stipulazione di questo accordo è un momento molto importante e ne siamo molto felici. è un momento molto importante perché in realtà, come testimoniano la presenza delle persone a questo tavolo il Dipartimento di Giurisprudenza attraverso i suoi componenti che hanno sin dall'inizio della storia del Centro NEXA che è impegnato nelle sue attività. Però tutto questo era sinora avvenuto senza un coinvolgimento istituzionale. E' stato dunque un grande risultato arrivare a istituzionalizzare il coinvolgimento. Molti nostri colleghi erano già coinvolti a pieno titolo tra i fondatori del Centro ma appunto senza che a questo corrispondesse un coinvolgimento dell'istituzione. Quest'anno finalmente grazie all'iniziativa dei codirettori ci siamo arrivati e non possiamo che felicitarci perché così si dà un'ufficializzazione a un coinvolgimento che era già presente da tempo e che era già importante per il Dipartimento e poi anche in ragione di quelli che sono le caratteristiche scientifiche del Centro che in particolare in questo momento storico corrisponde appieno a quelli che sono i principali interessi scientifici del Dipartimento di Giurisprudenza. L'impegno sul digitale è ormai pervasivo nell'area delle scienze giuridiche ce ne occupiamo in tutti i settori scientifico disciplinari dal diritto positivo alla filosofia del diritto e allo stesso tempo da un lato appunto gli oggetti scientifici normali del Centro corrispondono in pieno interessi del Dipartimento dall'altra parte non è solo una questione di oggetti di ricerca ma una questione di metodo perché l'interdisciplinarità che caratterizza il Centro corrisponde appieno a quella che è la nostra intenzione per il futuro nel senso che il Dipartimento di Giurisprudenza ha vinto quest'anno un nuovo progetto di eccellenza che si basa appunto sul coltivare l'interdisciplinarità e stimolare l'interdisciplinarità sembra quasi un caso dunque che abbiamo stipulato l'accordo quest'anno anche la conferenza di oggi testimonia pienamente questa vocazione all'interdisciplinarità che ci corrisponde appieno perché ormai siamo finalmente tutti pienamente consapevoli del fatto che il giurista di domani non può più interessarsi esclusivamente al diritto positivo o comunque insomma non avere contaminazioni da parte di altre scienze dunque questi due aspetti insieme unitamente alla soddisfazione appunto per la conferma di un impegno che in realtà esisteva da tempo non possono che renderci molto felici di essere qui ad aprire oggi e a farvi i nostri migliori auguri di buon lavoro per la giornata di oggi grazie grazie molte per questi saluti io sono qua Carlo Stemartin e qua di fianco a me ci sono i miei co-direttori Marco Ricolfi e Maurizio Borghi vi dico semplicemente due parole oltre che per darvi nuovamente il benvenuto per dirvi che è un grandissimo piacere parlare di questo tema digitali fossibili e di immaginare quindi coniugare l'immaginazione con la possibilità di attuarle in realtà questo è un tema che è un po' per caso perché io mi sono occupato molto poco della organizzazione di questo convegno per altri impegni istituzionali è molto vicino al tema di Piennale e Tecnologie 2024 che ho affitto di citare che si terrà dal 18 al 21 aprile dell'anno prossimo per la prima volta in primavera per lo stesso periodo dell'anno in cui si tiene Piennale e Democrazie il titolo di Piennale e Tecnologie 2024 sarà Autopie Realiste e quindi c'è come vedete un'area di famiglia di Autopie Realiste dal mio punto di vista aggiungo soltanto che visto che stiamo parlando il 15 dicembre 2023 in questo momento sono candidato a rettore per il Politecnico di Torino e una delle cose che mi ha spinto a fare questo passo è quello di rafforzare e consolidare il dialogo tra discipline dentro il Politecnico e con discipline coltivate fuori dal Politecnico perché mi sembra fondamentale per poter fare al meglio il nostro lavoro i gens Politecniche e quindi da questo punto di vista spero di poter dare un contributo nei prossimi sei anni per portare questo approccio a livello dateneo ancora più di quanto non abbiamo fatto in questi ultimi anni a partire dall'esperienza oggettivamente periodistica del centro NEXA su internet e società ciò detto voglio semplicemente ringraziare Marco, Maurizio e tutto lo staff di NEXA con Antonio Betronto, Sant'Angelo e tutti quanti al nostro staff permanente del centro NEXA perché hanno fatto un lavoro eccezionale che adesso mi siederò in prima fila e mi godrò grazie solo due parole per riprodurre il tema rinnovo i ringraziamenti al pubblico e innanzitutto allo staff il tema lo riassumerei in una parola la velocità del cambiamento tutto è cambiato direi dal 2007 il libro di Juan Carlos contro lo smartphone è testimonianza di questo enorme cambiamento rispetto alle precedenti rivoluzioni agricola e industriale questo ha avuto dei tempi non di millenni non di secoli ma di anni e adesso ci troviamo a dire sì molti traumi quali contropoteri creiamo? come ci adattiamo? io e da anni che al centro NEXA mi occupo del tema dei countervailing powers i poteri contrapporti rispetto alla velocità del cambiamento questo momento è importante per ragionare insieme con voi di questa resistenza e di questa capacità della società civile di elaborare dei contrapesi dove c'è stato un cambiamento così impetuoso anche io vi darò solo due parole prima di lasciare la parola agli speaker si ricordava prima Valtore Gagliari ricordava prima che il centro NEXA è attivo da un certo numero di anni in realtà sono già 15 anni e in questi 15 anni internet è cambiato è cambiato moltissimo diciamo che ciò che domina l'internet di oggi sembra essere questa pervasività di poteri di organizzazione di controllo che secondo alcuni non si è mai visto prima nella nostra civiltà e i poteri che organizzano ogni aspetto possiamo dire della dimensione sociale culturale e anche politica delle comunità umane e allora per la conferenza di quest'anno abbiamo pensato di porci la seguente domanda cioè se questo destino sia inevitabile cioè se sia inevitabile andare in una direzione di un continuo e rafforzamento e sovrapotenziamento di questo di questa tendenza oppure se sia possibile un altro un destino diverso e quindi la conferenza di oggi la conferenza di oggi si tratterà di dare la parola a esperienze magari che già oggi magari sotto traccia magari senza comparire nelle pagine nella prima pagina di Wired o di altri media dominanti già lavorano in qualche modo alla preparazione di un digitale possibile cioè di mondi possibili alternativi non necessariamente antagonisti ma diciamo alternativi a a quello che sembra invece prospettarsi inevitabilmente di cui il titolo della conferenza di quest'anno digitali possibili io intanto vorrei ringraziare Antonio Sant'Angelo e Antonio Vettore che sono i veri organizzatori e le vere menti di questa conferenza la conferenza poi come ricordava Carlos De Martin è stata resa possibile dal nostro staff di Nex quindi voglio ringraziare Valeria Bergantino Giovanni Garifo Giacomo Conti e last but not least Selina Fenoglietto per per l'organizzazione e non mi resta che dare la parola al al primo speaker il nostro keynote che è Emiliano Tre Re che invito a a venire Emiliano Tre Re è sociologo è reader all'università di Cardiff quindi grazie per essere venuto a trovarci dal lontano Galles Emiliano è autore tra le varie cose tra le sue molte pubblicazioni e vorrei ricordare il suo libro Hybrid Media Activism Ecologies Imaginaries Algorithms uscito nel 2020 per Outlet Emiliano Tre Re ha studiato in modo originale in modo profondo i temi della resistenza algoritmica e oggi ci parlerà di algoritmi di resistenza la lotta quotidiana contro il potere delle piattaforme credo che non ci sia un potere migliore per introdurre il tema della conferenza nello spirito che provavo a ricordare prima grazie è un piacere è un piacere buongiorno è un piacere essere qua veramente a Torino mi sembra che ogni anno io debba tornare sempre meglio quindi Torino mi porta bene è un piacere essere qua a Nessa grazie mille dell'invito a questo centro di innovazione un particolare ringraziamento a Maurizio Borghi a Marco Ricolfi a Juan Carlos Martino ovviamente a mio amico Antonio Sant'Angelo con cui ormai ci vediamo ogni anno l'anno scorso era un un lunch seminar e mitici lunch seminar con cui io mi batto da anni perché dico durante il lunch noi mangiamo non mangiamo il seminar però questo è stato un lunch seminar un po' anticipato mentre in UK i lunch seminar cavano sempre mezzogiorno una e io mi ribello per non far sì che il capitalismo doni anche quegli spazi però poi mangiano un sandwich quindi alla fine questo è un altro tema di astronomico che lascerò per un'altra conferenza grazie anche a Selina per la gestione impeccabile le tante mail che si mandano a livello amministrativo in questi in questo tipo di frangenti dunque io sono Emiliano Tererè vengo da Gales da Cardiff dove dirigo il co-dirigo il Data Justice Lab che è un centro che si occupa di critical data studies e impatto sociale dei dati e degli algoritmi e sono anche direttore di International Development quindi qualsiasi tipo di agreement che vogliamo stipulare tra l'università sono fantasticamente accetti oggi vi parlerò come penso che non ci sia mai stato un un incontro un seminario una conferenza con un tema che così si addice a quello che ho fatto negli ultimi 5-6 anni anche un po' di più e in particolare vorrei parlarvi di cioè di come ci siamo incontrati con gli algoritmi nel senso io non li ho cercati ma loro mi hanno trovato è una cosa che racconto sempre in Messico ho lavorato 5 anni come professore associato all'università di Queretaro dopo il mio dottorato e studiando il Messico che è un fantastico laboratorio tecnopolitico cioè il Messico dagli zapatisti in poi ma anche prima è un posto dove si sperimenta con le tecnologie in una maniera soprattutto dal basso in una maniera incredibile come in pochi altri posti del mondo ben prima di quello che è successo con Trump perché sembra che gli riflettori si accendano solo quando succede qualcosa negli Stati Uniti e allora di colpo ci rendiamo conto che i bots la propaganda computazionale e la destra estrema che usa le tecnologie digitali in maniera ancora più efficace dei movimenti progressisti eccetera eccetera ma nel Messico già dal 2010 si incominciavano ad usare intensivamente bots che appunto imitavano il comportamento umano per reprimere inserire contaminare il discorso pubblico il dissenso di movimenti che stavano ricominciando una nuova onda di movimenti che a partire dal 2009 2010 progressivamente stava sempre di più prendendo piede e la risposta del sistema messicano ben poco avvezzo al digitale è stata entrare nel digitale in una maniera violenta in una maniera sporca la sguerra sufia del digitale le chiamavano allo stesso tempo il progetto che lanciai nel 2011 cercava di guardare come la società civile e i movimenti soprattutto il movimento che dopo venne fuori emerse nel 2012 che è io so il 132 movimento dei studenti utilizzasse le stesse tecnologie e soprattutto appropriasse gli algoritmi per contrarrestare questo tipo di strategie sporche dall'alto questa volta invece dal basso con narrative diverse contragemoniche con altri tipi di pratiche innovative con altri tipi di usi e di pratiche e questo è quello che è incapsulato in un capitolo che scrivessi per il companion Ravledge sul digital l'activismo che è appunto questa sorta di passaggio dall'attivismo digitale alla resistenza algoritmica chiaramente il titolo è tonitruante non è proprio un passaggio bensì una fase di coesistenza di questo tipo di strategie e di dinamiche gli algoritmi sono sempre più pervasivi si diceva anche prima questi ambienti determinano sempre di più vita sociale politica e culturale l'attivismo che è sempre stato pionieristico che è sempre stato all'avanguardia ne ha preso atto e ha cominciato a creare attraverso questi attivisti algoritmici narrative per smascherare sia le strategie del governo e di altri tipi di enti e di istituzioni governativi sia trovare strategie per situare le loro narrative più efficacemente all'interno di questi tipi di ambienti e nella terza parte del libro della mia prima monografia del media activism prendevo già atto di questo nella terza nella terza sezione che è appunto dedicata agli algoritmi ecologie immaginari e algoritmi nella terza sezione c'è già questo tipo di sviluppo a partire da quello che avevo visto e anche nell'edizione ampliata latinoamericana antivismo di attico ibrido dove un po' ho ampliato quella parte che mi sembrava estremamente importante ora a proposito di incontri nel 2019 nel mondo pre-covid mi incontro con Tiziano Bonini a Siena la ragione di incontro era dare una conferenza una piccola guest lecture nel suo corso e poi andare a Siena è sempre trovare una scusa per andare a Siena è sempre ottimo e ci siamo trovati in un incontro particolarmente interessante perché io venivo dalla politica degli algoritmi e Tiziano Bonini viene dalla musica e dai sistemi di raccomandazione algoritmici che sono evoluti soprattutto in piattaforme di streaming come Spotify Tidal eccetera e l'incontro è stata una maniera inaspettata di notare che molte delle logiche che stavano diciamo succedendo stavano permeando le dinamiche dell'attivismo erano anche riscontrabili nel mondo della raccomandazione algoritmica e quindi nella sfera culturale diciamo quindi abbiamo deciso ma perché non ci mettiamo assieme visto che ci piace lavorare assieme e pensiamo in un progetto che metta assieme queste due sfere visto che ci sono logiche sottostanti simili e aggiungiamo magari una sfera importante che sembra un po' l'epitome un po' paradigmatica per quanto riguarda lo sviluppo algoritmico che è il mondo del lavoro precario il cosiddetto gig work dove l'imperativo algoritmico è ancora più chiave quindi abbiamo deciso di cominciare un progetto e di scrivere un libro su questo a partire dai dati empirici il libro si pubblica all'inizio febbraio dell'anno prossimo come MIT Press si chiama appunto algoritmi di resistenza che è il titolo del talk di oggi e qui riassumiamo questi tre ambiti perché l'idea l'idea è che stiamo appunto è qualcosa che si è detto anche nell'introduzione stiamo assistendo a qualcosa di endemico di pervasivo che in cui tutti gli ambiti della vita sociale tutte le sfere sono coinvolti facciamo un step back un passo indietro adesso per quanto prima di entrare nel vivo ora un passo indietro una delle frustrazioni che avevamo tanto io come Tiziano che in un certo senso continuiamo ad avere ecco la letteratura un po' sul più recente a cavallo di critical data studies studi sulle piattaforme che tende ad avere un'estrema una narrativa distopica molto forte ora vabbè senza entrare nei dettagli sappiamo dagli studi storici sui media che si passa attraverso cicli utopici distopici in una sorta di ondate che non riusciamo mai a essere abbastanza bilanciate dobbiamo sempre estremizzare l'uno l'altro ma è certo che soprattutto in analisi macro Sadowski Zubov si sottolinea il potere del capitalismo digitale la sua capacità di determinare fortemente le nostre vite di automatizzare le nostre scelte le nostre decisioni di gusto e di consumo e Zubov in questo libro peraltro incredibile a livello argomentativo molto molto denso molto lungo anche sostiene che la raccolta di dati e l'uso di algoritmi predittivi da parte delle aziende e delle industrie tecnologiche sia un mezzo di modificazione comportamentale che renderebbe il nostro comportamento non solo completamente prevedibile gestibile ma anche automatizzato attraverso un ordine digitale che prospera all'interno delle cose e dei corpi trasformando la volontà in rinforzo e l'azione in risposta condizionata una cosa che con Tiziano vedevamo era che c'era ben poco spazio in questo tipo di narrativa ma anche nel libro di Sadowski che è anche un libro critico molto potente però che spazio ci sia a disposizione della gente delle persone per resistere a questo potere cosa che per noi era connaturata questo potere beh questa è una cosa che è rimasta è ancora abbastanza inesplorata è abbastanza non inserita dentro di questo tipo di analisi quindi il nostro focus è sull'agency degli utenti ecco questa parola agency che in italiano è sempre la usiamo così tanto in inglese ma in italiano sempre agenzia trovi agenzia interinale agenzia suona sempre in maniera pessima agentività ce l'ho trovato altre cose ma al fine agency non è che io sia particolarmente anglofilo però agency sia perché alla fine capiamo di cosa stiamo di cosa stiamo parlando quindi l'agency degli utenti al centro è il core del libro e della nostra analisi che può essere descritta come un'esplorazione empirica e teorica dell'agency umana in relazione al potere delle piattaforme ora una delle critiche che si potrebbe muovere a questo è la solid di cadere il rischio di cadere nella solita trappola e di sopravvalutare l'agency degli utenti come in passato è successo in questi cicli storici passati o a esaltare il potere materiale delle piattaforme o dei media o invece a esaltare e a porre troppa importanza sul potere degli utenti ci si perde un buono ma il nostro interesse per l'agency non è una questione di romanticizzare l'agency o a minimizzare il potere delle piattaforme infatti il libro e tutta la nostra analisi spende molte parole e va molto in profondità nell'analisi del potere al contrario vogliamo dare una narrativa una narrazione più complessa in cui le relazioni tra utenti e piattaforme non sono né prive di attrito né mai date per scontate c'è molto più inaspettato c'è molto più attrito e frizione e problemi e continuo in rinegoziazione di quello che sembra ed è questo che vogliamo mettere in risalto spostando l'attenzione su pratiche su tattiche create dalle persone per far fronte per convivere con il potere le istituzioni e le autorità algoritmiche che pervadono la nostra società in contrasto con questi resoconti che abbiamo definito monolitici del potere spesso potenti capaci di dare di dar conto di molte dinamiche però abbastanza impermeabili esplorando invece l'agency algoritmica la resistenza anche un'altra parola chiave come vedremo dell'incontro di oggi attraverso gli ambiti del lavoro della cultura e della politica e facendo luce su come i lavoratori della gig economy e i creatori di contenuti online e gli attivisti in varie parti del mondo stiano sviluppando tattiche di resistenza algoritmica appropriandosi e riconfigurando gli stessi algoritmi che controllano e determinano sempre più le nostre le nostre vite e rivelando come le forme di agency e di resistenza siano finalmente endemiche e banali e come la società delle piattaforme sia un campo di battaglia contestato di forze contrastanti ecco questa è una è un po' la tesi del libro sono endemiche e banali banali nel senso di ordinari nel senso di quotidiane non sono più la l'eccezione non sono solo lì quando le luci si accendono su particolari mobilitazioni su particolari proteste su particolari avvenimenti sono parte sono la cifra del nostro quotidiano perché gli algoritmi pervadono il nostro quotidiano in tutte le sfere sociali dalla salute all'educazione dal lavoro a tutti gli altri ambiti quotidiani che si analizzano che si analizzano qui qualsiasi tipo di scambio culturale mediato eccetera eccetera quindi endemiche e banali quotidiani a livello metodologico un breve one pager così per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto siamo due ricercatori qualitativi io vengo dall'attivismo politico e dai social movement studies in parte e quindi ho fatto molte interviste con io e i nostri colleghi il research assistant un sacco di interviste con la società civile organizzatori soprattutto in America Latina ma anche nel mondo nell'area mediterranea per essere un progetto canadese Grecia Spagna Italia con gli attivisti nell'ambito della giga conia dove abbiamo messo in piedi un'impalcatura metodologica più sostanziosa con molte interviste a Rider volendo dare una una visione completa più o più completa possibile abbiamo inserito Italia Messico Cina India Spagna tra i paesi dove siamo riusciti ad ottenere contatti e dove il funding ce lo permetteva con osservazione partecipante all'interno di gruppi privati dovete capire che questa è una ricerca che in gran parte è stata svolta durante il Covid quindi è una ricerca dove l'immaginazione metodologica ha dovuto mettere ha dovuto sforzarsi immensamente di giostrare i vari lockdown che si aprivano che si chiudevano in una sorta di caridoscopio ibrido di ricerca si poteva fare ricerca a volte in un paese in maniera fisica offline mentre nell'altro no e quindi ha supposto una serie di problemi che meriterebbero un keynote separato a livello metodologico infine screenshot come come dati etnografici sono stati preziosissimi soprattutto in un contesto di lockdown osservazioni partecipanti infine nel consumo culturale interviste con utenti di Instagram di Spotify di Tinder quindi multipiattaforma una ricerca che necessariamente è multipiattaforma perché ci sono molti contesti sia del nord che del sub globale nei loro sforzi per ingannare per appropriare gli algoritmi di tali applicazioni e l'osservazione partecipante all'interno di vari gruppi privati online per mesi in alcuni casi per un anno questo per darvi un po' uno spaccato metodologico di quello che abbiamo fatto a livello empirico che quando lo guardo dico mi sembra che siamo un bello sforzo soprattutto considerando le ripercussioni delle covid in quel lungo periodo a livello a livello di ispirazione mi scuserete se ho messo Alessandro Manzoni in inglese i promessi sposi è uno dei libri forse il primo libro dove faccio veramente riferimento anche a letteratura letteratura che amo di scienza di science fiction di fantascienza e anche classica da De Balzac a Manzoni abbiamo lavorato tantissimo per fare degli sketch che rappresentassero che riuscissero a collegare il passato e i riots le proteste del passato con quello che si sta succedendo adesso a livello di resistenza algoritmica l'abbiamo fatto con la fiction con le narrative classiche con gli autori che ci hanno ispirato dal liceo in poi diciamo e l'abbiamo fatto anche con i film e le serie tv che amiamo in particolare Snowpiercer ha guidato un pochino il nostro il nostro cammino un film coreano stupendo che poi è diventato una serie dove il conflitto di classe domina i vagoni diversi per i marginalizzati che lottano per stare negli altri ma in un mondo che ormai è andato dove si cerca una soluzione ricorda molto il cammino che abbiamo intrapreso verso il collasso The Wire non ha bisogno di presentazioni probabilmente la più grande serie mai realizzata da sociologi fra l'altro da colleghi dalla quale abbiamo attinto molto per un discorso di moralità che domina e di economie morali che è uno dei framework del libro The Wire è un affresco sulla moralità dei criminali e dall'altra parte di una giustizia sempre più precaria e sempre più corrotta Elysium per questa cosa utopica questo afflato utopico di resistenza è Dune un altro grandissimo classico di cui dovremmo aspettare il secondo episodio la seconda entrega l'anno prossimo a marzo sembra però anche un libro fantastico pieno di spunti soprattutto per pensare la resistenza in sé soprattutto adesso del conflitto soprattutto in quella Dune anche delle sfumature incredibili per riflettere sul Medio Oriente è un'incredibile opera che continua a darci molti suggerimenti per il presente adesso giusto per riassure un po' volevo anche dire un libro del genere 4-5 anni di lavoro hai sempre un'impalcatura metodologica solo per spiegarla ci metti mezz'ora a livello teorico di più perché chiaramente l'ambizione è riuscire a dare un quadro concettuale che spieghi quello che sta succedendo che è una cosa molto multidimensionale a diversi livelli che non c'è chiaramente il tempo qui di approfondire ma per darvi un'idea del pantheon di autori che tocchiamo sia classici per concezione di potere sia o per tattiche strategie e per banalità di queste forme di resistenza quotidianeità con i classici sia a livello delle bias delle distorsioni e dei problemi a livello di discriminazione e di diseguaglianze che provoca l'AI abbiamo autori più moderni e autrici fantastiche che hanno negli ultimi anni posto l'accento e analizzato concretamente questo tipo di diseguaglianze e di problemi in tutti loro ci speriamo cercando appunto di contribuire e di in un certo senso di rinnovare questo tipo di riflessioni e di mappare criticamente il campo per poi poter andare avanti e riflettere in particolare per l'agency Giddens Coldry Neff e Negy per un discorso di agency simbiotica tra noi e le macchine che vedremo adesso in un secondo per una classica definizione di agency di Giddens che ci sembra che rimanga assolutamente pregnante per il concetto di resistenza contribuiamo a tutti gli studi sulla resistenza che degli ultimi anni che aggiornandoli diciamo o tentando di aggiornarli all'epoca delle piattaforme un altro concetto che abbiamo sviluppato è quello di solidarietà algoritmica soprattutto tra lavoratori che non ci sarà tempo di sviluppare purtroppo qui ma che sarò lieto di dare più tipo a riguardo l'economia morale come dicevo influenzati da Thomson e da Scott che pervadono che pervadono il libro insieme alle tattiche e alle strategie con ispirazione nel desertore il suo classico e in quelli che hanno poi provveduto diciamo ad aggiornare lo stesso desertore e per quanto riguarda politica e attivismo algoritmico mi rifaccio molto alla mia esperienza quando parlavo già di resistenza algoritmica nell'ambito messicano e poi nei lavori di Mali e di Milan nell'ambito dei dati dell'attivismo dei dati che è una fertile strange una parte della letteratura sull'attivismo che è particolarmente vibrante particolarmente vivace negli ultimi anni e infine un po' di immaginazione algoritmica con riferimenti a tutto il campo dell'immaginario che mi ha sempre ispirato ora vedrete che ci sono tre parole che sono in rosso perché nell'ambito di tutta l'impargiatura concettuale che è molto densa e che non si potrebbe coprire diciamo in un chino di 40 minuti ho evidenziato le tre parole che mi sembra che stiano animando che sono anche nel titolo della conferenza quindi resistenza attivismo immaginazione con i futuri possibili nell'ambito algoritmico e questo è quello di cui vi parlerò in cui metterò enfasi cominciamo però con agency agency algoritmica per arrivare alla resistenza l'agency secondo la definizione di Giddens la capacità degli esseri umani di fare la differenza nel mondo di esercitare una sorta di potere che Codri complementa con i processi di situazioni più lunghi basati sulla riflessione che danno senso al mondo in maniera di agire al suo interno la concezione simbiotica di agency di Neff e Naghi che pone l'accento sul fatto che l'agency è co-costituita in interazioni complesse tra la società e la tecnologia riunendo queste tre concezioni arriviamo a pensarla come la capacità riflessiva degli esseri umani di esercitare un potere sul risultato di un algoritmo output di un algoritmo agency umane e infrastrutture algoritmiche si plasmano a vicenda c'è questo mutual shaping concepiamo quindi nel libro le infrastrutture algoritmiche come Giddens ha concepito la struttura sono il mezzo e il risultato della condotta che si organizza di forma ricorsiva la capacità riflessiva degli esseri umani di poter esercitare questo potere e tuttavia questa agenzia simbioticamente è iniziata nell'ambiente in cui viene esercitata le persone esercitano la loro agency agendo su determinati output algoritmici e contemporaneamente reagendo ad essi perché c'è questa capacità nell'algoritmo sempre di aggiornarsi ma anche l'agenzia umana ritorna e vedremo anche la resistenza in forma ricorsiva e sempre simbiotica e questa relazione avviene entro i confini delle possibilità offerte dall'infrastruttura algoritmica del cosiddetto affordances algoritmico di quello che loro ci permettono di fare ma che allo stesso tempo noi esseri umani plasmiamo è ovviamente un approccio che evidenzia il complesso intreccio tra l'agency umana e l'intelligenza artificiale continua negoziazione e continua plasmarsi iterativo e simbiotico ma l'agency non è non c'è un totale overlap no? una coincidenza con la resistenza le manifestazioni le manifestazioni di agency che descriviamo nel libro si muovono lungo un continuum come amiamo come amiamo i continua i sociologi nessuno il continuum di agency che descriviamo quindi che va da forme di agency che resistono in forma aperta al potere delle piattaforme a altre forme di agency che non hanno invece nessuna intenzione di metterlo in discussione perché se no sarebbe un po' naif pensare che si tratta sempre di resistenza e quindi per concettualizzare la resistenza ci facciamo ai fantastici lavori di Hollander e di Einhauer di Ballas di Bath che hanno ripreso concettualizzazioni anche antiche fucoltiane e li hanno ripresi li hanno aggiornati li hanno hanno aggiunto complessità e siamo arrivati a una concezione di resistenza algoritmica come un atto eseguito da qualcuno che sostiene una posizione subalterna o da qualcuno che agisce per conto di o in solidarietà con qualcuno in questa posizione subalterna e risponde il potere attraverso tattiche e dispositivi algoritmici quindi c'è per esercitare una resistenza bisogna avere un agency però non sono la stessa cosa e sono secondo un continuum di diversi tipi di orientamenti più o meno espliciti più o meno apertamente in opposizione quindi agency resistenza e adesso un altro tassello che è a cui dobbiamo entrare attraverso la politica algoritmica quindi abbiamo fatto per fare un breve mic up veloce nel mezzo svolta infrastrutturale e limiti del potere delle piattaforme algoritmi che agersi come capacità riflessiva nostra di far funzionare gli algoritmi per i nostri scopi per le nostre esigenze terzo punto viviamo in un mondo dove la politica è diventata politica algoritmica non è più un qualcosa di strano non è più qualcosa di diciamo saltuario è diventato qualcosa che fa parte dello stesso core del modus operandi della politica contemporanea e riguarda il modo in cui diversi gruppi esercitano la loro agency algoritmica appropriandosi degli algoritmi e agendo su di essi per raggiungere obiettivi di tipo politico quindi è pervasa negli ultimi anni alcuni parlano di computational politics però alla fine credo che politica algoritmica renda molto bene questo tipo di nuova maniera di fare la politica dentro la politica algoritmica come sotto come subset come sotto insieme c'è l'attivismo algoritmico che è la cosiddetta contentious politics che credo si traduca come politica contenziosa adesso lei hai mi ha aiutato speriamo che abbia sono sempre più sofisticati ma l'agency umana ha un suo perché che riguarda la maniera in cui una serie di attori tra cui attivisti movimenti sociali attori della società civile si impegnano e agiscono sugli algoritmi per raggiungere obiettivi politici e per seguire cambiamenti sociali uso il plurale perché mi piace di più che social change solamente cambiamenti sociali questi tipi di attivisti che usano gli algoritmi che abitano questi mondi algoritmici possono anche sfruttare tatticamente queste opportunità per promuovere idee conservatrici razziste di estrema destra e questo non è affatto una novità c'è stato sempre una sorta di bias da parte degli stessi movimenti per una serie di ragioni a guardare a studiare a esplorare più tattiche da parte di movimenti per l'emancipazione in aree progressiste però abbiamo visto che gran parte delle tattiche digitali di successo estremamente potenti sono arrivate dall'altra parte in questo caso abbiamo parlato di agnosticismo della politica algoritmica perché non importa in questo senso spesso appunto vengono sono assolutamente efficaci le maniere che abbiamo visto a partire da Trump ma anche sono ultimamente sembra dominare lo scenario quanto forse razziste xenofobe e misogene riescano a dominare l'ambito digitale in maniera efficace gli algoritmi quindi appaiono come repertorio il repertorio è un concetto un repertorio di contention il repertorio è un concetto chiave degli studi di movimenti sociali usatissimo che in sostanza vuole dire che nell'ambito dei tools degli strumenti di lotta che i movimenti hanno gli algoritmi hanno la capacità di appropriarsi di dominare le narrative e di riuscire a capire come funzionano per avere più visibilità perché la visibilità è la merce che si scambia online fanno parte entrano a far parte del repertorio di azioni dei movimenti quindi c'è una linea dagli studiosi classici Tilly eccetera eccetera dei movimenti che arriva fino a quelli che studiano le piattaforme adesso come il You e hanno aggiornato il concetto di repertorio all'epoca delle piattaforme gli algoritmi possono essere sia stakes temi che repertori come mostrano Berardo e Milan nel senso che possono essere sia in proteste più tradizionali i temi contro la facial recognition contro i per esempio pensiamo all'inquinamento dei sistemi di dati algoritmici le proteste più tradizionali contro questo tipo di sistemi a questo tipo di proteste si affianca l'utilizzo come strumenti nel repertorio dei movimenti e quindi l'utilizzo degli algoritmi come repertorio sono due cose che coesistono coabitano stakes and repertoire il tutto per ottenere una visibilità algoritmica e per ottenere quello che gli studi dei movimenti sociali chiamano l'agenzia narrativa la capacità dei movimenti di raccontarsi di importare nella sfera pubblica e di narrarsi conforme al loro tipo di narrative e non di farsi narrare da altri attraverso capacità di stabilire l'agenda capacità di anche coltivare identità collettive online eccetera eccetera organizzare tutte le dimensioni che sono possibili che adesso sono filtrate attraverso un ambiente profondamente pervaso dagli algoritmi e vogliamo parlare così per concretizzare un attimo di tre tipi di logiche amplificazione algoritmica evasione algoritmica e quello che si chiama algoritmica hijacking tradotto qui come dirottamento che interessante il spagnolo non lo traduceva come sequestro algoritmico anche quello potrebbe essere interessante comunque ci capiremo in un secondo così entriamo un po' nel vivo l'amplificazione algoritmica la più classica delle dinamiche nell'ambito dell'attivismo in specifici contesti gli attivisti li integrano soprattutto l'hanno fatto ed è stato studiato su twitter adesso x non si può neanche più dire twittare perché adesso con x non si riesce a capire cosa si fa con x si x non so comunque si twittava e si creavano hashtag in diversi ambiti nell'ambito c'è questo libro molto bello sull'economia di t press che si chiama hashtag activism di jackson baby wells che racconta come black lives matter sia riuscito a farlo in maniera sistemica sistematica riconfiguring rifiguring democracy fenstra e altri lo raccontano con il 15m come riuscivano a creare in forma sistematica per mesi a creare in maniera collettiva cosa che racconto anche in uno dei capitoli del mio libro rifacendomi un po' al loro studio però con altri tipi di insight empirici il brainstorming collettivo la creazione di narrazioni e la capacità di sapere come situarli come dominare la sfera pubblica online che poi viene ripresa in maniera pari pari e poi dopo estesa poi dopo ampliata in un ambiente più ibrido da parte di Podemos per esempio subito dopo delle varie maree e adesso è diventata far parte del toolbox politico in Spagna e oltre chiaramente di tutti i movimenti anche più istituzionalizzati dall'alto però che qui viene messa proprio qui nasce a partire 2010-2011 ha questo sviluppo chiaramente anche l'algoritmo stesso evolve e si cambia però qui si inizia veramente a amplificare il messaggio attraverso dell'algoritmo l'amplificazione può paradossalmente anche essere qualcosa che si fa per amplificare la visibilità di qualcuno per danneggiarlo quindi per danneggiare l'immagine pubblica di qualcuno come nel caso di Reddit e di Trump con l'associazione voluta della parola di American Idiot con Trump nella maniera in cui trovare un motore di ricerca e cercare Trump associasse immediatamente la parola Trump a quella di idiota americano durante questa cosa che si può fare grazie alla capacità di provare a farlo e di vedere cosa succede fino a capire che si può agire e si può danneggiare l'immagine di qualcuno sbeffeggiarlo attraverso un'amplificazione di questo tipo l'evasione invece ha a che fare con maniera in cui si possono aggirare linee guide di moderazione delle piattaforme un esempio chiaro sono i gruppi antivaccini che usano varianti lessicali per evadere il rilevamento algoritmico e il blocco dei contenuti e quindi riescono a diffondere e a creare Asperg neutrali e vaccini per diffondere disinformazione online antiscientifica è stato dimostrato che le pratiche degli strateghi anti-bug sono sempre adattate alla specifica piattaforma per esempio su Facebook si forniscono link alla disinformazione sulle vaccinazioni nella sezione dei commenti piuttosto che nei posti originali perché si è visto che hanno più diffusione su Instagram si sviluppano strategie di contenuti effimeri che includono contenuti anti-vax nelle storie piuttosto che nei feed oppure si affidano a un linguaggio codificato usando parole come tossine o metalli per disegnare i vaccini e volare sotto il radar della moderazione di Instagram che si aggiorna continuamente ma che non può riuscire ad aggiornarsi in tempo anche i gruppi a favore dei disturbi alimentari su Instagram hanno usato in maniera diciamo con molto successo questo tipo di strategie aggirando la moderazione dei contenuti e il divieto di Instagram per alcune parole come proana eccetera anoressia eccetera eccetera e al blocco dei risultati di alcune ricerche a partire da più di dieci anni fa e questo ha portato alla proliferazione delle cosiddette varianti lessicali dei tag vietati per ingannare il controllo algoritmico e una recente ricerca ha mostrato come il divieto di Instagram abbia peggiorato la situazione perché quelle nuove varianti hanno avuto una portata maggiore di quelle che erano state pensate per sostituirle diffondendosi anche in un'altra ecologia di piattaforme come su Tumblr e Twitter quindi evadere il controllo delle piattaforme per riuscire a diffondere dei messaggi evasione algoritmica oppure aiudere la censura della moderazione automatica di Twitter il cosiddetto dog whistling portato all'ambito online l'uso di una terminologia e di simboli che hanno un significato per un pubblico più ampio ma che acquisiscono un significato diverso per certi tipi di pubblici usatissimo per parlare direttamente ai suprematisti bianchi soprattutto negli Stati Uniti e per utilizzare forme di razzismo e di odio nei confronti di afroamericani di musulmani e di altri gruppi per diffondere contenuti razzisti xenofobi che sfuggono ai meccanismi di rilevamento algoritmico di Twitter allo stesso tempo un linguaggio vernacolare specifico è stato usato in altri casi come per esempio nell'ambito turco per viaggiare sotto il radar della censura turca online usando paragoni stili varianti lessicali e codici che sfuggono ai censori ma che invece risuonano e hanno questo tipo di capacità di alleanza invece con il pubblico che invece è più avvezzo a questo tipo di codici culturali o schemi o varianti lessicali infine il cosiddetto dirottamento dicevano vedete qui i puffi in questa variante di smarts defunding the police gli hashtag vengono usati spesso per diffondere contenuti non correlati spanno sentimenti negativi questa è una cosa che in Messico ho notato dal 2010 che è stata studiata per inserire rumore inquinare dicevano pratiche di protesta legittima e che sono state poi studiate e poi anche contrarrestate dagli stessi attivisti attraverso analisi complesse di social network che evidenziavano come molte zone attraverso analisi di rete fossero impossibili da creare attraverso relazioni autentiche tra umani erano troppo veloci e quindi dovevano essere automatizzati li chiamavano cancri digitali erano zone dei cluster che venivano denunciati si cercava di evitare attraverso di conti tipo di diciamo pratiche contra egemoniche online degli attivisti sono sempre più sofisticate ma ultimamente sono state usate moltissimo dagli attivisti stessi per dirottare tipi più ufficiali di hashtag su twitter soprattutto da parte per esempio della polizia la campagna My New York Police Department descritta nel libro che citavo prima di Jackson e Tuchel Wells segue il lancio di questa campagna di pubbliche relazioni da parte del grande dipartimento di polizia di New York che viene invece dirottato viene colonizzato dagli attivisti per portare avanti invece un tipo diverso di narrativa per la giustizia sociale per defund the police cioè togliere soldi alla polizia e metterli in altri tipi di opere per il welfare per esempio o altri tipi di azioni i fan del K-pop adesso penso che la Corea sia all'avanguardia di questo tipo il Sud Corea sia all'avanguardia di questo tipo di pratiche gli idoli della musica sud coreana sono tra quelli che utilizzano in maniera più sofisticata le piattaforme digitali lo fanno anche quando vogliono al sostegno di cause di giustizia sociali ad hoc intervenendo quando serve recentemente per il Trump Trump ha generato più casi di dirottamento algoritmico di manipolazione che credo che chiunque altro nella storia e quindi viene attaccato in certi casi dirottando l'hashtag o facendo flooding il classico inondazione positiva come in questo caso anche ironica che si appoggia al linguaggio ironico dei meme o di altri tipi di device narrativi che vengono utilizzati per sdrammatizzare per togliere per cambiare la narrativa infine non è un discorso solo di Ashtag perché negli Stati Uniti molti agenti di polizia usano musica protetta da copyright con i loro telefoni sempre di più durante i tentativi di essere registrati dagli attivisti nel corso degli incontri è una maniera di evitare accountability suonando un pezzo di Taylor Swift o in questo caso il mitico Santeria dei Sublime un gruppo reggae favoloso negli Stati Uniti se vedete online sono degli esempi fantastici nel momento in cui vengono registrati il witnessing attivo con un telefono cellulare parte la controffessiva dell'agente di polizia l'algoritmo nel momento in cui vogliono mettere online i contenuti l'attivista viene bloccato perché è un contenuto protetto da copyright che non si può pubblicare per esempio su Youtube e quindi si nega la possibilità di avere quel contenuto in streaming così in maniera automatica è un po' quasi ironico anche un po' drammatico forse vedere un'agente di polizia che lancia una surreale direi diciamo linciano che lanci questo contenuto però è una tattica una strategia algoritmica che viene implementata e questo ci dà anche la cifra di quanto sia indemico pensare a queste cose perché quanto sia quotidiano e banale negli atti anche più comuni e quotidiani in questo caso che hanno a che vedere con rendere accountable un'agente di polizia e l'autorità qualche take away sull'attivismo algoritmico prima di andare verso le conclusioni non è solo un attivismo da hashtag dicevo perché opera attraverso un'ampia varietà di piattaforme di dispositivi e di domini sociopolitici è agnostico nel senso che non ha a che fare tanto con movimenti razzisti e xenofobi che sono molto efficaci nell'usare questo tipo di piattaforme e regimi oppressivi sia da collettive radicali per il cambio sociale e per la giustizia sociale ed è soprattutto quello che dicevo prima per ricollegarmi all'incessante lotta tra strategie e tattiche questi meccanismi possono essere usati dall'alto dal basso e sono continua è una continua negoziazione è una continua soprattutto aggiornamento perché una cosa che l'algoritmo fa è cambiare una cosa che facciamo noi è cambiare le nostre pratiche in risposta in continua interazione simbiotica come dicevo e l'ultima parola chiave dell'evento era immaginazione algoritmica l'immaginazione come orizzonte dell'azione creatrice di mondi ho sempre pensato e riallacciandomi ai teorici dell'immaginazione o dell'immaginario i grandi Taylor a Castoriadis a Mosco all'immaginazione e cerco anche con i miei studenti soprattutto nel corso che ho su su Black Mirror e la cultura digitale che è quello di cui vado più orgoglioso che è una scusa per vedermi delle serie e riflettere su di loro non c'è niente di meglio di avere un lavoro dove vedi delle serie televisive e ti pagano per riflettere su di loro credo che sia un lusso e un privilegio lavorare nel mondo della conoscenza e poter vedere questi capolavori e allo stesso tempo invitarli a vedere l'immaginazione non come qualcosa che vive in una sorta di perurania separata dal mondo reale ma come immaginazione come qualcosa di concreto come qualcosa che funge da orizzonte dell'azione e crea la nostra realtà senza immaginazione non c'è possibilità di creare altri futuri possibili non c'è neanche vera conoscenza algoritmica senza un immaginario algoritmico favorevole tutti i casi in breve che sono il 5% dei casi che abbiamo nel libro chiaramente manca tutta la parte geek walk manca tutta la parte influencer che è massiccia però per darvi un'idea sarebbero impossibili senza un'immaginazione algoritmica che ci fa pensare che questo tipo di tecnologie possono essere al nostro servizio e non solamente al servizio delle istituzioni non solamente al servizio dei governi non solamente al servizio delle corporation nelle parole di Booker che ha scritto un libro molto bello sui algoritmi if then conosco l'university press il modo in cui le persone immaginano percepiscono esperimentano gli algoritmi e ciò che queste immaginazioni rendono possibile è l'immaginario algoritmico cioè non c'è nessuna pratica e tutto quello che abbiamo descritto senza un'immaginazione che ci fa pensare che per esempio gli algoritmi possono essere un'opportunità politica sociale culturale come chiamiamo e non solo il dominio di altri di altri tipi di attori l'immaginazione metodologica ve ne ho parlato brevemente prima è un'immaginazione che in metodologia l'immaginazione è fondamentale immaginare anche metodi per studiare questo tipo di pratiche è una cosa continua e per studiarli in un ambiente profondamente problematico come il covid è stato veramente una rocca quindi c'è anche una sezione nel libro specifica su come questa immaginazione sociologica è stata sperimentata sia in ambito metodologico che teorico e tecnologico l'immaginazione di un futuro infatti quello che faccio fare ai miei studenti è va bene create il vostro episodio di black mirror però voglio che me lo rendiate utopico voglio che pensiate a come sarebbe questo episodio se invece di avere un dark twist il classico diventare qualcosa di profondamente distopico che ci danneggiasse fosse al nostro servizio perché neanche le utopie gli studi utopici dicono che le utopie sembrano sempre questi posti rosi tutti bellissimi tipo locus a memus invece anche le utopie sono molto pervase da complessità però cercate di pensarlo come qualcosa che è un beneficio per l'umanità e quindi fare questo esercizio è fondamentale per non essere completamente catturati catturati dalle narrative distopiche dominanti per creare quello che dicevano prima questi futuri algoritmici alternativi e per andare verso nuove utopie che dicevo che non sono appunto questo ideale di locus a menus ma sono pervase da complessità da problematiche ma almeno ci spingono a pensare a qualcosa di diverso a qualcosa in cui possiamo riappropriare la nostra agency e metterla al servizio di un'umanità migliore da giustizia sociale e di un tipo diverso di società ora un po' di speranza no? questi film ci raccontano una storia millenaria dove c'è potere c'è sempre una parte dell'umanità che si solleva per resistere il libro è pervaso da una concezione del potere profondamente fucoltiana nel concepire il potere e la resistenza come due facce della stessa medaglia non in maniera naif perché questo potere e questa resistenza non sono né equilibrati né cerchiamo appunto come dicevo all'inizio di portare questa vena romantica a tutt'altro però è vero sono parte della stessa della stessa sfera quando anche questo potere sembra invincibile come quello dell'imperio in Dune o dei ricchi cittadini se avete visto Elysium o del metaverso di Zuckerberg è successo in passato ogni giorno continuerà a succedere su Arcaris sul satellite Elysium tra cento mille anni speriamo tra mille anni sebbene siamo immersi in questo ecosistema profondamente mediatizzato viviamo in una vita dove gli algoritmi ci pervadono non è mai un rapporto privo di attriti non è mai un rapporto dove non c'è non ci sono resistenze endemiche continue simbiotiche e quindi il rapporto che abbiamo con gli algoritmi è già ed è già profondamente problematizzato e lottato e conflittivo e c'è una caratteristica anche comune che volevo enfatizzare che raramente l'agency algoritmica viene esercitata in solitudine lo è anche in forma individuale ma il singolo individuo la esercita ma è più efficace più effettiva porta alla creazione di nuove policy di sindacati di alternative di spinte di cambi nelle politiche di cambi nei governi in alcuni casi se è collettiva quindi cooperazione è un'altra parola chiave solidarietà algoritmica è un'altra parola chiave se ha la capacità di gestirla di spingere collettivamente ed è quando più efficace quando più riesci a intaccare la governance algoritmica e a differenza della resistenza rivoluzionaria che tende a funzionare con il rifiuto e il rovesciamento della resistenza rituale ci dicono Stuart Toll e Tony Jefferson consiste nell'uso e nell'adattamento e tali forme di resistenza non sono necessariamente destinate a rivoluzionare le strutture di classe nel senso di un'inversione diretta bensì sono forme potenziali non date ma fatte e crediamo che come la resistenza rituale la resistenza algoritmica rimane un processo di negoziazione continua piuttosto che una soluzione al potere delle piattaforme non meno che possa avvenire un rovesciamento radicale ma quello che stiamo osservando è una resistenza rituale simbiotica continua iterativa l'altra faccia continua della medaglia che deve essere assolutamente analizzata deve essere assolutamente coltivata e che potrebbe portare a un rovesciamento più radicale dell'esistente ci sono continuità e somiglianze tra la formazione della classe operaia industriale e la formazione della cosiddetta classe operaia platformizzata nella lunga durata del processo di industrializzazione questo tipo di fenomeni che ho descritto di cui ho dato conto rappresentano forse l'ulteriore etapa di questo lungo processo di industrializzazione chiaramente con tempi che come si diceva anche nell'intro prima sono estremamente più veloci estremamente più rapidi estremamente più accelerati perché i lavoratori e gli utenti sono plasmati dalla piattaforma e si danno anche forma a questo processo attraverso le loro forme di resistenza e le loro forme di agency citiamo molto che utilizziamo molto il libro storico della formazione della classe operaia inglese di Thompson che mostra come i contalini delle campagne e gli artigiani delle città siano stati industrializzati tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo lasciarono gradualmente le campagne le cui terre erano state recintate e privatizzate per essere impiegate nel nuovo ciclo di produzioni industriali e gli artigiani abituati a lavorare in piccole botteghe o nelle proprie case abbandonarono gradualmente i loro luoghi di lavoro nella seconda parte del diciannovesimo secolo il processo di industrializzazione del lavoro nel UK nel Regno Unito era ormai maturo e in modo simile potremmo dire che oggi tutta una serie di attività che prima venivano svolte online sul web e offline nel mondo degli atomi sono sempre invece più piattformizzate e descritte anche da molti autori come il continuamento e il culmine di questo tipo di processo e l'obiettivo è anche quello di mostrare che queste categorie di utenti e di lavoratori digitali hanno in comune una cosa la capacità di migliorare faticosamente le proprie condizioni di lavoro di organizzare forme di azione collettiva di costruire legami forti di solidarietà di fronte allo sproporzionato potere computazionale che hanno le aziende tecnologiche a prescindere dal proprio status di classe migliaia di corrieri che consegnano cibo a domicilio dopo essersi incontrati in chat private hanno iniziato a organizzare scioperi non autorizzati a fondare nuovi sindacati a decidere di disconnettersi definitivamente per fondare piattaforme cooperative basate su codici morali alternativi a quelli delle piattaforme commerciali invertendo e riconfigurando queste logiche e le persone hanno iniziato a capire che il potere computazionale nelle mani delle piattaforme può essere contrastato solo unendo le forze e mettendo in comune le nostre conoscenze il nostro tempo le nostre risorse economiche il potere computazionale può essere affrontato solo attraverso la cooperazione l'aiuto reciproco e la solidarietà di cui parlano non so perché mi ha tagliato e le piattaforme infine sono questo campo di battaglia in cui le persone e diversi attori ci piace la metafora della danza simbiotica con gli algoritmi un tango abbiamo parlato di un tango nel libro con gli algoritmi a volte danziamo con loro ci alleiamo temporaneamente in negoziazioni in alleanze bella anche questa parola molto utilizzata in antropologia le alleanze algoritmiche a volte ci scontriamo con loro a volte perdiamo a volte vinciamo però dobbiamo continuare a immaginare e attraverso quell'immaginazione a praticare tipi di alleanze diverse per futuri diversi perché germogliano nuovi tipi di futuri possibili e a cercare di farlo in un momento estremamente permeato da narrative distopiche che dovremmo cercare in un certo senso di invertire imparare da questo ma anche cercare di avere nuove utopie possibili perché questo mi sembra fondamentale è una cosa che è sottolineata dai critical data stradie dagli studi di piattaforme dagli STS dagli studi su distopie dagli studi su immaginare immaginazione c'è questa linea che ci pervade ne abbiamo bisogno perché da quell'immaginazione come qualcosa di creativo come qualcosa di pulsante come orizzonte dell'azione possono nascere nuovi futuri e queste pratiche seppur a volte non orientate alla resistenza seppur minuscole seppur endemiche o banali in alcuni casi non lo sono affatto però anche quando lo sono sono crepe in un sistema sono avvisaglie sono indizi e quindi dovremmo imparare dobbiamo studiarle e dovremmo anche innaffiarle in un certo senso coltivarle e vedere cosa succede perché ne abbiamo veramente bisogno e qui chiudo e vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'invito economico grazie 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 Emiliano per questo keynote per aver inquadrato la questione della resistenza algoritmica per aver dato una una visione e anche una speranza nella parte finale grazie quindi adesso inviterei i partecipanti del primo panel dove cominciamo a calare questa questa prospettiva di resistenza algoritmica nel nostro ambiente quindi il primo panel è dal titolo La città e l'ambiente invito quindi Alessandra Quarta che sarà l'acceo al panel e Francesca Martinelli Vanna Paes e Dario Padovani buongiorno sentite buongiorno a tutti e tutte continuiamo la mattinata con questo panel che come vedremo ci consente di declinare alcuni degli elementi che abbiamo visto nella relazione precedente nella dimensione interna e direi anche sulla scala locale sulla scala diciamo delle città questo panel ha il titolo La città e l'ambiente potrebbe sembrare un po' lontano dal tema generale della conferenza ma come vedremo con le nostre relatrici e il nostro relatore in realtà siamo pienamente dentro il tema del digitale possibile delle forme di resistenza di alleanza e di cooperazione osservate da una particolare prospettiva e cioè quella dell'impatto che le tecnologie le piattaforme hanno sulla dimensione locale sulla dimensione delle nostre città dove effettivamente è possibile diciamo verificare diversi di questi effetti implicazioni rischi pericoli ma anche opportunità come abbiamo detto prima che le tecnologie possono offrire non c'è dubbio che la città diciamo sia uno dei laboratori più interessanti per osservare molti dei profili che stiamo discutendo vuoi perché la gran parte della popolazione mondiale adesso non ricordo i numeri abita nelle città e quindi sicuramente diciamo c'è un uso massiccio delle tecnologie e anche la possibilità di sviluppare meccanismi di cooperazione sociale di risposta e di usi diciamo controegemonici sia anche perché diciamo possiamo ragionare io credo in un'ottica alternativa a un tema che invece è solitamente dominante quando si parla di città e tecnologie perché generalmente pensiamo al rapporto tra città e tecnologia nella chiave della smart city definizione su cui non è che ci sia una grande unanimità però anche in questo ambito siamo abituati a pensare al ruolo delle tecnologie nella città come dispositivi di controllo accaparramento di dati forme di sorveglianza allora quello che vedremo questa mattina sono sia diciamo questo lato della medaglia ma anche per l'appunto un altro di possibilità e di opportunità l'altro termine che compone questo panel è appunto ambiente importantissimo è spesso trascurato c'è forse un lato che male emerge nei discorsi sulle tecnologie o che emerge diciamo con difficoltà e che riguarda l'impatto ambientale che le tecnologie hanno è un discorso che il capitalismo della sorveglianza sembrerebbe aver eliminato mentre a proposito del capitalismo industriale abbiamo sviluppato un ragionamento uno studio sull'impatto ecologico ambientale che lo sviluppo industriale determina per quel che riguarda il mondo delle tecnologie e delle piattaforme digitali questo tipo di analisi sembrerebbe mancare e invece rilevantissimo non soltanto se andate a guardare il report che vengono pubblicati dalle stesse grandi piattaforme è facile vedere come i consumi ma anche l'impatto delle loro attività sull'ambiente sia particolarmente rilevante ma pensate anche ai consumi di energia derivanti dall'uso delle criptovalute bitcoin eccetera eccetera quindi sono elementi per l'appunto che faticano ad emergere e che invece sono rilevantissimi nella diffusione delle tecnologie e delle piattaforme digitali presento i nostri ospiti presento anche me stessa perché non l'ho fatto all'inizio sono Alessandra Quarta sono una giurista dell'Università di Torino del Dipartimento di Giurisprudenza qui con noi oggi ora ve li presento in ordine alfabetico poi in realtà l'ordine delle relazioni che abbiamo deciso insieme sarà diverso Francesca Martinelli alla mia destra che è direttrice della fondazione Centro Studi Doc e ha tante altre cariche che in realtà qualificano quello che poi e descrivono bene quello che è il suo impegno e i suoi interessi di lavoro e ricerca è anche vicepresidente di Culture Media Lega Pop Francesca ha molto lavorato nell'ambito dei modelli innovativi di cooperazione e sui rapporti tra innovazione digitale e cooperative abbiamo poi Dario Padovanti un collega dell'Università di Torino sociologo Dario ha molto lavorato sui rapporti tra natura e cultura ambiente e società anche calati nella dimensione urbana e poi ancora alla mia destra Ivana Pais che è una sociologa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si occupa di economia di piattaforma lavoro digitale adesso sta molto lavorando sulle piattaforme di welfare quindi insomma anche lei come vedete diciamo ha questo focus sull'uso delle tecnologie e delle piattaforme digitali anche nelle relazioni urbane e sui rapporti quotidiani io non dico altro lascio subito la parola a Dario per il primo intervento come diciamo useremo un approccio dal generale al particolare quindi avremo una prima relazione quella di Dario Padovan che rifletterà sui rapporti tra socioecologia e tecnoecologia quindi in chiave per l'appunto di relazione tra tecnologia e ecologia ambiente e poi proseguiremo andando via via sempre più nei dettagli Dario a te la parola buongiorno a tutti e a tutte sono felice di essere qua non mi conosco alcuni di voi ma insomma ero sono stato catturato in questa giornata in questo incontro proprio sui temi della di rimpatti ambientali e di rimpatti ecologici nella tecnologia in un periodo in cui ci stiamo molto preoccupando di quelle che sono le conseguenze di varie attività sulla come possiamo proprio sulla salute del pianeta mettiamola così allora io mi occuperò soprattutto non tanto della parte come dire di software del sistema digitale e comunque della tecnologia quanto della sua dimensione fisica la sua dimensione materiale cioè a volte credo che dobbiamo anche ricordarci che gli algoritmi ovviamente le informazioni i dati sono trasportati da parti fisiche ed è quello che a volte come dire viene a mancare quando c'è la necessità di confrontarci con quello che è l'enorme sviluppo della tecnosfera peraltro anche la parte fisica della della tecnologia comprese la parte fisica delle tecnologie digitali dovrebbe essere anche interessante dal punto di vista della resistenza proprio volevo fare proprio solo questa sottolineatura perché tre reti come dire ha chiuso citando il testo di E.P. Thompson su farsi della classe operai che inizia proprio con delle riunioni clandestine da parte di artigiani e operai che si accorgono per distruggere le tecnologie che stanno impiantando cioè è l'inizio del ludismo ora l'udismo non è che si preoccupasse degli algoritmi anche perché non c'erano all'epoca però si preoccupava di incendiare le macchine automatiche che stavano sostituendo lavoro ora voi capite allora che il problema del rapporto con la tecnologia non è solo un problema di convivenza è un problema di conflitto aperto è un problema di opposizione è un problema che laddove questa come dire poi sia stato che le opposizioni siano state superate ovvio che si è dinamizzato un processo laddove le resistenze sono state tolte quando ragioniamo su quella che è il periodo che qualcuno ha chiamato il periodo della lunga profonda transizione dal feudalesimo al capitalismo noi sappiamo quanto il ruolo della tecnologia abbia giocato in questa direzione ma quanto anche gli oppositori i resistenti abbiano visto in quella dinamica un fondamento al quale opporsi e soprattutto quella che è la sua dimensione di materialità cioè di gestione concreta e quotidiana del potere quando ragioniamo in termini anche di rapporto con la natura intesa come sistemi ecologici io parlo di natura inteso come pianeta nella sua globalità credo che il fatto di sottolineare minimamente quella che è la relazione tra un immaginario tecnologico che ci è stato venduto negli anni e quelle che sono gli esiti reali di questo immaginario ci mette subito di fronte a quella che è una aporia potente ci hanno promesso risultati quello che è emerso è un disastro che sta correndo come dire e in maniera accelerata verso io non voglio parlare di catastrofe di sicuro gli obiettivi posti non sono stati raggiunti perciò quando noi ragioniamo su quelle che sono le potenzialità risolutive della tecnologia applicate per esempio ai cambiamenti del clima credo che dovremo fare la tara a tutto quello che ci vendono io sto parlando in termini di tecnologie molto ampi basate bene tra i quali però anche il digitale ci hanno venduto il digitale come una tecnologia immateriale avrebbe ridotto gli impatti sull'ambiente avrebbe ridotto il consumo di energia avrebbe ridotto il consumo di materie prime ci avrebbe permesso di ridurre la nostra ecologica footprint sul pianeta non si è realizzato nulla di questo ora qualcuno le ha chiamate come lei che le ha chiamate corruzione morale vendendoci questi immaginari è stato esercitato un processo di corruzione morale dell'intelligenza e collettive chi ce le ha vendute queste questa visione da chi ci ha corrotto è interessante chi ci ha corrotto ma e vabbè non andiamo in cerca di chi è la colpevole legativamente poi siamo tutti colpevole diciamo così molti più di altri alcuni più di altri scusate non di meno queste tecnologie della prevaricazione come sono state definite ci hanno messo di fronte al fatto come dire indubitabile che quello che è stato promesso che si trattasse comunque della transizione possiamo dire no a tutta una serie di strumenti macchine sistemi tecnici che avrebbero dovuto in qualche modo ridurre la nostra il nostro consumo di natura questo non si è realizzato le sfere allora a fianco però della crescita di quella che è la promessa tecnologica non mantenuta dalla corruzione morale applicata alla tecnica si è sviluppata una sfera invece molto potente che è appunto quella tecnologica che ha a che fare che si associa alle altre sfere sulle quali il nostro pianeta si è in qualche modo è stato definito soprattutto dai geologi la quale si suddivide la biosfera l'idrosfera atmosfera biosfera l'idrosfera tecnosfera non sfera che mi sembra un concetto interessante perché è quello che crea appunto gli immaginari e l'antroposfera cioè l'idea che in un certo punto come dire ci sia stato un processo non dico di separazione ma di sicuro di sconto ecco tra quella che è stata la crescita enormemente accelerata di quella che è l'antroposfera appoggiata alla tecnosfera con quello che è il resto delle sfere ecologiche del pianeta questa come dire è innegabile che siamo arrivati sia da un punto di vista della estrazione materiale della riduzione ma anche delle anomalie della creazione di anomalie all'interno di quelli che sono i sistemi ecologici del pianeta diciamo bene il problema del cambiamento climatico siamo tutti molto preoccupati ma è un'anomalia che si sta fermando e che sta cambiando le condizioni di riproduzione della società all'interno di quella situazione non di meno queste sfere rappresentano si sono arricchite di questa presenza esterna trascendente la natura però ricordiamoci pure anche che questa tecnosfera è fatta di natura la questione che oggi ci dimentichiamo è che pare che questa tecnosfera esista al di là di quelli che sono i suoi determinanti materiali ma se noi ragioniamo tranquillamente su quella che è non soltanto l'interazione tra il sistema sociale è la dimensione tecnologica ma anche il fatto che questa dimensione tecnologica è debitrice al pianeta di tutta una serie di materiali dalle quali non può farne a meno e che sta generando proprio perché anche la sfera tecnologica è la sfera di un'enorme competizione globale di livello economico e militare sta generando i conflitti che oggi si stanno determinando non possiamo sottrarre la sfera del digitale che è come dire anche questa enormemente basata come dire strutturata è radicante in quella che è la materialità del pianeta ora e questo sta creando casini al pianeta e alla società perché su questo si stanno sviluppando la una parte non dico la maggior parte la guardate bene ma la dinamica conflittuale soprattutto dal punto di vista del ritorno del militarismo come punto di partenza e dinamica centrale della crescita economica dei prossimi anni è determinata dalla disponibilità di materia prima è determinata dalla disponibilità di materia di terre rare di alluminio e voi sapete proprio di recente l'Europa ha aperto a nuovi critical raw material che ha inserito nella sua lista che è soprattutto l'alluminio perché ha bisogno di fare perché è sottoposta a pressione da parte dell'industria reale il problema è che oggi è estremamente evidente che il prossimo futuro ma l'accelerazione di pile la crescita di pile che vi saranno nel prossimo futuro dipenderanno dagli investimenti in Italia questo mi serve una logica che è molto chiaro allora io passo rapidamente su quella che è il peso insopportabile della tecnosfera quello che lo scrive è questa cosa uno si chiama Zalazeschi che è il capo del team che si occupa dell'antropocene un geologo dice ragazzi vogliamo fare i conti con questa tecnosfera questa tecnosfera pesa tanto e non mi interessa anche perché poi devono trovare le tracce dell'antropocene nel futuro poi gli dico andiamo a capire di cosa è fatta la tecnosfera perché è quella che indica l'inizio anche è la come dire golden spike dell'antropocene allora lì identifica una tecnosfera fisica fatta di tutti i materiali che però come dire è messa insieme dalla attività umana ovviamente e poi come dire sono forme funzioni composizione manifattura processo questo è tutto quella che è l'attività che sta dietro come dire alla tecnosfera fisica inoltre poi c'è l'acnosfera attiva quella che noi direttamente utilizziamo fatta di strade edifici e strutture biagetiche oggetti strumenti macchine beni di consumo non so ponti ferrovie porti navi capite in che mondo noi viviamo un mondo che pesa tanto così pesa più dell'insieme di tutta la biosfera sul pianeta pesa circa 30 trilioni di tonnellate significa 30 mila miliardi di tonnellate di materia che abbiamo sul pianeta per una media di 50 kg per metro quadrato su tutta la sfera planetaria 5 ordini di magnitudine vuol dire 100 mila volte che è il peso della biomassa umana cioè noi siamo quale ragioniamo su di noi siamo 8 miliardi sul pianeta quello che abbiamo costruito è 100 mila volte più pesante di quanto pesiamo noi possiamo continuare eccoli qua aree urbane stiamo parlando di città stiamo parlando di rural housing pastore eccetera queste sono le tonnellate da percentuale di peso sul pianeta poi mi do le core le date notiate i dati che potrebbero essere interessati questa è un'altra contabilità qui invece è il confronto tra la massa antropogenica e cioè quella costruita dall'antropos cioè dall'umanità e la biomassa abbiamo superato il peso totale della biomassa comprese vegetali umani eccetera con quello che abbiamo costruito che qui è anche elencato per cui vi sono cemento armato gli altri aggreganti i bricks che sono i mattoni l'asfalto i metalli e altri proprio come la plastica abbiamo superato nel 2020 il peso totale della biosfera della biomassa sul pianeta guardate bene l'indicatore del peso forse non ci dice molto devo soltanto però è come dire il peso insopportabile l'ambirable burden di questa condire sfera che è enorme si sta estendendo non si ferma come le auto oggi sono le auto un miliardo e quattrocento milioni di auto le abbiamo prodotte due miliardi e novecento milioni negli ultimi anni da condannata per l'automobile due miliardi e novecento milioni di automobili dove sono? dove sono? energia cosa vado rapidissimo perché è così allora per mantenere il tecnosfera abbiamo bisogno di energia che energia abbiamo utilizzato finora e continueremo a utilizzare ovviamente petrolio carbone gas noi abbiamo ogni anno vi è produciamo circa 70 miliardi di barili di petrolio equivalenti 70 miliardi di barili di petrolio equivalenti per far funzionare la tecnosfera altrimenti non ce lo vediamo noi petrolio ora voi capite che se noi lo dobbiamo confrontare con quella che è l'energia come dire umana cioè il 2% dell'energia umana che noi siamo in grado di generare si è confrontata con il totale dell'energia indosomatica di cui ci siamo dotati il 2% il che significa che noi produciamo una quantità di energia per far funzionare questa sfera alla quale in qualche modo siamo subordinati perché se poi ci pensate la tecnosfera prima di tutto nasce per aumentare la produttività del lavoro e soprattutto del lavoro industriale questa mi piaceva come mi mostravi la prima fabbrica di tessi dell'Arc Wright in Inghilterra allora vado quanto tempo ho ancora che vado rapidamente 6 minuti va meno ora le tecnologie digitali sono parte del problema ovviamente c'è un problema di rimpiazio piuttosto che di riparazione lo sviluppo dei software forza quello che è l'upgrade del hardware il problema dell'e-waste il problema dell'elettricità cioè dell'energia per la produzione dei device l'elettricità per l'uso dei device l'elettricità per le nuove tecnologie digitali l'elettricità per il 5G e l'Internet of Things perché è una delle cose che dobbiamo essere consapevoli il fatto che il digitale serve non soltanto per far comunicare gli umani serve per far lavorare e coordinare una serie di antisistemi italici e quello che oggi si sta affermando con l'Internet of Things eccetera ma anche in parte dell'intelligenza artificiale non soltanto per fargli riconoscenza il fatto di coordinare l'attività di miriadi di tools di strumenti di artefatti che devono lavorare all'unisono ora vi lascio la parte energetica di Wackler-Smile che dice ma guardate questa parte questo strumento digitale contiene una quantità di energia che è incommensurabile con il suo peso il bisogno per i minerali lari i minatori dei minerali lari credo questa sia una foto come dire abbastanza e la infrastruttura fisica che si espande questi sono i server di Google questa è la rete attraverso la quale si distribuiscono le informazioni i byte come dire poi le offese eccetera in tutto il mondo e questi sono i cavi che sono utilizzati questi cavi sono 552 cavi per 1 milione e 500 milioni di chilometri di lunghezza per un giro d'affari di 4 miliardi di dollari dell'anno da qui a 2003 il 99% del traffico inter del mondiale transita sotto i mari sono oltre 100 gli incidenti ogni anno subiscono queste infrastrutture però voi capite noi non siamo solo dentro una rete immaginaria no ma siamo dentro una rete fisica che ci ha catturato dal punto di vista della comunicazione noi siamo imprigionati di una rete così estesa potente materiale costituita in questo caso su un milione e mezzo di chilometri che hanno avvolto il pianeta digital pollution sono soltanto l'urbanizzazione l'utilizzo degli strumenti legati a internet la CO2 emessa guarda non ragioniamo nemmeno sull'impasto sta crescendo rapidamente sono già 6% totale delle emissioni di CO2 collegate con internet attorno al 6% del totale criptovalute blockchain quanto consuma il sistema delle criptovalute ora guardate bene che attorno alle criptovalute dovremmo esplorare in maniera molto seria che cosa significa quanto si fa in solito due minuti allora bitcoin metalli rari contenuti in un iphone astrazione reale ora tre o quattro punti riguardo come dire la tecnologia la tecnologia è un'astrazione gli oggetti tecnici sono la cosa più astratta che noi abbiamo davanti li utilizziamo ma non sappiamo chi li ha fatti come sono stati fatti chi li ha messi insieme chi ha estratto i materiali necessari per farlo noi della loro ontologia non sappiamo niente sappiamo soltanto usarli malamente ci fanno arrabbiare quando si rompono nel momento in cui abbiamo difficoltà allora proviamo a capire che cosa c'è dietro quell'oggetto tecnico che popolano e l'insieme degli oggetti tecnici che popolano le nostre vite però fino a quel momento lì non ne sappiamo nulla più astratto di un oggetto tecnico dal punto di vista della situazione della conoscenza e della nostra capacità come dire di penetrarlo dal punto di vista della sua ontologia non ce l'è apatia narcisistica questa è una visione interessante Elena Puccini ha definito l'apatia narcisistica di individui svuotanti del desiderio per la comunità devo dire che questa è la visione dominante quella che prima Treret aveva criticato che dice che non ha tutta ordine dice è una descrizione una narrativa talmente impremeabile come dire quella che è la trasmissione non di meno quello che viene fuori è che anche le capacità di mobilizzazione di movimenti da quando c'è internet si sono ridotti a fare le petizioni firmiamo così cambiamo il mondo firmiamo milioni di firme cambiamo firmiamo capite come abbiamo intenzione di cambiare il mondo ci prendiamo in giro da questo lato allora tre punti e chiudo indeterminismo tecnologico io ho 4-5 visioni di questa tecnologia rimesso un po' dalle letture che ho fatto come che non sono sistematiche tecnologia come sistema autonomo astratto che plasma e sussume il sociale allora questa è un'idea interessante è il sistema tecnico che in qualche modo si forma e si autonomizza la roba del Jacques Lula questa idea e piega il sociale alle proprie esigenze una tecnologia invece come parte integrante del sociale da questo progettato il sociale progetta la propria tecnologia con capacità anche iscrivendoli all'interno le regole morali scolpisce le regole morali che il mondo deve osservare sulla tecnologia e sugli oggetti tecnologia come farmaco questo mi sembra interessante chi ha un po' di come dire di mestichesse con la filosofia della tecnica sa che il farmaco che viene da Derrida è stato riproposto soprattutto da Bernard Stigley prospetta una farmacologia la tecnologia è sia rimedio che veleno infine è una tecnologia come totalità e distruzione del sociale Marcuse Herbert Marcuse scuola di Francofort aggiungiamo una parte tecnologia emancipativa forse quella come dire sono le prospettive devo dire che sono minime è un lumino che si muove lì è qualcosa come dire di indeterminato però c'è forse la possibilità di pensare in termini emancipativi primo luogo una tecnologia aperta secondo luogo una tecnologia non di consumo ma una tecnologia che deriva da esigenze concrete che deriva dei bisogni tecnologie che rispondono ai bisogni in terzo luogo l'importanza del processo decisionale legato alla deliberazione della pianificazione della tecnologia chiudo il controllo della produzione della tecnologia deve tornare agli utenti ora io su questo non sono d'accordo in realtà deve tornare ai produttori al lavoro perché la visione dell'utenza cioè del final user è assolutamente perdente i final user non decideranno mai di quelli che sono i destini di un sistema tecnologico quello ovviamente lo decideranno chi li produce grazie ho finito grazie mille Dario per diciamo questo percorso teorico che è piuttosto inusuale perché di solito noi soprattutto i giuristi siamo soliti tracciare una traiettoria che va dal materiale all'immateriale mentre qui abbiamo fatto esattamente il contrario siamo passati diciamo dal lato immateriale appunto da questa presentazione del digitale come non impattante sulla fisicità dei luoghi a una dimensione materiale insomma hai dato molte informazioni importanti Marco Ricolfi lo ricordava in apertura il libro contro lo smartphone di Juan Carlos De Martin fa anche insomma lavora in questa direzione cioè quello di chiarire l'ontologia dello smartphone un dispositivo che abbiamo tutti nelle tasche di cui però non sappiamo nulla cioè sia rispetto al suo processo produttivo al suo reale funzionamento ai dispositivi che incorpora quindi c'è una dimensione di costruzione del consumo critico dell'uso delle tecnologie che secondo me è fondamentale e che passa anche dal capire queste queste dinamiche io avrei una domanda per te ma la tengo dopo e lascio la parola a Ivana Paes per la sua relazione come vi dicevo andiamo dal generale al particolare e adesso proviamo a interrogarci a vedere quali sono gli impatti gli effetti delle piattaforme dell'uso delle piattaforme sulla dimensione urbana grazie buongiorno a tutte e a tutti è veramente un piacere essere qui perché seguo i lavori da remoto da qualche anno e finalmente sono felice di poter partecipare allora io parto facendo un passo indietro rapido mi soffermo coco perché nel riflettere sul rapporto piattaforme città io ho iniziato a studiare le piattaforme studiando le città quando parlando di piattaforma avevamo un'espressione oggi desguilita ci abbiamo anche lavorato insieme quando si diceva sharing economy una parola che adesso non usiamo più ma semplicemente perché non c'è più la sharing economy per cui non abbiamo più niente da dire perché di fatto c'è scomparso l'oggetto di ricerca per quanto ci riguarda dalle mani sto esagerando ma non troppo quando si parlava di piattaforme in termini di sharing economy noi abbiamo iniziato a parlare di piattaforme parlando di sharing economy perché c'era un'idea di futuro desiderabile a proposito di proiezioni verso il futuro che in quegli anni era molto forte e ha dato vita anche a dei movimenti sia movimenti civici sia anche forme di attivismo anche a cavallo con l'accademia che muoveva in una direzione di utilizzo delle piattaforme digitali per ripensare le relazioni sociali ripensare le relazioni economiche ripensare le città e si veniva da anni in cui come da titolo di questo nostro panel si parlava di smart city e lì c'è stata invece una proposta verso la fine degli anni dieci di rielaborazione in termini di sharing city abbiamo visto osservato partecipato alleanze tra città orientate alla costruzione della sharing city manifesti politiche tutto orientato all'utilizzo delle tecnologie in questa logica collaborativa qual era l'idea base in quegli anni l'idea era usiamo le piattaforme per abilitare le relazioni tra le persone e in questo modo tornare a incardinare le relazioni economiche entro relazioni sociali si vedeva nella piattaforma digitale una possibilità di spostare l'asse dell'erogazione dei servizi dall'organizzazione delle aziende alle persone un'idea anche di riutilizzo delle risorse che andavano all'ottica dell'economia circolare un'idea di valorizzazione delle capacità anche delle persone non solo delle risorse alcune amministrazioni soprattutto comuni quegli anni sono state soprattutto amministrazioni comunali hanno un po' incorporato questa logica e si sono proposte di fare da abilitatori a questo tipo di processi e da lì appunto è uno sforzo almeno di elaborazione teorica interessante salto ad oggi cos'è rimasto di tutto ciò cos'è rimasto delle sharing city cos'è rimasto di quell'idea lo dicevo prima di fatto quasi niente è rimasto poco dopo lascio per così chiudiamo con lei che ci dà qualche speranza perché Francesca invece quel poco che c'è che muove in questa direzione lo studia lo promuove lo mantiene ha preso una forma diversa poi Francesca ce lo racconterà ma quel poco che c'è ce lo racconterà e così andiamo a pranzo un po' meno depressi perché nel passaggio delle prime due relazioni devo dire che il quadro che ne uscirà non sarà proprio edificato quindi Francesca ha la responsabilità poi invece di recuperare l'utopia e gli sguardi verso il futuro e i desiderati cos'è rimasto non è rimasto poco niente anche perché delle piattaforme di sharing non è rimasto quasi niente quelle che erano nate anche con un'impostazione che ricalcava un po' questa idea di fatto poi erano piattaforme ibride in cui la dimensione di mercato poi è diventata esclusiva quindi hanno perso la dimensione civica all'inizio tentavano di tenere entrambe le dimensioni di metterle in relazione poi si è persa la dimensione civica e sono diventate piattaforme di mercato puro sono anche proprio cambiate come piattaforme alcune invece sono nate già in una dimensione di puro mercato e si sono appoggiate a quella retorica per legittimare la loro azione alcune al di là dell'essere piattaforme di mercato e di muoversi legittimamente all'interno di una dimensione puramente di mercato sono state definite etichettate proprio come piattaforme estrattive perché c'era e c'è in alcune di queste piattaforme un approccio appunto all'estrazione di valore delle interazioni tra le persone per cui mantengono l'interazione tra le persone ma finalizzata all'estrazione di valore da quelle relazioni dei dati eccetera quindi un cambio di scenario che ha portato a rietichettare in modo diverso i fenomeni ma perché i fenomeni erano cambiati e con grande confusione poi appunto nel passaggio da un sistema all'altro siamo passati quindi da quelle piattaforme alle piattaforme che abbiamo oggi con questi tratti che accennavo io negli ultimi anni se prima studiavo logica collaborativa all'interno delle piattaforme adesso appunto non avendo più un oggetto mi sono riposizionata sulle piattaforme di match sullo studio delle piattaforme di matching tra domanda e offerta di lavoro e all'interno di questo ambito sto studiando il matching tra domanda e offerta di servizi e di lavoro in un ambito che è veramente poco studiato in Italia ma devo dire anche all'estero che è lo scambio di beni e servizi di cura alla persona la mia idea è stata bene mentre tutti stiamo studiando le piattaforme o come Uber per il trasporto delle persone o le piattaforme di delivery di delivery in particolare di food delivery su questo abbiamo per fortuna tantissima ricerca nel frattempo però invece ci sono tantissime altre piattaforme che intermediano servizi e lavori diversi che nessuno sta studiando in particolare l'idea è venuta pre-pandemia perché è uscito un rapporto INAP che diceva che tra le piattaforme di lavoro il lavoro prevalente era quello delle pulizie domestiche cioè pre-pandemia oggi non è più vero ma pre-pandemia c'erano più persone che usavano le piattaforme per trovare lavoratori e trovare lavoro per andare a pulire le case che non per consegnare il cibo a domicilio poi appunto la pandemia ha scombinato le cose però mi incuriosi molto allora il fatto che tutti stavamo studiando il food delivery e invece anche solo dal punto di vista quantitativo le pulizie domestiche erano più numerose non le stava studiando nessuno e su questo faccio un breve cenno alle questioni che ha ben introdotto Tre Re all'inizio e mi permetto di dire che ho avuto il privilegio forse l'autore non lo sa di leggere in anteprima il libro e quindi mi permetto anche di consigliare la lettura del libro quando uscirà perché è un libro bellissimo e quindi complimenti complimenti a Tre Re e a Bonini perché hanno fatto un lavoro veramente meraviglioso nel leggere il loro libro quest'estate nell'ascoltare stamattina la presentazione io mi sono interrogata molto ovviamente stavo facendo ricerca sul settore delle piattaforme di cura mi sono chiesta tutto quello che leggo in quel bel libro come si ritrova nelle mie piattaforme e la risposta è molto veloce non c'è niente di tutto ciò nelle piattaforme di cura nel senso che non abbiamo né forme o perlomeno io non le ho individuate magari ci sono io non sono stata capace di individuare non abbiamo né forme di resistenza in tutte le varie forme né forme di rappresentanza e tutela dei diritti di questi lavoratori soprattutto lavoratrici perché sono prevalentemente donne io ho studiato pubizie domestiche ma anche babysitter badanti e anche professioni qualificate psicologi medici in particolare sugli psicologi c'è stato invece un boom durante le pandemie di piattaforma di consulenza psicologica abbiamo fatto tantissimo lavoro cosa c'è di resistenza lì dentro niente una ho fatto un'intervista a un certo punto a una lavoratrice di una piattaforma di pulizie domestiche e le ho detto ma come mai voi non avete nessuna forma di anche solo non azione collettiva ma anche solo micro alleanze e la sua risposta molto netta è stata molto chiara illuminante mi ha messo a fuoco la questione mi ha detto non siamo rider e gli ho detto in che senso non siete rider e mi ha detto beh siamo donne molto lucide facciamo un lavoro dentro le case che non vede nessuno non giriamo con delle giacche florescenti e quindi non ci vede nessuno e quindi non ci considera nessuno ma soprattutto non si interessava di noi nessuno nemmeno prima di fatto delle piattaforme digitali per cui perché dovrebbero interessarsi adesso di noi non ci consideravano altri ma continuano a non considerarci adesso e se avete seguito il triste dibattito sul salario minimo che c'è stato nel paese negli ultimi mesi avrete notato che anche chi promuove il salario minimo dice sempre le lavoratrici domestiche no fa niente per loro no sono l'eccezione anche per chi il lavoro domestico il salario minimo lo propone ci sono delle ragioni ovviamente sto enfatizzando un po' però però il dato di fatto è questo cioè resta il dato di fatto sono andata a intervistare tutti i sindacalisti che si sono resi disponibili e quando chiedevo loro ma rispetto a lavoratori in piattaforma che fanno pulizie domestiche babysitter e loro scoprivano da me l'esistenza di queste piattaforme e quindi le mie interviste si sono trasformate in lezioncine in cui raccontavano i risultati delle mie lezioni il quadro è un po' questo siamo molto 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 lontani c'è proprio un problema di identificazione del campo e di identità delle persone e del loro ruolo importante mentre tutti durante la pandemia continuavamo a dire quanto sono importanti i lavori essenziali nell'ambito della cura non li vediamo non li consideriamo due parole perché sono andata troppo perché su questo tema io mi infervo e quindi devo tenermi devo tenermi a freno due parole su cosa ho trovato invece rispetto alla dimensione dello spazio della città nelle mie ricerche allora un aspetto che sta muovendo ancora i primi passi sono nuove piattaforme promosse dai comuni che non somigliano per niente a quelle che avevo visto anni fa che nel frattempo sono state chiuse adesso abbiamo nuove piattaforme promosse dai comuni che sull'onda di quello che sta succedendo nel mondo delle piattaforme più in generale erano servizi sono diventate piattaforme di matching tra domanda e offerta quindi hanno perso quella dimensione più appunto di attivazione civica e sono diventate di più delle piattaforme di matching basate su logiche di partnership pubblico privato anche in questo caso c'è stata una crescita di queste esperienze durante la pandemia anche perché appunto come tutti sappiamo c'è stato un utilizzo maggiore degli strumenti digitali l'idea che ha guidato queste piattaforme è stata un po' questa i comuni fanno accreditamento di alcuni servizi sociali in senso lato che poi a cui poi hanno accesso i cittadini che che usufruiscono di questi servizi perché sono categorie riconosciute per aspetti vari una delle riflessioni che ha guidato queste piattaforme è stato da parte dei comuni dire bene noi già credichiamo delle organizzazioni tipicamente del terzo settore per erogare a questi servizi avere delle piattaforme promosse anche dal comune in cui noi permettiamo ai cittadini che pagano quindi non a quelli che usufruiscono dei servizi sociali di avere accesso a una preselezione di organizzazioni del terzo settore che erogano questi servizi di fatto mette a loro disposizione un servizio da un lato adesso banalizzo ma se io sto cercando una badante per mia mamma mio papà vado sul sito del comune sul sito del comune trovo badanti che sono in un qualche modo certificate accreditate riconosciute dal comune in questo modo ho un servizio da parte del comune che non è il pagamento della badante che in Italia resta carico mio ma è comunque un servizio di un comune che senza costi mi dà un'informazione e in questo modo rinforzo anche l'attività delle cooperative a fronte del fatto che il taglio dei servizi pubblici sta comportando una difficoltà di sostentamento economico di queste cooperative cooperative che quindi prima si rivolgevano soltanto facevano palti col pubblico per erogare questi servizi attraverso il pubblico adesso attraverso piattaforme costruite anche dal pubblico hanno accesso al privato si torna all'ibridazione della storia precedente il timore e gli elementi di alert che stiamo vedendo in campo e attenzione perché poi da qui succede quello che è successo l'altra volta e quindi un po' d'attenzione da questo punto di vista c'è dall'altro invece c'è un potenziale al momento non sfruttato noi ci preoccupiamo tantissimo dell'utilizzo dei dati a fini di estrazione come dicevo prima beh se quei dati però li utilizzasse il comune per conoscere meglio i bisogni dei suoi cittadini forse saremmo contenti quindi un utilizzo dei dati da questo punto di vista sarebbe invece molto interessante se il comune usasse queste piattaforme per avere informazione sui cittadini che pure pagano il servizio ma sono sempre suoi cittadini e rispetto al quale poter fare elaborazione dei dati per mettere in campo dei servizi diversi questo sarebbe un utilizzo interessante che al momento non vediamo più di tanto la famosa area grigia di cui si parla tanto così diventerebbe abbastanza trasparente però sono servizi che vengono un po' prefigurati ma al momento non vediamo una battuta e chiudo su invece le piattaforme private dicevo prima per esempio il boom incredibile di piattaforme per consulenza psicologica vi do un numero in generale in Italia noi abbiamo mappato più di 150 piattaforme che fanno questi servizi che vi raccontavo babysitter badanti consulenza psicologica i servizi di consulenza psicologica le piattaforme oggi sono 27 sono in costante crescita e in più noi abbiamo fatto uno studio di caso molto approfondito su uno bravo che è la piattaforma più grossa che abbiamo oggi in Italia che segue la logica di piattaforma pura ha preso un finanziamento da un venture capitalista americano di 17 milioni di euro sta crescendo in maniera importante appena aperto anche in Spagna insomma la dinamica di piattaforma che di solito vediamo all'estero invece la stiamo vedendo in Italia con una piattaforma fondata da tre psicologhe di Napoli che avevano inizialmente pensato di fare la piattaforma per gli italiani all'estero per permettere loro di avere consulenza psicologica nella loro lingua e poi con la pandemia hanno visto crescere in maniera veramente incredibile il loro servizio stanno crescendo con ritmi importanti allora quando si studiano queste piattaforme questa ma anche tutte quelle di consulenza medica che ugualmente stanno crescendo tantissimo anche perché uno cerca di prenotare una visita col pubblico e deve aspettare sei mesi e tipicamente va sulla piattaforma e fa una consulenza con un medico invece nell'arco loro assicurano 24 ore la maggior parte delle piattaforme e quindi si è aperto un mercato che compensa le carenze del pubblico su queste piattaforme le abbiamo approcciate con l'idea della città non conta più il territorio non conta più tutta quella letteratura che dice le frizioni territoriali non ci sono più non conta più niente ovviamente non è così le città contano ancora tantissimo quello che abbiamo visto per esempio dico solo una cosa così chiudo è che la maggior parte dei professionisti lavora nel sud Italia la maggior parte dei pazienti è nel nord Italia e nelle grandi città uno dice ma va anche bene tutto sommato in termini di mercato del lavoro forse però da un altro punto di vista uno si sarebbe aspettato l'opposto che avessero accesso a questi servizi le persone più lontane dagli ospedali e ai grandi centri cioè quelle che sono lontani dai servizi sanitari che così possono accedere ai servizi che non hanno di prossimità invece sono le persone che hanno i servizi di prossimità che usano anche i servizi digitali provvesciamento completo delle aspettative quindi frizioni vi dico questa ma ce ne sono tante altre più studiamo le piattaforme digitali più studiamo i servizi online più ci risulta evidente le frizioni territoriali e di servizi che vengono presentati invece come sradicati dal territorio tutto sono tranne che sradicati dal territorio chiudo grazie grazie l'Ilevana diciamo che è molto interessante l'analisi che hai fatto perché fa vedere bene quali sono i rischi che forme di sviluppo cooperativo e appunto tu richiamavi il fenomeno della sharing economy corrono il problema della cooptazione la cooptazione da parte del mercato che è quello che è successo nell'ambito dell'economia della condivisione sebbene forse anche qui ci sia stata da parte di alcuni una certa ingenuità perché la presenza di corporation è stata significativa quasi da subito dello sviluppo di questo fenomeno il richiamo alle corporation della sharing economy mi dà subito il gancio per passare la parola a Francesca è in realtà per cucire insomma a mo' di anello le nostre relazioni perché Francesca ci parlerà di città e turismo di massa e di un'esperienza di piattaforma cooperativa o cooperativa di piattaforme non sono mai incerta dell'espressione più corretta da utilizzare che è un tema che richiama molto quello che diceva Dario all'inizio e cioè dell'impatto sulle città l'impatto fisico la materialità dell'economia digitale e qui insomma non è molto molto facile richiamare la mente i casi che ho in mente il caso è quello della turistificazione la grande diffusione di Airbnb l'impatto che ha su molte città Marcellona e Spagna ma anche Firenze e Venezia e dei tentativi finora molto molto complicati che il legislatore italiano cerca di fare tenta di fare fa finta di fare scegliete voi insomma l'espressione migliore per regolare questo fenomeno poi il risultato è che poi molto spesso le risposte sono locali è interessante anche quello che dicevi tu cioè ci sono delle forme di governo del digitale o di creazione di alternative che passano dalle attività dei comuni il caso dell'uso dei dati progetti come quello di Barcellona decode casi di Parigi mettono in evidenza un problema che è un problema nazionale a dir poco e cioè di una restituzione di dati che sono il prodotto della nostra cooperazione sociale per la produzione di servizi pubblici per esempio e per l'abilitazione di forme di controllo che noi stessi potremmo esercitare problemi che devono poi essere risolti dalle città magari grazie a un finanziamento di un progetto europeo magari no e quindi c'è molta frammentazione il digitale sta anche producendo una regolazione locale frammentata e quindi idonea produrre forme di diseguaglianza sul territorio ti lascio la parola Francesca per la tua relazione grazie e accedo si si bene bene buongiorno e vi ringrazio per avermi invitata a questo bel convegno te vi forse è accedo meglio no uguale adesso si si faccio così chi mi conosce sa che questi temi mi appassionano molto chi non mi conosce lo sape tra poco perché appunto al di là del percorso che ho fatto in accademia di dottorato poi io sono diventata fondamentalmente una cooperatrice un attivista e quindi sono team che tratto anche per per lavoro lavoro che è anche lobby passione varie attività ora questa responsabilità è dover portare un po' di ottimismo però bisogna sempre iniziare dal contesto e come ha detto giustamente la professoressa inizio parlando del turismo di massa e di questo questo nuovo questo nuovo fenomeno che attraverso le nostre città che appunto la massificazione del turismo l'over tourism che è molto legato all'avvento delle piattaforme ci sono infatti piattaforme che permettono di acquistare i voli low cost piattaforme che permettono di accedere gli alloggi e quindi soprattutto negli ultimi dieci anni cambiava tantissimo il modo in cui accediamo al turismo se una volta si programmava il viaggio con l'avvento o con l'agenzia viaggio oppure no però comunque era tutto uno studio adesso va molto più di moda il turismo mordi e fugge ed è semplicissimo organizzare un viaggio anche da un giorno con l'altro ci sono addirittura persone che vanno in giornata a Parigi perché tanto c'è il volo la mattina e la sera e quindi tutto è possibile prima di andare avanti vorrei appunto chiedervi una cosa chi di voi ha utilizzato utilizza queste piattaforme per andare per fare questo tipo di viaggio chi non ha mai utilizzato Airbnb cioè eroici perché chiaramente perché effettivamente io avevo iniziato i tempi a usare couchsurfing che è da dove è stata rubata l'idea di Airbnb che era bellissimo perché si prendeva cioè davi il tuo divano in cambio andavi sul divano di qualcun altro e qualcun altro facevi l'esperienza di conoscere le persone Airbnb ha detto e ha fatto quello che ha fatto era un percorso gratuito ci si scambiava le case e invece poi è diventato alla fine a pagamento che è il principio dell'estrativismo della sharing economy che mi hanno spiegato benissimo e effettivamente poi quando stai abito ad avere a disposizione questi strumenti diventa anche difficile non utilizzarli solo che chiaramente questo implica alcuni effetti che è stata la cosa che per anni non ho usato Airbnb ma alla fine ho ceduto anch'io perché effettivamente anche per lavoro alle volte ti trovo delle soluzioni migliori e il primo è quello della perdita dell'identità dei nostri centri e delle città un fenomeno che colpisce soprattutto le grandi città ma non solo però chiaramente il problema qual è? se adesso andiamo nel centro di Firenze nel centro di Parigi nel centro di Amsterdam i turisti hanno bisogno di quelle tre cose lì di mangiare quindi cibo dappertutto ristoranti hanno bisogno di vestiti perché magari hanno dimenticato qualcosa quindi prevalentemente se possibile anche vestiti a basso posto e qua tutte le varie catene di negozi collegati hanno bisogno di abitazioni e quindi tutto diventa un Airbnb c'è una perdita di identità delle città perché si bisogna rispondere degli standard turistici l'attenzione è molto spostata sul monumento perché tutti devono vedere il monumento però poi la vita della persona il fatto che ci siano una serie di abitudini si riducono a compro nel negozio turistico il mini Colosseo che comunque porta la mia famiglia o la Torre Eiffel e quelle cose e chiaramente questo è un elemento importante il secondo è quello del problema dell'economia estrattiva di cui ha già parlato Ivana proprio queste piattaforme non sono piattaforme italiane prevalentemente cioè sono piattaforme dunque presenti in altri paesi Stati Uniti generalmente e quindi c'è tutti i margini ulteriori che vengono prodotti quando si crea questa interazione tra chi produce cioè chi offre una casa e chi la prende sono tutti i margini che vanno fuori dal nostro paese e non solo perché poi sappiamo ad esempio Airbnb in Europa sia in Irlanda ma ho già detto tutto e quindi è tutto collegato ovviamente a questi elementi oltre al fatto che c'è una concentrazione di tutti i proventi in poche mani perché chiaramente non sono sistemi cooperativi o esempi di tecnologia emancipativa anzi in poche mani con i vestitori alle spalle che insistono parecchio sui loro ritorni ultimo e non ultimo il tema degli affitti e della gentrificazione si parlava appunto menzionando per Barcellona che è un esempio da cui ho preso la foto che ancora dal 2014 appendevano questi quindi è un fenomeno abbastanza vecchio il fatto che questa è Barcelloneta Barcelloneta era un quartiere povero abbastanza povero di popolare diciamo di Barcellona perché comunque era un quartiere portuale con delle industrie delle fabbriche che servivano per i portuali e quindi era pieno di operai e le case le hanno tutte fatte a blocchettini che ci sono rivelate perfette per il B&B e per gli affitti a breve termine quindi se ricapita di andare ci sono questi vecchietti che vivono ancora nel loro caso con le turiste americane che escono girano e i negozi stanno cambiando tant'è che molte delle persone che vivono lì non possono più permettersi neanche di andare a mangiare una sera a cena perché i costi sono cambiati completamente e questo ha un impatto chiaramente sulla vita delle persone perché la gentrificazione in alcuni posti è positiva cioè serve può essere anche interessante come fenomeno però è molto problematica per chi vive in questi territori e poi non dimentichiamo il mega fenomeno dell'esplosione degli affitti chiaramente se tutti preferiscono affittare i turisti perché fanno poco guadagni di più tanto chi viaggia così si permette di poter pagare di più non riusciamo più a trovare le case con gli effetti che ci sono stati anche tutti gli studenti che non trovano affitti le persone che non sanno più dove trovare le case però il problema più grande di queste società è che il problema di queste piattaforme è che dietro ci sono delle società che sono appunto tendenzialmente stato sono i unicorn company cioè società unicorno che sono valutate oltre i miliardi di dollari sul mercato azionario questo che cos'è che significa significa che sono società che hanno scalato molto in fretta società che oggi spesso hanno il monopolio anche nell'ambito dei viaggi e società che spesso attraversano i confini trasfrontalieri come Airbnb che paga le tasse solo in un posto ha le risorse umane in un altro e così anche quando un cittadino cerca di contattare queste società quando ci sono delle frodi non sa chi chiamare non esiste nessuno se sempre i consumatori non sono perfettamente assolutamente rispettati gli stati non sanno con chi parlare ed è una situazione molto complicata perché chiaramente hanno anche dietro i finanziatori e i finanziatori vogliono un ritorno sul loro investimento questi sono i finanziatori pazienti però comunque vogliono un ritorno e questo chiaramente implica tutta una serie di problemi perché non vai a cercare di andare incontro alle esigenze delle persone che presentano dei reclami se questo ti può portare a guadagnare il mio soldo chiaramente e oltre al fatto di avere degli investitori tutti questi soldi alle spalle implica anche che queste società siano molto forti in ambito di lobby io qui ho riportato due esempi uno vabbè quello non è una critica però è semplicemente quello che è successo voi sapete si parla dei legislatori che stanno cercando di fare qualcosa il ministero del turismo italiano ha tendenzialmente il compito di cercare di fare delle leggi su questo o risolvere il problema una cosa che è successo è che via via è un po' più furvetto ed è riuscito addirittura a farsi patrocinare un evento dal ministero della cultura una serie di eventi che ha organizzato quindi c'è anche al di là vabbè della Santa Anche che vabbè non si commenta da solo però è proprio il fatto della capacità di inserimento di queste realtà cioè se uno ha questo modo di ragionare un po' più come dire riferito alla comunità non lo farebbe neanche una cosa del genere invece loro si infilano e fanno lobby a livello nazionale ma anche a livello europeo possiamo dire a livello mondiale sono ovunque e comunque hanno gli investitori dietro che gli continuano a dare soldi anche per fare queste attività e poi parlo di Airbnb ma se andiamo a vedere Uber e tutti gli altri cioè vabbè fa paura e chiaramente però di fronte alla mancanza di regolamentazione le persone reagiscono ci si confronta direttamente con la piattaforma che è un tema che è emerso numerose volte questa mattina ci sono quelli che protestano e qua ci sono esempi di studenti che non trovano più casa proprio Torino tra l'altro poi ci sono le persone appunto di varie città ci sono c'è anche Berlino Firenze cioè le persone non ce la fanno più non tutte perché appunto la petizione comunque va molto più di moda perché una volta funzionava molto bene Amnesty International che mandava le lettere di carta è quello di massacrare di carta quindi comunque dopo un po' adesso anche quello è cambiato procede per vie legali ovviamente e qua ci sono esempi come l'Italia stessa che ha ha fatto chiesto la corte europea di poter far pagare le tasse il V&B ci sono le città i vari comuni di Europa che si sono messi insieme per trovare delle soluzioni New York che adesso ha fatto una nuova proposta che stanno già massacrando ovviamente perché i lobbisti e quindi sono un po' più forti però la proposta era quella di avere non meno di due settimane di affitto altrimenti non si può affittare una casa insomma stanno cercando delle soluzioni però è chiaramente molto complicato perché con dei lobbisti così forti non è sempre facile agire soprattutto cattivi lo aggiungo è un giudizio morale non so che si potrebbe fare però sono abbastanza innamorabile le giudizie eh sì cattive però oltre a questo c'è anche chi crea delle piattaforme cioè delle cooperative che vanno in direzioni diverse io qua vi porto altri esempi è proprio quello di cui si parlava prima le piattaforme cooperative già menzionate dal professor Nelè e che vanno nella direzione della tecnologia anche dell'uso di una tecnologia in modo emancipativo effettivamente che torna in mano ai lavoratori come menzionava il professor Padman questi sono sono degli esempi di cooperative che effettivamente vengono anche chiamate piattaforme si piattaforme cooperative vabbè ma è uguale nel senso che tanto poi è passato di moda anche quello e quindi è un po' come la sharing economy infatti si è andato anche quello però nasce cioè nel momento in cui muore la sharing economy le piattaforme cooperative nascono per rispondere ai giganti della sharing economy che danneggiano questa visione della condivisione ma poi muore l'idea di sharing economy la contro risposta che nasce da qualcosa che non funziona chiaramente si crea sostanzialmente un cortocircuito teorico per cui io ho messo solo cooperative che utilizzano piattaforme e poi possiamo parlarne nel trans magari se volete nella parte teorica delle piattaforme cooperative comunque intanto le cooperative ce l'ha con me ho trovato un'altra strategia la cosa che c'era intanto le cooperative e il turismo hanno una lunga storia soprattutto c'è un forte legame tra cooperative e turismo sostenibile le cooperative di solito negli anni hanno sempre lavorato soprattutto per supportare il turismo dei lavoratori quindi ci sono cooperative che si occupano di turismo sociale cooperative che si occupano di turismo sostenibile e cooperative che sono tour operator agenzie di viaggio o agenzie di viaggio tour operator che sono cooperative dipende un po' dal punto di vista e ci sono anche delle reti di cooperative che supportano il turismo differente e come esempio anche di cooperative di ci sono anche esempio di cooperative di comunità che valorizzano il turismo sociale in aree che sono spesso disabitate o che tendono ad essere disabitate il primo esempio che vi porto è quello di Fairbnb che lo dice già il nome è la versione equa di Airbnb sostanzialmente e nasce proprio in reazione alle copierate alle piattaforme di Airbnb e infatti viene fondata ad Amsterdam Bologna Venezia in contemporanea con l'obiettivo di contrastare questo sfruttamento delle case e come lo fa? lo fa sostanzialmente in tre modi primo certificando tutti gli host perché è un problema di Airbnb è quello delle truffe e chiaramente questo è un tema importante per questo loro procedono con la certificazione dei chi mette a disposizione le case e poi metà del loro margine invece di Tascansero lo danno a dei progetti sociali che sono definiti insieme alla comunità di appartenenza inoltre hanno creato anche un sistema di ambassador li chiamano così sono dei referenti con i quali ci si può confrontare per cercare di costruire il proprio progetto all'interno di un territorio ovviamente utilizzano una piattaforma che è simile a quella di Airbnb sostanzialmente e il loro obiettivo è quello di renderla open source per creare questo grande movimento alternativo anche perché si basano sul consumo critico quindi è difficile perché non neghiamo il fatto che lo dicono anche loro i loro host usano Booking e Airbnb quindi qua c'è comunque un problema mentre chi va su FairBnB fa una scelta esplicita quindi c'è comunque un problema in merito ai consumi poi l'esuoso de passage è una cooperativa francese che in realtà nasce da un gruppo di cooperative del turismo che si opporono di turismo sostenibile che vanno usando una piattaforma e sono tutte cooperative che sono anche attiviste fanno attività di ricerca a favore dei diritti umani e il loro obiettivo è proprio quello di coinvolgere la comunità attorno a dei temi di turismo sostenibile quindi non solo aiutare quelli che magari non hanno le risorse per fare delle vacanze perché comunque il turismo sostenibile oggi è accessibile solo da chi è ricco sostanzialmente perché è comunque un'esperienza a sé che è strutturata a un suo mercato loro vogliono tornare all'idea di turismo sostenibile accessibile da tutte e quindi valorizzare anche quelle aree in determinati territori che non sono ad oggi valorizzate e anche dare spazio a chi oggi non lo trova più nelle grandi città come gli studenti che cercano un alloggio chi ha dei parenti malati deve stare vicino all'ospedale i rifugiati i lavoratori stagionali hanno anche loro una piattaforma ma una cosa interessante è che la stavano facendo come Booking Airbnb e poi hanno detto non basta e hanno deciso di decodificarlo cioè la stanno dedigitalizzando perché si sono resi conto che tenere i dati delle persone fare la segra sicurezza affrontare tutti questi temi non era etico e quindi hanno deciso di cioè stanno pagando delle persone per togliere il codice cioè fanno il contrario infatti non puoi dire piattaforma ma devi dire interfaccia umana uomo uomo la chiamano così se tu dici piattaforma prima erano del movimento delle piattaforme cooperative poi si sono arrabbiati col sistema e alla volta e quindi anche loro ci sono dei modelli alternativi di ragionamento sulla tecnologia perché chiaramente ha degli impatti anche sulle persone l'ultimo esempio è l'agenzia viaggio Time World Travel di Doc Servizi Doc Servizi è una cooperativa di artisti che è stata fondata a Verona nel 1990 e questa cooperativa oggi ha circa 7000 artisti tecnici dello spettacolo danzatori danzatrici attori la cosa interessante è che l'agenzia viaggio è stata creata dentro la cooperativa da questo gruppo di artisti e di musicisti che avevano bisogno di viaggiare molto quando tu sei un artista o un musicista devi di solito anticipare i costi del tuo viaggio all'interno della cooperativa di cui fanno tutti parte invece i costi li anticipa la cooperativa e quindi riescono a gestire i loro viaggi molto meglio l'agenzia viaggio inoltre vende i propri servizi anche all'esterno fa logistica dello spettacolo e fa logistica dello spettacolo e fa anche altre attività come vendere i viaggi di nozze e tutto quello che è venduto all'esterno poi porta un margine che viene reinvestito all'interno della cooperativa quindi un'ulteriore fonte di reddito anche loro hanno una piattaforma questa piattaforma viene utilizzata soprattutto per per ottimizzare i viaggi dei clienti esterni ma la cosa interessante è anche che cercano di ridurre l'impronta dei tour l'impronta ecologica perché gestendo il tour di Laura Pausini questo non è un orfemismo è vero di Laura Pausini di Gianna Nannini in Italia all'estero questo è il livello perché è leader di mercato in questo ambito cerca di spingere le varie crew a utilizzare soprattutto i treni a fare carpooling cioè cerca di innovare anche in questo settore che forse avete idea ma vanno in giro con dei camion di materiale e quindi c'è davvero ci sono tante persone e tante cose che si spostano quindi concludendo ci sono dei vantaggi se ne usiamo il modello cooperativo ovviamente c'è il coinvolgimento delle proprietà locali nei processi decisionali e quindi il tentativo di creare di nuovo una dimensione di comunità all'interno delle pratiche turistiche e delle esperienze turistiche tentativo anche di fare dei sistemi economicamente sostenibili perché voi sapete che le cooperative vengono create per rispondere ai bisogni delle persone e quindi sono tendenzialmente dei sistemi che economicamente funzionano mettono in pratica disintermediazione quindi invece di aggiungere intermediari come fare B&U l'obiettivo è quello di togliere in modo che tutto il provento tutto il rendito vada alle persone che poi effettivamente svolgono il lavoro l'obiettivo ce l'hanno almeno queste tre che ho studiato poi bisogneranno dire perché non è che ce ne sia mille comunque non so cioè 120 di mezzetti ah sono un po' ci sono piccoli però vabbè si inizia così e l'obiettivo ovviamente tutte queste hanno quello di minimizzare l'impronta ecologica di valorizzare gli artigiani le persone che lavorano sul territorio di utilizzare le piattaforme in modo che siano costruite attorno ai bisogni dei lavoratori e di chi le usa e quindi non per estrarre valore e anche valorizzando le diversità dei vari contesti con vari impatti a livello sociale io qua chiudo su chiaramente e veramente chiudo non era questa era questa scusate ok come vi ho detto sono piccole non sono la panacea di fronte al problema delle grandi piattaforme cioè non riesce a risolvere i problemi l'Unione Europea che sta facendo una direttiva su platform work un po' mucca purtroppo quindi non è che sono le cooperative che possono risolverlo ci sono dei limiti finanziari economici democratici è difficile anche replicare la democrazia tipica delle cooperative dentro le piattaforme le logiche strattive alle volte comunque detto questo però è importante secondo me sapere che questi modelli esistono e che ci sono delle alternative cioè la cosa importante magari per Airbnb non è che sia perfetta ok ho fatto anche delle critiche al modello però almeno esiste cioè noi ci sono delle alternative che possiamo utilizzare per andare in vacanza magari non sono così economiche come Airbnb ma in realtà non è così diverso se voi andate a vedere sul sito magari non sono ovunque però ci sono delle soluzioni quindi ai quattro coraggiosi e coraggiose che non avevano usato Airbnb io consiglio a questo punto di provare magari a utilizzare FairBnB grazie grazie mille Francesca per questo spaccato di soluzioni di mutualismo che vanno nel digitale perché poi in realtà abbiamo parlato di forme piuttosto tradizionali che decidono di contendere il campo ai colossi che è certamente una bella sfida allora abbiamo ancora una decina di minuti prima della pausa franzo che possono essere utili a raccogliere qualche domanda dal pubblico prego mi sentite? forte e chiaro la domanda è per le piattaforme di supporto sociologico psicologico c'è PI questa piattaforma di intelligenza artificiale personal intelligence fatta da un tale che si chiama Nel Taffar Sovereign di inflection che si pone esattamente allo scopo adesso lo vengo direttamente a fare un piccolo ricerche allora è stato progettato esclusivamente per conversazioni di passate di supporto e informativo quindi è personal interesse si interfaccia con whatsapp quindi uno ce l'ha in tasca e parla come se parlasse con un amico cioè invece di mandare un amico lo manda a chi hai la domanda è questa che importanza e che influenza possono avere queste soluzioni nelle piattaforme di supporto psicologico e in seguito grazie le raccogliamo direi prego in realtà ne avrei una per tre recente ecco ecco era questa sostanzialmente su quella questione per cui in realtà siano i gruppi di estrema destra razzisti xenofobi o suprematisti a essere i campioni dell'utilizzo della cosiddetta resistenza online io vi farei qualche domandina nel senso che non mi sembra un fatto casuale dice ah è aperta è neutrale e vincono quelli lì vincono quelli lì perché sono chiaramente strumentalizzati inutilizzati da quelli là e da qui viene la domanda sull'effettivo senso di un'idea di resistenza mediata in un campo di gioco che è completamente definito da altri dopodiché io non voglio fare quello che evoca scenari terribili e catastrofici però mi pare abbastanza chiaro che se si va a giocare nel campo del nemico dopodiché vinci se fai il gioco del nemico stesso e perdi anche molto male se fai il gioco che dovrebbe andare contro questo e questo mi si allaccia un po' a quello che diceva adesso Martimelli perché certo la cooperativa la cooperativa rischia a sua volta di diventare fortemente mimetica è una bellissima parola ma è una parola a sua volta super cooptata guarda le coop la coop sei tu le peggio infamie dal notav a chissà quant'altro vengono fatte esattamente da quegli assetti di potere lì che hanno un'area cooperativa e le cooperative quelle oneste sì per carità esistono ma restano legate a un margine io non so se si riesca a fare lo scaling utilizzando i sistemi i sistemi tecnologici la verità è che le persone sono disabituate a confrontarsi umanamente fisicamente attivizzarsi e in quel quadro di senso lì non c'è nessuno che va neanche a vedere se esiste Fair B&B piuttosto che se esiste Generazioni Futuro esiste questo o quell'altro elemento cooperativo innovativo la cooperativa a sua volta viene cooptata dal sistema allora questo mi lega forse molto a quello che diceva sul ludismo il nostro Tadovani nel senso non per fare ma la resistenza una volta si diceva che abbiamo fatto la resistenza in pantufla anche durante il 43-44 sono stati tanti intellettuali che hanno fatto la resistenza in pantufla e quando poi la resistenza è stata vinta sono diventate le star del nuovo sistema democratico ecco non vorrei mai che si finisse a farlo un po' in pantufla grazie è più una riflessione e poi se c'è ancora qualcuno così poi lasciamo spazio io ho due domande molto puntuali ma possiamo riparlarle anche a pranzo una è per l'Anna Pais e volevo sapere se ci sono in Italia esempi di piattaforme pubbliche di iniziativa di amministrazioni locali di cui si parlava prima sempre per l'Anna Pais e per Francesca Battini invece questa idea di piattaforme private dei servizi e dei lavori di cura o piattaforme cooperative mi chiedo si scontrano e se si in che termini con uno dei problemi classici dell'economia di piattaforma cioè winner's take all perché Ivana Pais ha fatto dei numeri che sembrano almeno forse perché siamo in una fase di strutturazione del mercato anticipata forse è questo non lo so mi chiedo mentre per Francesca la domanda è un po' più consistente perché per B&B è bellissimo ma ciò può fare a uscire dalla trascurabilità e da nicchie veramente micro micro grazie grazie posso prego per il professor Tadova nel suo rapporto tecnologia e sostenibilità non può servire che non si parli di sostenibilità perché è veramente un tema che viene banco anche a proposito dell'intelligenza artificiale si sono già sollevati molti commenti molte voci che richiamano a quello che discorso relativo a tutto quello che è l'impiego di energia di materie prime che è necessario poi anche per i microchip che dovranno essere vediamo come le società ne realizzino le varie compagnie anche Apple fanno in house quello che prima magari veniva esternalizzato ecco una sua sommaria valutazione ci stiamo muovendo nella giusta direzione che cosa ne pensa sulla rilevanza che stiamo dando ad ora e in prospettiva a questo tipo di discorso grazie allora io direi facciamo un giro di tavolo mi pregherei di stare nei tempi e poi non so Emiliano se vuoi aggiungerti anche tu per dire ancora due parole va bene allora direi partiamo dal tavolo e poi dare vuole iniziare ma come inizio io allora inizio ma non ci sto andando da nessuna parte no mi pare chiaro che è tutta una enorme bolla di greenwashing quello che ci stanno vedendo ma è assolutamente chiaro ma dalla coppia 28 abbiamo visto soltanto per inserire questa frasetta dell'uscire fuori come l'hanno chiamata come dire dal fossile non se ci stanno hanno discorso 15 giorni su sta cosa per cui mi pare molto chiaro che dal capitalismo fossile non se ne esce però questo significa che non si esce dal capitalismo cioè il problema è noi utilizziamo lo chiamiamo capitalismo fossile perché ci dà in mano uno strumento di più per criticarlo ma in realtà è sempre la stessa cosa che diventi verde o fossile eccetera non cambia assolutamente niente il problema è come dire è dedigitalizzare dobbiamo uscire da questa cosa il problema è veramente fare una setta definitiva utilizzare solo quel poco che è necessario io posso capire che dobbiamo fare un problema di se ci dobbiamo muovere per fare una cosa per andare al lavoro o invece lo facciamo online che cosa cambia non cambia quanto rispondiamo in termini di energia ma guardate bene queste sono soluzioni che non possiamo delegare sempre la tecnologia a digitare le piattaforme eccetera ma dobbiamo cambiare il sistema di vita della città dobbiamo cambiare il sistema della mobilità della città la gente non può continuare a fare stare in macchina due ore eccetera dobbiamo cambiare completamente non abbiamo assolutamente il coraggio di farlo quando ragioniamo di sanità di prossimità si ragionava durante il covid 19 cosa siamo stati in grado di fare la cittadina della salute siamo stati in grado di concentrare i servizi non si fa altro nelle città non c'è una capacità veramente di pensare alla sostenibilità urbana e ci affidiamo appunto a soluzioni tecnologiche quando abbiamo un problema politico lo deleghiamo alla tecnica quando abbiamo un problema di natura come dire no che ne so di natura anche di consenso deleghiamo al digitale faremo struttureremo la blockchain per migliorare ai servizi non c'è nessuna idea concreta su come agganciare le persone alla propria fisicità alla materialità delle proprie vite si tende sempre continuamente a separarle cioè separiamo gli ambienti dove viviamo da quella che invece è il modo in cui operiamo e il modo in cui pensiamo cioè questo mondo è proprio quello dettato come raccontava Marx in un passaggio fondamentale il problema dell'astrazione è il problema della concretezza il concreto è la complessità delle nostre vite ma ci offrono soluzioni ma ci offrono teorie ci offrono anche metafisiche e ontologie che sono completamente astratte ma che hanno conseguenze reali allora quando noi invece abbiamo bisogno di lavorare sul concreto di confrontarci con la concretezza ci danno in mano un'astrazione potente tecnica la tecnologia il digitale il denaro il no ci danno in mano la pubblicità ci danno in mano ciò che ci distoglie e che però diventa l'occasione e la modalità con le quali organizziamo le nostre vite io non vorrei chiamarle un'altra cosa che è il denaro cioè la più grande astrazione che oggi esiste sulla faccia della terra ed è assolutamente mobile io sono d'accordo con prima non c'è più la serie economy ma non c'è neanche l'economia circolare anzi c'è già l'economia circolare ci siamo inventati un femmismo per dire qualcosa che c'è già il denaro circolare è il più circolare del denaro non c'è sul pianeta c'è già l'economia circolare in termini di materialità noi possiamo recuperare il 10% dal punto di vista termodinamico di quello che estraiamo dalla natura il 10% su 90 miliardi di tonnellate di materia prima all'anno le possiamo recuperare 9 questo è l'orizzonte come dire termodinamico energetico sulla quale possiamo prontare voi capite che il problema non è andare avanti costantemente aggiungendo dobbiamo togliere togliere ridurre dobbiamo ralentare basta l'accelerazione dobbiamo dedigitalizzare uscire fuori da questo incubo sei brava guarda veramente guarda è stata bravissima non mi piace va puntuale allora piattaforme di intelligenza artificiale per consulenza psicologica non le abbiamo studiate perché avevamo già abbastanza studiato tutti studiato i rider noi avevamo tutto il resto e quindi no l'unica cosa che ho intercettato che va un po' in quella direzione guardando cosa sta succedendo alle piattaforme di consulenza psicologica all'estero si stanno diffondendo invece tantissimo delle piattaforme tra pari per esempio le università le stanno adottando tanto in Inghilterra anche il sistema sanitario pubblico l'idea è una piattaforma dove tu entri non parli con l'intelligenza artificiale ma parli con un altro se sei uno studente parli con un altro studente lì hanno dei meccanismi di intelligenza artificiale per intercettare delle parole che sono segnali soprattutto rispetto a comportamenti autolesionisti e atteggiamenti di questo tipo a partire dai quali poi subentra lo psicologo che legge le conversazioni se c'è bisogno entra quindi il livello è peer-to-peer con intelligenza artificiale che monitora le conversazioni e su cui poi c'è l'intervento umano questo si accettano spiegano nelle condizioni che è finalizzato questo scopo le persone le persone accettano però c'è un intervento dell'intelligenza artificiale appunto di questo tipo che interviene intervengono cioè lì nei termini di servizio dicono che intervengono soprattutto quando ci sono rischi per autolesionismo o suicidio sostanzialmente questi sono i livelli però si sta diffondendo tantissimo cioè queste piattaforme in Italia ancora non le abbiamo all'estero invece c'è questa piattaforma che si chiama Together All che è stata adottata in tantissime imprese in tantissime università è proprio un fenomeno importante non so se prima o poi dovremmo trovare ci troveremo a ragionare su questo anche da noi no c'era una domanda no piattaforme pubbliche sì allora per esempio a Milano c'è questa piattaforma che si chiama WeMe che fa questa cosa cioè tu vai e trovi servizi che ti servono con i fornitori che sono le coperche di accreditare dal comune poi invece a livello nazionale c'è il consorzio di cooperative il consorzio CGM che è un grande consorzio di cooperative che ha fatto una piattaforma che si chiama WelfareX che in realtà è un white label che poi viene utilizzato sui diversi territori perché loro hanno Welfare Biella Welfare Sondre cioè i vari piattaforme territoriali in questo caso è una piattaforma fatta da un'impresa privata in collaborazione col consorzio di cooperative e poi a partire da questa piattaforma fanno accordi con i comuni quindi non è una piattaforma del comune ma sono piattaforme di questa impresa creata anche da consorzio CGM che poi fa accordi con il comune logica winner say call allora dicevo adesso abbiamo tantissime piattaforme e nella maggior parte dei settori non vediamo tendenza alla concentrazione un po' perché un mercato lo dicevi che si sta nascendo adesso per cui osserviamo perché è un po' quello che è successo anche in passato in altri settori prima tantissime piattaforme poi è arrivata la multinazionale e hanno chiuso tutte è rimasta solo la multinazionale qui non lo sappiamo cioè i dubbi che ho riguardano la frammentazione territoriale dettata dal sistema regolativo cioè sui servizi sociali su alcuni aspetti abbiamo una regolazione locale che può impedire dei meccanismi di diffusione delle piattaforme a livello nazionale e quindi l'ingresso dei multinazionali però boh non lo sappiamo veramente campo degli psicologi per esempio dicevano ne sono nate tantissime però è anche vero che per esempio uno bravo tende al monopolio abbiamo ne sono nate tante tante che copiano uno bravo proprio copia e incolla come l'abbiamo visto in altri settori in altri momenti adesso però devo dire che mentre prima c'era Serenis che sembrava potesse essere un competitor negli ultimi nisi dopo che ha preso questo investimento in venture capital uno bravo sta tendendo un monopolio bisognerà capire cosa succedere di tutte le altre che sono nate da poco grazie grazie ho imparato adesso adesso allora da cooperatrice attivista sono estremamente consapevole della retorica che ruota attorno al modello delle cooperative che però non colpisce l'SRL allo stesso modo quando ci sono i banditi o quelli che non rispettano dei principi civili di rispetto della comunità però quando è la cooperativa che lo fa è sempre peggio ok lo capisco perché ci riferiamo dei principi e dei valori che sono altissimi nell'universo e perché parafrazzando il secondo imperativo categoricato di Kant la persona per noi è il fine e non è il mezzo e però non è sempre facile realizzarlo quando entri in un mercato ipercompetitivo in cui gli altri non valorizzano questo tipo di ragionamento e fanno esattamente il contrario non è che tutte le SRL sono negative ci sono anzi degli esempi fantastici perché in realtà sono i valori quelli che poi fanno una differenza e ci sono sicuramente delle cooperative degenerate perché è così perché oltre a le false cooperative che sfruttano un modello cooperativo perché ha dei vantaggi economici importanti finanziari per cui non paghino le tasse se dimostri determinate cose ci sono anche dall'altro lato delle società di capitali normali che hanno dei valori molto importanti e che portano avanti dei modelli quindi in realtà alla fine io forse mi interroguerei di più sul senso dei valori che portiamo avanti nel momento in cui organizziamo un'impresa o un'attività imprenditoriale poi il modello cooperativo si fa portatore di determinati valori e quindi è chiaro che c'è molta più pressione su questo però perché gli altri non dovrebbero cosa che è legittima le altre società a non dover portare avanti dei valori io questa cosa da filosofa non la capisco semplicemente però appunto poi quando si entra nel mercato che è la seconda domanda mi piace tantissimo perché se lo chiedi per B&B ti diranno sì sì cioè lo facciamo cioè ti rispondo in un modo se lo chiedi a me io penso che non siamo un modello che funziona nel senso che ve l'ho presentato perché secondo me è importante conoscere le alternative noi dobbiamo essere consapevoli che non è che c'è solo un mondo uniforme e allora presuppongo che la maggior parte delle persone qui studi e faccia ricerca quindi siete proprio dal lato di quelli che studiano anche delle alternative e studi i modelli per poi raccontare anche qualcosa di diverso perché sennò siamo tutti uniformati ed è anche un po' un po' pesante un po' noioso però è chiaro che quando si entra in un modello di mercato che è capitalista all'estremo non è che le cooperative c'entrano in un modo diverso il mercato è quello sono solo organizzate in modo diverso questo deve essere chiaro con valori diversi quindi cos'è il problema di per B&B che tra l'altro ha dimostrato una paese ancora con il fallimento della sharing economy che è stata bravissima perché dopo anni di sostegno al modello ha anche fatto autocritica che non è da tutti quindi questo po' anni di scelita di dire accidenti questa cosa non funziona è anche il tema del fatto di basarsi su un consumo critico non è sufficiente quindi quando voi vedete una cooperativa che fa che cerca di fare monopoli o lavorare contro i monopoli o usare i dati in modo estrattivo di fare determinate cose allora questo è il criterio forse c'è qualcosa che non va e non perché necessariamente non ha dei valori dei principi però all'interno del mercato gli altri lo faranno sempre meglio perché non hanno scrupoli posso dirla anche qua oralmente e quindi sostanzialmente è un criterio secondo me importante è capire che quando se si vuole uscire da questo modo di ragionare bisogna proporre delle soluzioni crescono davvero i bisogni delle persone medicina di prossimità tema della medicina di prossimità è adesso stanno cercando di fare delle cooperative di medici di base ma in tutta Italia l'Ega Cop è uno degli obiettivi che ha per questo mandato il nuovo presidente proprio perché i medici di base non riescono più a lavorare sono consapevoli ci sono delle associazioni di medici di base che vogliono organizzarsi in cooperative per condividere le risorse avere la segretaria centralizzata e magari aggiungerci anche un cardiologo o altri medici che possono essere utili nell'immediato e questo chiaramente sono soluzioni sono piccole non sono sufficienti ok ma voi cosa state facendo ce lo chiedete a noi e basta di trovare le soluzioni ai problemi del mondo no ognuno deve fare la sua parte e anche fare uno sforzo per informarsi e cercare di conoscere qualcosa quindi per me è importante avere questa avere avuto questa opportunità chiaramente di parlare di questi temi che forse sono un po' diversi rispetto a quello che sentite di solito grazie allora Maurizio Borghi alla cui volontà io proprio mi piego rinvia la risposta di Emiliano Torea a domanda magari in questo momento in cui ci muoviamo insomma parlatevi perché vogliamo chiudere e quindi io vi ringrazio davvero ringrazio i nostri ospiti e lascio semplicemente perché abbiamo l'urgenza abbiamo l'urgenza di catering ci fa un po' di pressione andremo a pranzo e ci ritroviamo qui alle due mi raccomando puntuali alle 14 grazie bentornati bentornate o benvenuti se siete arrivati ora alla professione pomeridiana della conferenza in Excel io sono Antonio Vetro modellerò il primo pane del pomeriggio dal titolo comunità e tecnologie appropriate condivido l'idea che abbiamo avuto di trattare questo tema per andare per cercare di capire insieme ai nostri ospiti e insieme a voi quale differente concetto di produzione della tecnologia o di avvertamento della tecnologia abbiamo a disposizione per quello che è uno degli obiettivi della giornata immaginare nuove nuovi digitali possibili per farlo ci siamo agganciati al concetto di tecnologie appropriate ci parlerà di questo concetto il professor Walter Franco che è docente qui al Politecnico di meccanica applicata alle macchine presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Walter Franco insegna nei corsi di Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile Ingegneria Umanitaria e Meccanica per il Design appliceremo poi vedremo un'applicazione dei concetti di tecnologia appropriata che quindi è un concetto che non arriva dal mondo digitale ma vedremo poi questo come questo può essere poi declinato con Carlo Milani che è informatica appartiene al Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità elettriche qui alla mia sinistra saggista hacker molto altro lo scopriremo insieme ha scritto vari saggi l'ultimo che ha portato anche qui è tecnologie conviviali proprio il tema che vogliamo trattare oggi in ambito digitale andremo andremo a vedere come laddove ci sia invece la domanda non sia come costruire in modo appropriato le tecnologie ma la domanda è come adattarlo in maniera utile e rispettosa per le comunità di riferimento andremo a vederlo insieme alla professoressa Brunella Fiore che insegna l'Università di Milano Bicocca insegna sociologia della famiglia sociologia dell'educazione promotrice insieme ad altri di parti digitali che ci spiegherà poi che cosa sono in realtà che sta esplodendo direi in Italia e ci citerà di più lei tra poco quindi questo vi ho presentato il che interverrà nel palo e nell'ordine perché abbiamo seguito questa costruzione logica nel trattare la tematica quindi iniziamo proprio con Walter Franco a cui do volentieri la parola ecco pronto si sente? si bene intanto grazie ovviamente per l'invito e per me è veramente un onore spero di non essere pure il luogo come già anticipato Antonio io sono un ingegnere meccanico quindi insomma parlerò come forse ha fatto Dario Padovan questa mattina della parte hardware che sta dietro alle tecnologie che sono trattate in questo bellissimo convegno mi occupo di macchine appropriate di tecnologie effettinate sotto forma di macchine di dispositivi appropriate forse anche macchine resistenti usando un linguaggio che deriva dalla mattinata che ho trovato veramente molto stimolato allora oggi in questi quarto d'ora venti minuti vorrei provare a dare una definizione diciamo rigorosa o quantomeno esaustiva del concetto di appropriatenza di tecnologia quindi faccio un escurso che è anche un escurso un po' storico vedrete una bibliografia un po' datata ma sono come dire concetti che hanno avuto un percorso di tipo carsico quindi erano ben chiari negli anni settanta poi sono scomparsi e attualmente a mio avviso stanno diventando di nuovo attuali quindi insomma recuperiamo e ripartiamo da quelli che erano le conoscenze precedenti allora per fare per introdurre questo concetto partirei con un esempio molto concreto il tema che uso come esempio è quello del diritto delle persone disabili fisicamente disabili di poter accedere a percorsi fuoristrada ci chiediamo quale tecnologia possiamo provare a concepire per permettere una persona con disabilità fisica di fare delle passeggiate in luoghi non strutturati la letteratura ci fa vedere che esistono diversissime carrozzine che sono adatte a fare dei percorsi fuoristrada da quelle interamente manuali a quelle elettriche magari anche molto raffinate come quella che vedete qui sulla sinistra una carrozzina che si basa sul modulo del segway quindi con un monoasse che ha un equilibrio instabile gestito da un sistema di controllo molto raffinato il problema è che poi quando entriamo in zone più difficili portiamo avanti il ragionamento a territori più complessi tutte queste soluzioni entrono in crisi quindi si apre una questione tecnologica una domanda tecnologica la questione è che tecnologia appunto possiamo sviluppare come ingegneri che possa dare risposta a questa domanda di tipo primaria ora volevo farvi vedere un paio di esempi il primo intanto ognuno di voi pensi a una soluzione possibile il primo è quello che io penso che il 99% degli ingegneri dei corsi hard del politecnico concepirebbe cioè un sistema quello che vi faccio vedere è un robot quadrupede che è concepito dalla Boston Dynamics la Boston Dynamics è un'azienda di robotica americana che ahimè opera nell'ambito militare ma poi ha delle ricadute civili come spesso succede in queste applicazioni di tipo tecnologico sviluppa questi robot quadrupedi qualcuno di voi avrà visto anche il Big Dog che è un mulo che può portare 150 kg che si arrampica su 35 gradi di dipendenza insomma fa delle cose straordinarie non cade mai eccetera quindi uno potrebbe immaginarsi di partire da questa tecnologia e di adattare poi una carrozzina quindi dare le gambe a chi le gambe non le ha questo è un primo approccio possibile ma in realtà ci si potrebbe anche immaginare di avere un approccio diciamo molto diverso dal punto di vista come dire dell'intensità tecnologica ma non della finalità che poi la tecnologia ha cioè si potrebbe immaginare questo che vi faccio vedere è un'attività di ricerca che stiamo conducendo che abbiamo avviato a partire da un'esigenza un'idea che arriva dal territorio la persona che vedete condurre questo asinello è Luciano Elina di un'azienda agricola del Cuneese si occupa di turismo sommeggiato ha esperienze di turismo con disabili e propone di adattare questa che è una carrozzina monoruota di una ditta francese si chiama Jape Jolette la carrozzina la ditta di tipo francese che la costruisce di adattarla ad esempio alla attrazione animale con l'idea di creare una piccola comunità di umani e non umani che possa permettere alla persona disabile di raggiungere questi territori così difficili qui come vedete quello che salta fuori da questi esempi così un po' provocatori è che spesso come technology abbiamo una visione della tecnologia come dire un po' deterministica lasciatevi passare questo termine cioè abbiamo un po' l'idea che esista soltanto sempre una soluzione univoca che soddisfi un bisogno primario invece in realtà non è così ce lo siamo un po' dimenticati in questo fatto ed è un fatto che negli anni 70 era decisamente chiaro questa pubblicazione che cito di Willoughby che tratta poi il tema della tecnologia che partendo proprio da questo tema della complessità tecnologica e del tema della scelta della tecnologia è un testo degli anni 90 in cui Willoughby ci spiega proprio questo fatto che ogni volta che è presente un problema di tipo tecnologico esiste una vasta gamma di soluzioni possibili e adattabili questa gamma tra l'altro cresce se la comunità di progettisti è una comunità sensibile consapevole quindi permette di aumentare le possibilità di scelta e succede però questo che se i due esempi che vi ho fatto vedere prima la carrozzina quadrupe del robotico e quella trazione animale monoruota probabilmente risolvono il problema primario cioè quello di raggiungere un sentiere di montagna con la stessa bontà con la stessa efficacia le cose cambiano quando iniziamo a aprire invece gli sguardi a quelli che sono gli aspetti secondari cioè se mettiamo sul piatto della bilancia altri criteri di scelta e altre ricadute che la tecnologia ovviamente ha ad esempio il robot della Boston Deinemis sebbene eccitante dal punto di vista veramente tecnologico costa 75 mila dollari e quindi richiede come dire degli investimenti che non sempre sono alla portata e quindi non è una tecnologia che si può diffondere sul territorio mentre la Jolette adattata probabilmente potrebbe avere un costo di 2-3 mila dollari ma poi c'è anche un tema legato all'origine della tecnologia una centralizzata e l'altra diffusa una che è abilitante rispetto a questo tipo di processi e l'altra che invece è disabilitante quindi tutte queste serie di criteri possono entrare a far parte di una matrice di scelte ma ciò che è importante e qui volevo arrivare è che questo processo di scelta consapevole della tecnologia è un processo di cui le comunità a mio viso si devono riappropriare questa mattina è emerso più volte negli interventi della mattinata anche una certa come dire impotenza di fronte proprio alla privazione da parte dei soggetti singoli e comunitari di poter invece dire qualcosa in termini tecnologici ci dobbiamo ricordare che la scelta consapevole dei mezzi tecnologici è una scelta che fa parte del percorso di tipo politico e quindi dobbiamo creare dell'humus perché le comunità si riappropriano di questa parte politica fondamentale altrimenti abbiamo a che fare con comunità che sono meno democratiche di quanto lo potrebbero essere tutta questa promessa serve a dare una prima definizione di tecnologia appropriata noi possiamo definire una tecnologia come appropriata se è una tecnologia che è sviluppata a valle di un processo di scelta tecnologico consapevole da parte di una comunità in un determinato luogo e periodo quindi è importante la concestualizzazione della tecnologia non esiste la tecnologia ma esistono le tecnologie la varietà di tecnologie che a seconda dei contesti se sono in grado di soddisfare dei usiti psicosociali e biofisici prevalenti in un determinato momento allora risultano essere appropriate questo è un concetto poi per entrare più a fondo nel concetto di tecnologia appropriata però dobbiamo fare ancora un passo indietro cioè dobbiamo andare all'origine perlomeno quello che la letteratura ci dice essere l'origine di questo movimento qualcuno fa risalire in realtà le origini addirittura a Gandhi al movimento insomma gandiano della promozione di una tecnologia che sia apportata dei simboli ma la maggior parte delle persone cita Schumacher non so se lo conoscete l'economista non so chi in sala ne ha già sentito parlare Ernest Schumacher che in questo saggio che ha raccolto però un percorso di studi che è durato un paio di decenni dagli anni da 55 diciamo almeno agli anni 70 arriva alla conclusione che in certi contesti in particolare di povertà e di marginalità sia necessario provare a ragionare su tecnologie che lui definisce di tipo intermedie cioè tecnologie che si collocano fra le tecnologie elementari tradizionali delle comunità e le tecnologie di frontiera tipiche della produzione industriale di quel momento e Schumacher dice ma sarebbe interessante provare a vedere se possiamo aprire proprio degli studi delle ricerche su tecnologie che da una parte coniugano o meglio migliorano la produttività delle tecnologie tradizionali ma dall'altra parte non richiedono investimenti di capitali che sono tipicamente ingestibili dalle comunità e conservino quindi l'autonomia delle comunità di gestire queste tecnologie con un approccio soprattutto legato all'intensità lavorativa dei soggetti questo è un po' l'ambito in cui si muove Schumacher questo saggio piccolo e bello come vedete ha come sottotitolo uno studio dell'economia come se la gente contasse qualcosa ecco questa idea di Schumacher è un successo straordinario il concetto di tecnologie appropriate è un concetto che deriva direttamente dalla tecnologia intermedia lo stesso Schumacher riconosce che intermedio è un termine che lascia spazio come dire ha una incomprensione sembra intermedio dal punto di vista qualitativo quindi rivede la sua definizione di tecnologie appropriate e tecnologie appropriate rimangono poi nella letteratura ma con una serie una gamma di declinazioni che qui ho parzialmente raccolto su cui vorrei fare il focus su alcune delle quali vorrei fare il focus anche perché sono elementi poi che aiutano alla discussione generale quindi partiamo da tecnologie intermedie come avevo appena definite ma parliamo poi di tecnologie conviviali di tecnologie di comunità e poi cercherò di far emergere alcuni fattori comuni che possono darci una mano possono essere di sostegno poi una discussione spero che si indescrivano c'è anche il tema della radicalità intesa come critica della tecnologia ma attenzione non facciamo confusione non vuol dire che nessuno è contrario alla tecnologia si tratta soltanto di studiare a modo approfondito quelle che sono l'implicazione della tecnologia e quindi puoi fare delle scelte tecnologiche di tipo consapevole secondo quel processo di Willow di cui ho cercato di fare una sintesi ora passiamo proprio al primo concetto quello di convivialità il concetto di convivialità è stato introdotto da Ivan Illich che qui mi piacerebbe sapere se conoscete il filosofo forse siamo proprio in una sala come dire particolare perché in queste presentazioni che mi capita di fare in giro ecco se sto parlando di questioni che normalmente sono del tutto sconosciute e lo stesso vale per gli studenti e allora vado breve Illich è filosofo austriaco che ha fatto una critica molto dura e molto attuale alla nostra società e insomma nei suoi saggi in particolare in questo saggio che in italiano è tradotto come la convivialità saggio del 73 introduce proprio il concetto di convivialità definendole come l'opposto della produttività di tipo industriale lui pone proprio in contrapposizione le due modalità i due approcci all'organizzazione sociale se la produttività industriale implica l'avere la convivialità in parte dall'essere quindi sono le comunità che consapevolmente individuano il loro essere e poi indirizzano come dire con azioni a cui danno significato le loro attività produttive quindi si ribalta completamente il paradigma questo ribaltamento del paradigma è quello che poi ci permette anche come dire di poter esplorare le zone che altrimenti diventano inesplorabili ed è una come dire un percorso necessario se vogliamo provare a andare a dare lo sguardo in voi che ci sembrano inguardabili se rimaniamo nel paradigma della produttività di tipo industriale e lui parla anche quegli strumenti che sono conviviali e che rispondono a questo requisito di mettere le persone nella condizione di potersi esprimere liberamente parla proprio anche di categorie di lavoratori tra cui l'artista è quella per eccellenza quello che fa un lavoro più appagante e lo fa fischettando mentre il manovale è fatto canticchiando l'operaio dicendo delle parolacce delle bestemmie secondo questo è secondo me abbastanza divertente come semplificazione ecco in questa letteratura del tempo vedo Martin perché mi ha fatto vedere una copia vera io poi purtroppo ho trovato solo delle copie usate ma è introvabile ma insomma conosco conoscevo questa pubblicazione Radical Technology che è un po' iconica l'ho riesumata perché in realtà dentro questa pubblicazione ci sono delle rappresentazioni grafiche fatte da Clifford che sono delle visioni stiamo parlando attenzione degli anni 70 76 che a mio avviso hanno un'attualità straordinaria quindi proprio questo percorso classico di cui vi parlavo prima acque che si inabissano e poi cambiando nuovamente le condizioni del contorno possono riemergere e almeno riacquistare il significato che avevano perso negli anni 90 e 2000 in cui non si poteva neanche parlare di queste cose ad esempio il tema degli orti il tema degli orti è un tema che è estremamente attuale guardo Antonio perché so che non so se si possa dire la moglie lavora con Slow Food e segue proprio il tema degli orti urbani sia in ambienti domestici soprattutto quelli africani ma l'importanza dell'orto come ad esempio modello di produzione di cibo conviviale è ormai riconosciuto perché l'orto permette di produrre del cibo a basso costo di ottima qualità e in modo diffuso con consumi energetici inimmaginabili con approcci di tipo industriale dell'agricoltura ad esempio allora se noi ci affacciamo a questo tema possiamo anche pensare come adesso vedete qui sulla immagine di trovare a sviluppare piccole tecnologie intermedie quella della treviatrice pulitrice su cui stiamo lavorando come dipartimento di meccanica per la treviatura e pulitura di piccole produzioni cereali uso familiare sperimentate ad esempio nell'orto collettivo della realtà produttive conviviali anziché di tipo industriale siamo a livello omeopatico sono soltanto messaggi non ancora concreti ma insomma il messaggio siccome ha un significato sempre in queste visioni vi faccio notare che sempre nel 76 i tetti delle case avevano dei pannelli solari fra cui i pannelli solari termici ora chi in quegli anni era già a zillo sa che questa cosa non esisteva quindi era veramente una visione non esisteva tant'è che la Casa Bianca ha installato i primi pannelli solari nel 79 sotto la presidenza Carter e poi Reagan ha subito pensato con la scusa di fare una manutenzione straordinaria nel tetto di farli sparire nel 86 e poi sono ricamparsi non si è capito bene se soltanto con Obama forse prima ma in realtà se sono comparsi prima non è stato detto troppo perché non stava bene perché allora l'idea era che le energie rinnovabili dovessero essere centralizzate e non diffuse non di tipo comunitario questo è come dire soltanto una visione di tipo comunitario e di tipo conviviale permette di far emergere una tecnologia che guardate dal punto di vista tecnologico era già matura alla fine dell'ottocento quindi attenzione anche al tema dell'innovazione perché l'innovazione è un passo cioè da avere l'idea ma poi metterla in pratica richiede che la comunità sia in grado di recepirla di riconoscere di darne valore questo è un percorso importante vado veloce perché vedo che il tempo scorre implacabile produzione diffusa anche questa sembra una cosa scomparsa ma guardate che questa è un'esigenza tipica delle persone tant'è che nelle città ormai da dieci anni abbiamo ridato valore e significato ai fab lab il fab lab fa figo mentre l'officina del palazzo fa sfigo non è così perché sono comunque luoghi di comunità in cui i saperi dialogano ed è possibile fare delle piccole produzioni qui in queste immagini vi faccio vedere un altro studio che stiamo facendo sui mulini delle nostre vallate centinaia di casi di sistemi produttivi delocalizzati a impatto energetico zero abbandonati negli anni settanta che a nostro avviso potrebbero avere una nuova vita come piccole produzioni ad esempio questa magnifica segheria questo bellissimo tocchio che vedete in queste immagini del Puneese della valle in particolare ora arrivo e devo concludere ai giorni nostri non è solo letteratura degli anni settanta quella che parla di tecnologie appropriate qui vi faccio vedere questo saggio che è appena uscito nel 2022 proprio sull'innovazione e il tema dell'appropriatezza delle tecnologie rivolto sì allo sviluppo internazionale ma in realtà comunque si può anche declinare questo tipo di approccio e nelle nostre realtà locali noi abbiamo fatto diversi esempi per quanto riguarda il tema dell'agricoltura contadina nelle nostre vallate prestigiosi università internazionali si occupano da tempo l'MIT con questo D-Lab dal 2003 mi sembra 2002 si occupa proprio di questi processi di contaminazione delle comunità nel ridare loro la dignità della capacità di essere autosufficienti o quantomeno di avere delle capacità produttive locali questo creative capacity building il co-design cioè il mettere insieme le competenze per cercare di portarle a frutto chiudo qua anche se avevo altre cose da farvi vedere ma casomani ne parliamo dopo della discussione perché se no provare avanti si ok allora ne approfitto perché abbiamo ancora due tre cosette che potranno essere oggetto allora questa è la sintesi delle proprietà delle tecnologie appropriate derivate dalla lettura dell'immensa letteratura insomma il concetto è che non abbiamo soltanto requisiti legati alla costruzione uso e manutenzione ma partiamo da requisiti di tipo psicologico e sociale individuale ad esempio la qualità del gesto lavorativo l'autonomia del lavoro la piacevolezza nella percezione la possibilità di condurre la macchina sono tutti requisiti che gli utenti desidererebbero avere e che richiedono le tecnologie che sono costruite in modo collettivo poi l'ovvio tema di tipo ambientale ma qui declinato forse in chiave ancora più dura e più radicale è la questione economica di cui non sa niente ma che passa spesso attraverso processi di comunità anche e non processi di tipo centralizzato allora nella conclusione che cerco di fare in due minuti butto lì dei flash primo flash le comunità naturalmente sono fuori aere di innovazione queste due macchine che vedete la sgusciatrice togli ricci delle castagne di sinistra e stacca foglie di origine di destra sono due macchine autocostruite che abbiamo raccolto nella nostra analisi dell'agricoltura contadina in Italia una in Valle di Susa e l'altra a Pantelleria le comunità fanno innovazione il problema è che questa innovazione spesso è singola e rimane lì invece ne parlavamo fare rete e creare comunità dà un valore aggiunto l'atelier Paysanne un'associazione francese di contadini che rivendica il diritto di autocostruire le macchine sui bisogni specifici delle singole aziende e fa dei veri e propri manuali che sono poi messi a disposizione delle collettività esistono dei siti con l'approccio open source c'è proprio un movimento che si chiama open source appropriate technology che è quindi un open source hardware in cui centinaia di macchine sono scaricabili e peraltro costruibili ma anche modificabili e migliorabili dalla comunità questo è un processo secondo me molto interessante potenzialmente da sviluppare ultima forse questione è il tema della retroinnovazione siamo convinti che appunto l'innovazione sia il motore del nostro benessere cioè si può fare solo ciò che è nuovo ciò che è vecchio non va fatto questa pompa la Barsha Pant ha vinto un prestigioso premio della fondazione Siemens nel 2016 è una pompa che nasce per un paese di sviluppo tipicamente che è azionata da una turbina cinetica che prende l'energia cinetica da un flusso d'acqua in cui è messa a galleggiare e poi è costituita da un tubo che è avvolto a spirale ed è azionato quindi da questo prodotto ottima idea tant'è che appunto avrà vinto questo premio di innovazione peccato che fosse già presente nei manuali di ingegneria idraulica nel 1849 ora questo non è che tolga valore alla Barsha Pant è che dobbiamo riappropriarci della possibilità di dire che facciamo anche come dire operazioni di retroinnovazione e che queste hanno un valore nel momento in cui la tecnologia è usata la tecnologia non vale perché è nuova ma è perché è usata questo è il significato lo dicono anche molti storici della tecnologia ultimo veramente concetto che voglio ancora condividere è un low tech pride l'orgoglio del low tech anche il low tech che generalmente è come dire considerato di secondo valore hanno avviso invece importante cioè se questa treviatrice per riso indiana serve milioni di famiglie il suo miglioramento ricade immediatamente su centinaia di milioni di persone quindi fare innovazione o fare ricerca scientifica dall'ambito dell'or tech abbiamo visto è una delle missioni che abbiamo anche nelle scuole di ingegneria come la nostra finisco qua perché ho fatto troppo per le dubbi grazie 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 a Walter Franco per questa magnifica introduzione al concetto di tecnologie compriate come definirlo digitale come è già definito possibile carlo milani grazie dell'invito sono convintissimo di ritornare qua non ho mai stato qua ma a Nexa sono passato quando mi chiamavo Ippolita adesso mi chiamo Circe sono passati più di dieci anni e sono cambiate delle cose però anche non tantissime per cercare di spiegare quello che faccio e che facciamo per semplificare le cose dico che facciamo gli hacker non che siamo hacker che facciamo gli hacker perché l'idea è che si può essere hacker ed è importante essere hacker e diventarlo insieme hacker di tecnologie digitali in particolare ma non solo quello che fa Walter per me è hacking cioè prendere delle macchine più o meno antiche più o meno belle più o meno funzionanti e adattarle a una situazione nuova sulla base dei bisogni e con alcuni parametri eccetera che tra l'altro mi andrò a studiare meglio perché non avevo ben chiaro tutta questa filogenetica ricostruzione grazie perché dico che è importante diventare hacker insieme perché abbiamo un po' l'abitudine a pensare che le tecnologie ci cadono dall'alto e quindi che l'innovazione appunto arriva in realtà l'innovazione è qualcosa che ci viene un po' imposto quindi ormai non si può più tornare indietro dai dispositivi digitali cellulari dagli smartphone dalle social media eccetera eccetera anche se sappiamo lo sappiamo possiamo dirlo i social media gli smartphone e alcune altre cose che passano per essere delle innovazioni sono in realtà i contrari di un'innovazione conviviale sono sicuramente delle innovazioni industriali che stanno producendo dei disastri enormi io sono molto d'accordo con la questione del non si può tanto uscire proponendo delle innovazioni che sono minimali liminali e marginali però orgogliosamente noi rivendichiamo una certa marginalità non nel fare delle cose piccole ma nel fatto che ciascuno nel suo piccolo può fare delle cose per sé e per le persone che gli stanno intorno conviviale riprende un po' la terminologia di Illich togliendo la parte di austerità perché io non mi sento una persona austera tra l'altro utilizzo l'insulina biosintetica del capitale globale che mi faccio da più di 30 anni quindi voglio dire sono proprio dentro fino al collo ma mi piacerebbe poterlo fare nel sottoscala di casa mia l'insulina cioè avere la possibilità di sintetizzare ormoni e di distribuirli perché no perché si può fare solo delle tecnologie ultra sofisticate che solo pochi possono gestire l'idea di hacking ha a che fare con trovare delle altre strade e nel conviviale qual è il passaggio che io vedo un po' che vediamo un po' con il nostro gruppo Circe la parte conviviale è il fatto di trovarsi attorno a uno strumento a una soluzione a un gioco tecnico ho cambiato completamente la presentazione che volevo fare dopo aver sentito l'ho successo stamattina penso che si veda vi faccio vedere due cose vi do due esempi di cose che noi consideriamo conviviali il primo è quello che usiamo sempre nelle formazioni che è un pad immagino che molti di voi conoscano un pad vi faccio vedere questo molti di voi conoscano i pad qualcuno non ha mai sentito parlare di pad tutti avete sentito parlare di pad perfetto questa cosa qua noi la riteniamo una tecnologia conviviale questa è una istanza che di framapad che è un'associazione di amici francesi si fa il nostro pad e lo chiamiamo e lo chiamiamo anche così diciamo next 23 ok poi per farlo perché è conviviale questo? allora innanzitutto per renderlo veramente conviviale deve diventare una cosa più facile a cui adesso voi potete accedere io ve lo posso dire non è conviviale avere questo nome qua così quindi io posso andare su vado lì per esempio che è fatto da altri amici e gli dico l'ur corto è next 2023 l'ur da accorciare questo lo creo quindi d'ora in poi noi sappiamo che se adesso voi volete andate su next 2023 punto vado punto lì potete arrivare qua dentro e possiamo interagire alla pari in questo spazio questo spazio è conviviale secondo me perché primo non ha una gerarchia d'accesso quindi non c'è login e password secondo è free software quindi posso modificare questo questo strumento come voglio qualcuno ha fatto criptopad eccetera eccetera terzo in questa gerarchia di accesso non c'è neanche una questione identitaria se per esempio avete un gruppo di studenti o di persone o di adulti o di bambini che ha difficoltà ad esprimersi o che al contrario c'è sempre quello che vuole primeggiare questo è un ottimo modo per appiattire la gerarchia perché qui dentro io posso mettere il mio nome ma posso anche mettere il nome di qualcun altro e posso mettere il presidente della repubblica ok posso cambiarmi colore posso cambiare il modo in cui e tante altre cose ok se è un ottimo strumento anche di ricerca perché si vede subito qual è l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tecnologie le persone sono molto diverse nel loro fare con le tecnologie nel loro mettersi in relazione ci sono i mistici i mistici sono quelli che dice spegniamo e riaccendiamo e poi succederà poi ci sono gli ingegneri senza voler nulla senza aver nulla conto di ingegneri però generalmente gli ingegneri dicono c'è un manuale questo manuale va letto compreso capito al limite che mi è andato se ci sono dei problemi e si seguono le regole poi ci sono gli smanettoni gli smanettoni sembrano simili agli ingegneri ma in realtà è tutta un'altra razza non leggeranno mai il manuale ma ci vogliono mettere sulle mani smanettarci proviamo poi ci sono i diciamo luddisti primitivisti giurassici io li chiamo che è a quanto si stava meglio quando si stava peggio quando non c'erano tutte queste diavolerie ovviamente sono caricature generalmente le cose si incastrano tra di loro però è importante ricordarci che ogni essere umano ha un approccio suo alle cose quindi io ho delle vulnerabilità ognuno di noi ha delle vulnerabilità ed è importante qualcuno oggi ha citato la parola materialità ricordarci che noi siamo dei corpi materiali che hanno a che fare con altri corpi materiali ergo come dire dire a dei ragazzini per esempio smetti di stare lì a smanettare e vai a giocare a palloni in questa bella giornata o non abbiamo capito cos'è il sistema dopaminergico e l'autoabuso indotto dal fatto che scrollare cliccare è fichissimo ed è molto meglio di qualsiasi partita di pallone a livello di godimento personale del corpo della persona oppure siamo un po' ipocrite e mentre che noi facciamo su Accademia controlliamo quanti quante qual è il nostro livello di visualizzazione nel grande gioco delle visualizzazioni perché ognuno ha il suo livello di gamificazione possibile ognuno ha il suo livello di vulnerabilità in cui viene toccato da questo sistema di cui tutti facciamo parte beh è importante ricordarci che ognuno è diverso ma ognuno è vulnerabile cosa proponiamo come tecnologia conviviale proponiamo qualcosa che tenda ad azzerare la gerarchia ricordando che la gerarchia c'è e la gerarchia tutto sommato è importante cioè è importante sapere che quando si rompe qualcosa c'è un backup e qualcuno ha fatto un backup chi l'ha fatto il backup su che macchina funziona il backup perché a un conto è se il backup è dall'altra parte dell'oceano su quei cavi che attraversano l'oceano per inciso settimana scorsa dall'università fare una brevissima lezione di quelle che ogni tanto mi fanno fare in giro dei colleghi e ho fatto dieci anni di fare questo quiz come hai fatto ad arrivare dall'altra parte dell'oceano con internet e propongo radio come Guglielmo Marconi cavi sottomarini e satelliti l'ho scritto anche nel libro tecnologie conviviali quindi non è un segreto il 99% degli studenti è sbagliato perché erano solo 30 ma diciamo il 90% degli studenti ha risposto satelliti ovviamente quindi c'è un'ignoranza rispetto alla materialità che è straordinaria se quello continua a buttare su satelliti a dire che sono fondamentali per l'internet libera democratica capite che il livello di confusione cresce esponenzialmente si potrebbe fare che il data center invece di essere dall'altra parte dell'oceano sta sotto casa o sotto l'università certo che si potrebbe sarebbe furbo farlo sì sarebbe furbo per tante ragioni rimane il fatto che dovremmo abbassare di molto la produzione di dati inutili cioè 10.000 20.000 30.000 foto delle vacanze scaricate sui social le test regolarmente e così via quindi questa è una cosa semplice si può replicare e così via io dico hacker perché a noi hacker piace il potere ci piace poter fare delle cose ci piace poter dire delle cose laddove gli altri non hanno diritto di parola farti il tuo microfono e poterlo dire a tutti è bello il potere non è una cosa brutta per me per noi il potere è bellissimo ma un conto è se il potere viene accumulato per creare gerarchie oppressive un conto è se il potere viene diffuso attraverso reti di mutuo appoggio solidale Illich Bookchin e così via il mutuo appoggio è un'idea evoluzionistica creata inventata cioè studiata da uno scienziato che si chiama Kropotkin che non è antroparentese anarchico questo mi spiace succede a molte di queste persone succede di essere anarchiche di dichiararsi essere riconosciute come anarchiche e secondo me non è un caso anche agli hacker succede probabilmente per la stessa ragione non a tutti ovviamente la maggior parte di quelli che si dichiarano hacker che vengono riconosciuti come tale lavora per i servizi per le mega multinazionali per la guerriglia la cyber war eccetera quindi rimane il tema dell'uso e dell'abuso e dell'auto abuso quello che voglio sottolineare è che la convivialità cioè il fatto di costruire un simposio come avrebbe detto Platone è una questione che bisogna organizzarsi perché se diciamo ognuno porta qualcosa e io porto il vino e ognuno di noi porta il vino finiamo tutti ubriachi ma tra l'altro non c'è neanche un bicchiere dove berlo perché qualcuno deve anche portare bicchieri qualcuno deve mettere il luogo qualcuno deve portare a mangiare e questa cosa qua è l'organizzazione l'organizzazione ha a che fare con l'organum ha a che fare con l'ergon ha a che fare con il lavoro che sono tutte cose collegate fra di loro e la tecnica ha a che fare esattamente con questa cosa qua cioè ci viene spacciata spesso con un sistema per far andare più in fretta le cose ma manda un vocale prima salendo in ascensore mi è arrivato un vocale mi è venuta questa cosa succede che ti triggerano ti toccano un punto e vulnerabilmente io ho risposto con un vocale per fortuna per fortuna in ascensore non prendeva il telefono quindi non potuto mandarlo quello che voglio dire è che anche con le migliori intenzioni personali e i migliori modi di fare personali nei confronti della tecnologia la tecnologia oggi come oggi è una questione di rete è una questione collettiva è una questione di società e quindi i cambiamenti devono essere necessariamente a livello sociale questo è proprio evidente non è il simpatico piccolo consumatore consapevole che cambierà le cose ma sono dei cambiamenti strutturali che però possono essere innescati da ognuno di noi e da ogni comportamento personale lo dico perché sono molto d'accordo anche con l'idea che non è che siccome i buoi sono scappati dalla stalla allora smettiamo di giocare con le tecnologie io vorrei continuare a giocare con queste tecnologie anche perché dall'alto del mio privilegio di vivere in un posto in cui posso fare più o meno quello che voglio perché è un passaporto in regola eccetera eccetera mi sembra al minimo allora la non provocazione che vi lascio ma una cosa che vi lascio un secondo esempio di tecnologia conviviale il primo è quindi Etherpad Lite che vi scaricate e vi installate sul server e noi facciamo tanti giochi di attivazioni con questo strumento che funziona molto bene non usate solo quello di Framma perché sennò Framma Soft vi dice scusate come ha fatto durante la pandemia al governo francese gli ha detto scusi signor governo perché dice a tutte le scuole di usare Framma Pad governo francese puoi fare una cosa tu e il governo francese ha detto ah sì va bene ok Google Docs come governo italiano giusto? quindi voglio dire siamo proprio lontani l'università siamo proprio lontani mille miglia dalla cosa ma una proposta di tecnologia condiviale che riprende l'idea di retro non so se retro futuro ma retro tecnologia cioè riscoprire una cosa vecchia è una cosa che abbiamo appena fatto che l'ho appena fatta stamattina per farvela vedere e si chiama Blob Blob è un sistema di aggregazione basato sugli RSS che è una tecnologia ho fatto questa pagina stamattina che sono tutti post di Nexa che cosa fa questo sistema? dice il 40% dei siti web mondiali sono fatti con Wordpress Wordpress implementa di default RSS RSS è un protocollo desueto perché adesso abbiamo delle cose più fighe tipo activity pub tipo un sacco di altre cose però RSS c'è è molto leggero è facilmente replicabile purtroppo non è standard questo è un bellissimo problema ma noi ci abbiamo un po' trafficato ci abbiamo messo anche le immagini delle RSS quindi io posso avere un sito che emette RSS lo stesso puoi avere tu e tutte le organizzazioni federate con te e quello che noi facciamo qui è mettere una fonte la fonte in questo caso io l'ho presa proprio da Nexa ho preso questo link dove ci sono i feed RSS sul sito di Nexa lo messo qua dentro io gli posso dire adesso stiamo cominciando a farlo gli posso dire quali tag far vedere e quindi vedete che qua vengono fuori qua non vengono fuori i tag perché questi i vostri post di Nexa non sono taggati questi invece sono solo i tag delle fonti che ho selezionato che riguardano pedagogia hacker e cose e tecnologie conviviali sono solo questi infatti sono pochi vedete invece questi sono tutti perché hanno tutti i tag anche altre cose sono una decina di fonti ora qual è il punto primo che queste cose qua noi stiamo dicendo alle persone cura il tuo sito web fallo bene e soprattutto mettili dei tag che io possa capire se tu gli metti un tag che io comprendo poi posso mettergli un altro tag di sopra quindi un'etichetta per categorizzare le cose poi se ti piace questa cosa qua tu puoi farti dei filtri immaginati di essere una grande fonte un grande centro di ricerca c'hai le tue 50 fonti privilegiate poi le selezioni con i tuoi tag e poi dici le integro nel mio sito vado su share ecco qua e mi dico vabbè facciamo che voglio dark mode perché sono così voglio anche la cosa così mi prendo questo piccolo snippet di codice per chi sa cosa sono su un web component è un web un po' moderno comunque è come youtube e google map fare copia e incolla e sul mio sito compare questo vi faccio un altro esempio dovete fare un sito per il vostro progetto di ricerca che voi professori avete vinto con grande dispendio di tempo e ve l'hanno finanziato finalmente e vi chiedono ovviamente di fare un sito web che ovviamente voi sapete che morirà subito dopo la fine del progetto quindi è proprio uno spreco assoluto e allora riunioni su riunioni su che cosa useremo useremo wordpress no usiamo grupal no è meglio farlo statico eccetera eccetera poi devi pagare qualcuno che fa la grafica poi viene l'atto a parte se non difficile impossibile chiedere ai vari partner del progetto di darti dei contenuti apposta per quel sito ci avete mai provato? non è facilissimo diciamo così la nostra idea sarebbe bisogna fare delle riunioni per capire come taggare i contenuti dei siti che già esistono dei vari partner del progetto più convincerli a mettere un feeder se è fatto bene che non è facilissimo perché hanno tutta una serie di problemi tecnici ma non è così difficile a quel punto noi possiamo raccogliere il loro post fare la selezione mettergli intorno una bella cambiare diciamo questa parte qua cambiare l'involucro ma il contenuto è originariamente quello che viene prodotto per il sito quindi invece di creare un sito apposta che morirà subito dopo alla fine del progetto avremo spinto le persone a curare il proprio sito chiudo che cos'è il proprio sito è come il proprio orticello è come l'orto comunitario se è il sito di una comunità è come un server comunitario perché devi fare usare il cloud di qualcun altro che è il computer di qualcun altro in un data center con dei militari intorno quando potresti farti un server a casa tua su scala del condominio dell'associazione della cooperativa dell'azienda dell'università del dipartimento eccetera eccetera queste cose qua possono scalare molto rapidamente con il nostro collega Panos Panagiotis di Zurigo abbiamo parlato di organic internet nel senso di spingere un po' la metafora del cibo perché siamo un po' nella condizione in cui per ritornare all'immaginazione alla resistenza eccetera cerchiamo di immaginarci delle altre cose in realtà probabilmente queste cose sono già state immaginate l'RSS l'abbiamo già fatto da Mo e la pompa l'abbiamo già fatta ancora da prima e così via quindi si tratta un po' di guardarci indietro più che di guardarci avanti e però guardarci indietro anche per abbassare i livelli di consumo eccetera eccetera e però con un'immaginazione importante cioè che non devono essere delle soluzioni che valgono per tutti e sempre perché questo è l'imperativo del mercato puoi scalare e servire almeno un miliardo di utenti? no tipo no però un miliardo di utenti potrebbe usare questa cosa qua se ognuno si fa il suo piccolo serverino cosa che è molto più logica dal punto di vista produttivo dal punto di vista anche del consumo dell'informazione delle cose mirate eccetera quindi ognuno può fare la sua parte noi stiamo cercando di fare la pedagogia hacker per dire che è bello fare gli hacker e è brutto usare le cose che usano tutti è brutto usare google classroom brutto e oltretutto non è rispondente al GDPR quindi possiamo anche usare la leva legale volendo cioè ci sono tanti tipi di argomentazioni che si possono usare oltre google perché sono abituato a parlare mai di google come spare sulla croce rossa se posso usare tanti altri esempi quindi noi aspettiamo dei suggerimenti da parte degli utenti noi siamo quelli che lavorano sulla riga di comando noi abbiamo bisogno di persone che ci dicono no ma guarda la riga di comando è brutta è tutta nera dici delle cose facci questo abbiamo questo bisogno però non può essere il bisogno di cioè non siamo d'accordo per esempio con il monitoraggio il controllo eccetera eccetera quindi se c'è bisogno di mettere le body cam addosso alle persone per controllarle meglio e farle produrre di più abbiamo un problema di fondo al di là del capitalismo e soppeglianza grazie scusate grazie per averci fatto vedere toccare anche quasi con mano cosa può significare il concetto di tecnologia appropriata in ambito informatico finora siamo stati nell'ambito della produzione ci sono contesti in cui la produzione l'autoproduzione non è sempre possibile o non è così facile e per cui la questione è come adottare la tecnologia quindi rimaniamo in ambito digitale ma con un'altra prospettiva guardiamo il digitale da prospettiva disciplinare della della sociologia ci ci parlerà di un contesto molto specifico come Brunella Fiore il contesto scolastico soprattutto nei primi anni delle scuole dove soggetti vulnerabili sono esposti in maniera molto precoce alla tecnologia allora lì si può innescare quello che Walter Franco nella sua presentazione ha chiamato un processo di scelta consapevole un processo collettivo di scelta e di adozione quindi adesso lascio la parola a Brunella Fiore che ci parlerà di dipatti digitali allora buongiorno e ringrazio i miei colleghi perché ci sono tantissimi ganci con le loro presentazioni da dove inizio allora io vi parlo di questa esperienza non è un progetto un'esperienza bottom up nel senso che parte dall'università ma coinvolge delle associazioni questo vi dico chi vado un po' random con le slide delle associazioni quindi ci siamo noi dell'università di Milano di Cocca che insieme al professor Marco Gui lui insegna cose legate ai nuovi media io mi occupo invece di famiglie e istruzione quindi Milano di Cocca attraverso il centro benessere digitale abbiamo questa associazione che si chiama MEC media educazione comunità è friulana solo working è un'associazione di di mercati quindi interlando milanese e poi abbiamo IART associazione di cittadini mediali allora cosa è successo a un certo punto a un certo punto è successo che molti di noi sono anche genitori di ragazzi adolescenti preadolescenti bambini ancora più piccoli ed è andato un pochino come succede spesso quello che sta succedendo spesso davanti alle scuole cioè che i genitori si guardano intorno e dicono va bene adesso tu quando è che primaria quando darai lo smartphone connesso alla rete a tuo figlio quando pensi che sia giusto ma io vorrei resistere vedere come va vorrei aspettare un attimo ma no invece glielo do perché adesso inizierà ad andare a scuola da solo io glielo devo dare il telefono devo sapere dove va con chi è quindi è iniziata così la cosa dopo di che noi circa un anno e mezzo fa ci siamo visti da remoto e perché appunto siamo dislocati un po' in parti diverse e abbiamo iniziato a dire va bene vediamo cosa succede c'erano state due esperienze precedenti una in Friuli e una in Mercate di genitori che avevano deciso di parlarne di mettersi insieme e di provare a rimandare la consegna del telefono ai propri figli la nostra vita con il supporto di alcuni ricercatori dell'università appunto il professor Marco Vui con il monitor sono stati seguiti da lui hanno deciso insieme di darsi delle regole di darsi delle regole rispetto a quando dare il telefono ai propri figli quindi questo primo esperimento è andato molto bene c'è stato un gruppo di genitori che ha portato avanti questa cosa si era dato alla soglia dei 12 anni si era dato una serie di regole la prima era appunto rimandare almeno fino all'inizio della seconda media il telefono un telefono connesso alla rete ai propri figli un telefono in autonomia e circa un anno e mezzo fa appunto a seguito di questo incontro abbiamo ci siamo detti proviamo a vedere di fare una convenzione insieme e vediamo abbiamo questa iniziativa e vediamo se raggiungiamo la decina di patti su tutto il territorio nazionale vediamo se arriviamo a dieci patti insomma vi anticipo ripeto vado un po' random è stata è stato un boom è una cosa che ci sta un po' sfuggendo dalle mani anche perché noi abbiamo anche altri lavori in università molti di voi lavorano dentro l'università quindi sanno già di base cosa c'è questa cosa è veramente un po' sfuggita di mano a noi perché noi lo sapevamo avevamo intuito che c'era un bisogno grandissimo da parte delle famiglie di di saper gestire questa cosa con i propri figli bambini bambini anche molto piccoli e bambini preadolescenti lo sapevamo poi io insegno sociologia della famiglia quindi posso quello che la letteratura ma non solo la letteratura la nostra ricerca empirica continua a mostrare è che le famiglie sono sempre più sole nel prendere le decisioni vi faccio un altro esempio e soprattutto sono investite di responsabilità rispetto a quello che diventa poi un cittadino in futuro sempre più è responsabilità dei genitori le scuole che tradizionalmente erano dei partner degli alleati stanno diventando dei luoghi sempre più burocratizzati motivo per cui la responsabilità finale è sempre in capo alle famiglie quindi abbiamo una crescita di processi di isolamento delle decisioni e di presa in carico delle responsabilità delle famiglie rispetto alle scelte allora qual è il contesto in cui abbiamo deciso di andare avanti con questa iniziativa abbiamo visto che c'era c'è in atto un'anticipazione costante dell'accesso a libro a internet dei minori questa è una prima base di partenza se lo smartphone fino a non lo so perché è talmente recente questa questione dello smartphone però fino a pochi anni fa si dava alle medie alle superiori ecco noi stiamo vedendo che lo smartphone ai bambini viene dato sempre più precocemente però ci sono indicazioni contro divergenti rispetto a filoni differenti che dicono se è giusto dare la tecnologia in mano a un bambino presto o se invece è giusto ritardare ecco ad esempio sulle scuole anche l'ultimo PNRR il PNRR sta investendo una quantità di denaro sul digitale enorme sono anni che si investe tantissimo sull'acquisto di strumenti digitali nelle scuole manca il monitoraggio la valutazione di impatto di questi strumenti su però le prime ricerche ci sono anche però una serie di ricerche che mostrano come non sta andando tutto bene non sta andando tutto bene sia in termini di effetti sulla salute dei ragazzi salute fisica intendiamo problemi alla vista problemi posturali quindi questo è un ambito che interessa soprattutto i pediatri che tra l'altro ne stavo parlando prima con Antonio noi ci occupiamo della fascia terza primaria terza media i pediatri stanno insistendo tantissimo per dire dovete occuparvi di una fascia prima dai 0 ai 6 perché ci sono tutti questi problemi anche fisici cognitivi cioè il fatto di tenere un telefono in mano nel passeggino io ne ho vista una di signora l'altro giorno al supermercato che aveva non so se anche qua in Piemonte adesso vai a fare la spesa hai lo spazio per il telecomando io lo chiamo telecomando insomma il coso che spari sul codice a bar ho avuto la tentazione di andare lì e dire signora però su figlia si può guardare intorno mi sono fermata perché non so da un genitore anch'io e so cosa vuol dire fare la spesa con calma senza un bambino che urla mentre fai altre cose quindi mi sono fermata detto questo le indicazioni sono divergenti ma iniziano ad esserci evidenze che non va tutto bene non va tutto bene appunto sulla salute non va tutto bene sugli apprendimenti non va tutto bene sulle dipendenze vere e proprie prima Carlo diceva è verissima questa cosa è un appagamento immediato il fatto che tu hai una risposta immediata dal tuo telefono questa cosa veramente crea dipendenza quindi noi come adulti ci possiamo fermare i ragazzi non hanno cognitivamente ancora delle barriere per limitarsi per fermarsi quando le emozioni sono troppo forti i genitori come dicevo in tutto questo sono sono soli si sentono soli sappiamo che ci sono delle leggi ad esempio sull'accesso ai social media in teoria per legge non si potrebbe accedere ai social prima dei 13 anni questa normativa è sistematicamente disattesa quindi dicevo iniziano ad esserci delle evidenze scientifiche sui problemi che crea la tecnologia torno a ripetere ci sono visioni divergenti anche da parte dei pedagogisti da un lato dei psicologi dall'altro sociologi ancora un'altra visione delle cose noi stiamo iniziando a scrivere su questo e non siamo contro la tecnologia questo io lo voglio sottolineare non siamo a priori contro però riteniamo che sia necessario regolare soprattutto educare gli adulti alla fine perché il problema è che anche per gli adulti questo è un mondo nuovo è uno strumento che anche agli adulti crea dipendenza per tanti motivi no? riusciamo quindi noi siamo con questo progetto proponiamo l'idea di darsi delle regole iniziare a capire insieme darsi dei limiti o comunque decidere insieme i tempi giusti per la tecnologia soprattutto se rivolta ai ragazzi siamo per preparare all'autonomia digitale offrire regole chiare e dialogo e soprattutto prima dicevo questo progetto rivolto che appunto non si può chiamare progetto ai bambini e ai preadolescenti ma in realtà è un modo per educare gli adulti quindi è un modo per creare una autoresponsabilizzare gli adulti anche sui propri comportamenti proprio perché i ragazzi ci guardano ci imitano e traggono da noi tutta una serie di comportamenti per questo riteniamo che serva una comunità cioè questa cosa si può fare solo insieme perché? perché da dove nasce questa cosa? c'era l'immagine della scuola l'idea è che una delle questioni principali è che se anche c'è il desiderio di un genitore di voler andarci piano quando all'interno di una classe uno, due, tre ragazzi iniziano ad avere il telefono inizia a esserci pressione sul singolo genitore affinché scuole proprio sparato affinché anche il proprio figlio chiede questo telefono proprio per non sentirsi escluso senza parlare poi stiamo portando avanti anche un discorso con le scuole perché anche le scuole stanno imparando a comportarsi a gestire la tecnologia potrei farvi tanti esempi ma vado ho perso il tempo quindi fatemi un segno quando quindi dicevo c'è stato un boom c'è stata una richiesta incredibile in un anno e mezzo non sappiamo perché ma si è diffusa veramente a macchia d'olio questa iniziativa quindi è partita da Friuli e Lombardia e si sta espandendo a tutto il territorio nazionale al momento abbiamo 70 gruppi attivati su tutto il territorio nazionale 40 patti formalizzati 10 patti circa una decina di patti via di formalizzazione oltre 4.000 genitori aderenti è veramente una media costante di dalle 4 alle 10 richieste settimanali su questa questione sono patti locali sono patti che partono prima dicevo bottom up abbiamo anche una supervisione top down ma è bottom up perché i patti sono locali si devono adattare alle esigenze delle comunità che cosa sono i patti? sono accordi formalizzati tra genitori dove solitamente ci si dà 2, 3, 4 regole che un gruppo di genitori decide di seguire per un po' di tempo insomma per un po' di tempo sono iniziative che inizialmente sono partite dalle famiglie ma adesso stanno partendo le richieste da tantissimi ambiti diversi quindi anche le scuole si possono fare promotori si stanno facendo promotori di patti associazioni di genitori istituzioni le parrocchie anche i servizi sociali e sanitarie abbiamo veramente tantissime richieste disparate quindi c'è una rete nazionale noi facciamo il coordinamento nazionale di solito funziona lo dico molto brevemente con i genitori che si mette insieme per avviare un patto lo propone alla comunità allargata e poi lo formalizza questo è un po' adesso monitoreremo questo progetto che appunto ci sta un po' sfuggendo non c'è una pianificazione delle attività stiamo guardando in etnere cosa sta succedendo quello che voglio sottolineare è che la richiesta delle famiglie è molto alta ci sono dei patti che si stanno attivando sulle scuole dell'infanzia tra questo i principi sottostanti sono la necessità di proteggere le relazioni per esempio a tavola senza schermi concordare sul tempo di utilizzo oppure leggere un libro prima di andare a letto sull'infanzia anche qui protezione dallo smartphone per tutta l'infanzia non riempire i momenti di noia con i dispositivi perché quello che diceva Carlo è molto vero noi ce l'abbiamo molto ben presente cioè la questione è che proporre spegni tutto e vai a fare altro vai a fare un gioco da tavolo tradizionale di quelli che facciamo e non funziona non funziona o meglio deve esserci più sforzo da parte degli adulti per coinvolgere in attività anche outdoor noi siamo molto per il promuovere le attività dove in accordo con i pediatri la tridimensionalità lo sguardo il guardare lontano è una delle cose che promuoviamo non pensiamo di poter raggiungere tutti noi anzi in questa iniziativa stiamo raggiungendo ovviamente i genitori più sensibili più scolarizzati che parlano italiano difficilissimo a raggiungere le famiglie straniere meno scolarizzate che anche sì magari appunto per le famiglie straniere abbiamo visto che questi sono strumenti cruciali di sopravvivenza e i figli sono dei mediatori per il raggiungimento anche con la comunicazione con le istituzioni il portale sanitario regionale spesso sono i ragazzi di 13-14 anni stranieri che consentono ai genitori di poter accedere e per questo serve uno smartphone quello che vogliamo fare è avviare il cambiamento culturale non abbiamo la pretesa di raggiungere tutta un'intera comunità ma il nostro obiettivo è avviare una riflessione avviare un cambiamento culturale e fare dei patti che siano che consistano nel un antidoto che siano un antidoto all'isolamento familiare quindi andiamo nella direzione opposta di quello che sta succedendo cioè l'idea di una presa in carico collettiva tornare a una presa in carico collettiva della responsabilità educativa i patti servono per offrire un concreto sostegno ai genitori nelle scelte che sentono perché magari c'è la percezione che questi strumenti come dire dati in mano a una ragazzina di 10 anni sono pericolosi pericolosi perché aprono un mondo che né il genitore né il ragazzo possono controllare possono monitorare da questa serie di patti sono uscite anche una serie di cose impreviste noi abbiamo chiamato generatività perché dai patti dalla ricreazione di comunità di genitori sono uscite stanno uscendo delle esperienze positive di socialità che non erano state previste queste no avevamo previsto il grande bisogno delle famiglie non avevamo previsto appunto questo effetto di generatività positiva di riscoperta della socialità che dopo la pandemia si è fatta particolarmente grave mi fermo qui poi se ci sono delle domande ecco questo è il patto è il portale del patto del portale nazionale attivigitali.it se avete bisogno di altre informazioni trovate tutto lì ok grazie alle domande commenti in sala quindi li raccogliamo volentieri allora c'è Francesca Martinelli poi passiamo c'è un microfono in sala che può girare giro io faccio prima grazie mille mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo il vostro panel grazie e in realtà una domanda per il professor Franco mi interesserebbe capire il concetto di tecnologia è veramente interessante vorrei sapere se ci sono delle riflessioni fatte anche sulle prototipazioni open source perché è un tema complicato perché facendo alcune ricerche su questi contesti anche in ambito cooperativo e mezzo quando si cerca di inserire l'open source poi si perde il vantaggio competitivo perché se vedi la tecnologia su cui costruisce quello che poi ti fa guadagnare il denaro che rende competitivo sul mercato diventa complicato però dall'altro lato c'è sempre questo desiderio anche di creare della tecnologia accessibile quindi questo è rosa anche per te come argomento e quindi niente questa è la mia domanda singoli su questo grazie ne raccogliamo alcune sì se venite qua poi rimarrà se volete ovviamente nella registrazione se non volete vengo io Paolo Gorghi Università di Modena Reggio Emilia avevo una domanda per Carlo non so se c'è una risposta adeguata perché è una questione complessa cioè quanto quanto in realtà tutta quella dimensione che non è convivialità che non è condivisione ma è profitto si appropria delle cose che la convivialità genera è una considerazione appunto su tutto il lavoro che voi fate che è qualcosa di immenso e di prezioso e come agite? grazie ce ne sono altre ok iniziamo allora ce n'è una Giovanni Edissa di Università di Torino grazie una nota margine più per la domanda veloce per l'inferimento al presento di Carlo grazie comunque sui tre bellissimi interventi un po' con ironia dicevi non è un caso che siano anarchici effettivamente su questo problema non è un caso che molte delle persone che hai citato che hanno citato le basi teoriche per il discorso che stiamo facendo vengono all'interazione anarchica perché secondo me non si parla che è una sorveglianza e si parla di capitalismo di raccopriazione eccetera si commette un errore teorico innanzitutto le questione politiche si discutono anche fuori di qui non solo anche qui si discutono però il problema teorico che io vi pongo è questo nella tradizione anarchica si vede meglio in aspetto alla tradizione marxista che dovete sapere di capitalismo si vede meglio che la questione è organizzativa come è stato dimostrato in tutto il termine cioè c'è uno spazio che va dentro noi lo vediamo vedendo con un'altra specie di mani questo spazio delle risorse più o meno scarse poi si decide già questo è la città politica e nell'organizzarsi si può essere si può dar vita a organizzazioni egalitarie lo soltanto durante tutto l'eolitico oppure dopo la svolta l'eolitica si è deciso che ci strutturiamo in collettivi organizzati ma questo per l'organizzazione è cruciale è cruciale proprio all'interno di una considerazione del ruolo il campo è la città sempre nei collettivi organizzati per il piano facciamo uso dei nostri strumenti che poi evolvano con un'ottima di varia politica eccetera in questo contesto allora il problema è chiedersi politicamente cioè l'analisi direi come ci si organizza si vuole essere un po' solitari o dar vita a strutture gerarchiche e questo è un problema che insomma piccolo hacker direttante di tanti anni fa o il mio sito ovviamente fatto come Giuna ho cercato anche di seguire il processo del microserver no? non si sente però sono finito non si sente dal fondo è schia ma devi parlare che c'è una pratica mi sentite? si ecco dicevo ho tentato anch'io la strada del microserver in autonomia però sono finito di una serie di pasticci che derivano dell'incapacità di gestire l'albero assistenza backup eccetera che indubbiamente devono tutti risolti purtroppo quindi volevo capire un attimo come era la posizione consigliata da questo punto di vista grazie ok accogliamo buonasera io sono Maria Letizia Filippi e faccio parte di un'associazione che si chiama Slow Web che promuove l'uso consapevole del digitale mi interessa si anche franco mi interessa approfondire il discorso di questi parti digitali perché come associazione facciamo molta formazione non ho capito bene il vostro cioè la comunità di genitori della scuola X si ritrova decide di fare un patto tra di loro non ho capito bene cosa serve per registrarvi con voi cosa fate voi non ho capito bene questo se può approfondire grazie direi possiamo fare un primo giro di risposte partiamo magari da te sì allora la allora provo a sintetizzare noi offriamo un primo momento di coordinamento in cui spieghiamo come possono strutturarsi perché spesso quando ci contattano hanno bisogno di capire come fare come fare a riunirsi proponiamo una serie di percorsi noi si troviamo nella primissima parte quindi proviamo ad aiutare i contatti che ci chiamano a partire quindi quello che facciamo è spiegare quali sono gli step che si stanno costruendo in questo momento per attivare un patto c'è tutto poi il problema del mantenimento del patto che si apre cioè una volta creato una comunità su questo patto su questo portale noi offriamo se voi entrate vedrete il link di ciascuna patto locale carugate c'è anche Torino c'è un bel patto grosso Torino adesso appunto non li elenco tutti però entrando lì dentro noi diamo la possibilità di accedere a una maschera di sottoscrizione quindi chi ci contatta può essere inserito all'interno del portale nazionale per avere un punto di riferimento sugli step successivi quindi noi facciamo questo lavoro di sovramonitoraggio di coordinamento nazionale in cui appunto diamo la possibilità di entrare in questa comunità e stiamo prevedendo dei momenti in cui ci confrontiamo tra patti questo per dire una delle tante iniziative che stiamo facendo e poi appunto dopo questo primo contatto con chi ci chiama gli suggeriamo come muoversi quindi come contattare la realtà locale come ragionare sul proprio patto quindi facciamo un incontro conoscitivo per loro in cui spieghiamo le finalità del patto spieghiamo che devono declinarlo sulla loro comunità specifica e dopodiché i patti si stanno ripeto sono una realtà veramente freschissima parliamo di un anno tenete conto che per avviare un patto mediamente ci sono 3, 4, 5 mesi di lavoro da parte di ogni comunità ora che si incontrano capiscono su quali contatti possono accoggiarsi che possono essere l'amministrazione comunale le associazioni del territorio la scuola che è un partner importantissimo la diffusione la creazione del patto il patto diffuso alla comunità e poi tendenzialmente quello che si suggerisce di creare dei momenti di monitoraggio che possono essere dei momenti formativi rivolte alle famiglie quindi ad esempio sul parental control noi riteniamo che sia uno strumento utile per aiutare a monitorare insieme ai propri fili l'autonomia tecnologica piuttosto che tante altre iniziative possono essere iniziative rivolte al coinvolgere i docenti e così via mi fermo perché dovrei continuare molto però se vuole poi ci possiamo sentire dunque la prima cosa vi apprenderei quanto l'esterno si riappropria del conviviale l'industriale si riappropria del conviviale che ha a che fare anche con la questione dell'adoptitazione open source quasi vent'anni fa scriviamo un libro come Polita che si intitolava open non è free cioè libero non significa aperto è una butade però il concetto è che ribaltando i termini macchiavellici il fine giustifica i mezzi noi diremmo che i mezzi devono giustificare il fine cioè se vogliamo fare una società conviviale i mezzi devono essere conviviali e qui i mezzi non possono essere riappropriati da certe cose faccio un esempio sì certo che i patti digitali li potrebbe fare anche Google perché no ti propone un bel form che tu compili poi ti da un badge poi ti da dei punti banana e quei punti di banana puoi andare nel coso di Google che ti da un drone che ti consegne costruite quello che vuole sopra di questo però l'esperienza fisica umana sociale concreta e le emozioni che fluiscono attraverso i corti e la costruzione della comunità che passa attraverso delle strutture fisiche materiali che sono gli esseri tecnici come direbbe Gilbert Simondon non sono le stesse detto questo questo è quello che io vorrei nella realtà dei fatti è certo che quello che facciamo sarà comunque riappropriato per esempio noi abbiamo fatto tutti i libri che io ho scritto prodotto sono pubblicati sotto licenze creative commons eccetera eccetera e sono stati usati per ottimizzare il machine learning delle cosiddette intelligenze artificiali inesistenti quindi è sicuro che questa cosa venga riappropriata però io mi metto dall'altra parte non è solo una postura è proprio quello che piace a me è dire a me piace essere dalla parte di quelli che a differenza della volpe e l'uva della volpe che dice ah vorrei l'uva ma non posso a me piace poter dire potrei cogliere l'uva ma non voglio questa cosa qua per me è abbastanza e non è solo un modo di dire nel senso che io posso leggere delle mail di qualcun altro però non voglio farlo e questa cosa mi fa dire ho il potere ma non voglio usarlo in un certo modo questo mi porta alla seconda questione che è faccio il sito da solo eccetera questo è un problema perché è problema dell'individualismo cioè che le cose si possono risolvere solo insieme agli altri perché tutti siamo sulla stessa barca la barca gigantesca del digitale eccetera eccetera quindi la cosa che diciamo noi è comincia dalle tue personali vulnerabilità e parla con i tuoi amici e con gli amici dei tuoi amici e con il gruppo di persone che ti sta intorno perché qualcuno non dico che avrà già risolto il problema ma probabilmente ci ha già pensato infatti immagino che nei fatti digitali rilegnano poi fuori delle cose e le macchine conviviali appropiate dei numeri reinventate regolarmente per essere poi riadattate quindi la domanda è sempre individuale il movimento primo è principale individuale ma poi c'è bisogno anche di livello collettivo non si possono affrontare delle questioni sociali pensando di ah modifico il mio comportamento e la società cambierà perché comunque viviamo insieme anche alle macchine questa è la cosa però io ci tengo a dire che bisogna lasciare il pessimismo per tempi migliori quando ci potremo permettere il pessimismo che è quando le cose vanno un po' meglio di come stanno andando adesso adesso invece abbiamo visto non è mia la battuta è una scritta sul manifesto anarchico a Berna nel 1970 così mi pare non voglio aver letto perché tanto quindi è molto importante che ognuno di noi ognuna di noi si senta che ciò che fa è importante non è irrilevante se io fumo una sigaretta e la butto per terra a un mozzicone o lo metto nella spazzatura non è irrilevante non è irrilevante se io decido di non fumare non è irrilevante se io decido di coltivare i miei pomodori non è irrilevante se io decido che i pomodori non li coltivo ma c'è un contadino di fiducia che è nostro amico da cui compriamo i pomodori non è irrilevante se facciamo una cooperativa con tutte le difficoltà del caso e vogliamo privilegiare alcuni amici produttori eccetera eccetera non sono cose irrilevanti quantomeno non per le nostre vite e questa secondo me è la cosa importante non è un accontentarsi ci tengo a dire secondo me c'è possibilità poi i ragazzi sono molto più svegli degli oggettori quindi si può fare sicuramente allora sì in effetti tra l'altro proprio recentemente ho sentito Filippo Barbera con il sociologo unito che dice che è il nostro imperativo morale di essere ottimisti in questo momento cioè dobbiamo comunque tirar fuori qualcosa di positivo perché non è il momento di essere catastrofico c'è troppo facile insomma e quindi concordo con quello che dicevi per quanto riguarda la domanda di Francesca io non sono sicuro di aver capito esattamente perché domani ne parliamo poi personalmente dopo sempre un attimo di tempo ma se la questione è il tema della prototipazione di come possa essere gestito questo tema fino alla produzione di questi tipi di macchie allora credo che ci siano diversi livelli su cui bisogna fare dei ragionamenti che vanno il primo è un livello come dire molto locale cioè ci sono delle comunità che hanno bisogno di dispositivi molto puntuali molto specifici tra l'altro in economia che spesso sono economie non formalizzate sono anche economie di autoproduzione non l'ho detto forse specificamente prima ma questo tema dell'autoproduzione è un tema socialmente rilevante mi avviso che gli orti è uno dei fatti più clamorosi produrre del cibo a zero impatto ambientale di ottima qualità costo accessibile sfido a chiunque vuoi trovare un modello economico migliore di quello di autofarseli infatti 20.000 di orti familiari italiani un significato ce l'hanno è promuovere quindi se siamo su questo livello c'è tutta una rete di persone che hanno comunque anche delle capacità manuali di autoproduzione di attrezzature sulla base di progettazione di idee eccetera che mettono in funzione queste attrezzature e che poi non hanno nessun problema a condividere quelle che sono le esperienze questo vuol dire che quelle attrezzature come dire hanno un costo poi di produzione che è sicuramente estremamente elevato rispetto allo stesso prodotto industrializzato prendere atto se si fanno i costi se si fanno i contesi di costi complessivi in quegli ambiti ad esempio quei costi non vengono conteggiati quindi di per sé questo non crea di grossi due ci sono poi altri livelli un po' più evoluti uno era quello che vi citavo degli atelier Paysan anche loro producono ad esempio prototipi poi hanno questa capacità di mettere in rete i progetti già validati e già parzialmente migliorati e ognuno che interviene poi mette a disposizione della collettività quelle che sono le osservazioni che fa sotto tipo di prototipi quindi di nuovo comunque la visione collettiva eccetera poi c'è un'altra cosa interessante che ho raccolto in un'azienda adesso ho provato a trovarla ma non mi ricordo più il francese che costruisce materiale agricolo uno è Terratec per pubblicità come esempi di aziende invece che producono avendo in mente come dire il modello della proprietà della tecnologia che loro producono ma anche Terratec lo fa avendo uno slogan che è più o meno di questo tipo voi avete un'idea e noi ve la produciamo quindi l'idea come dire rimane in capo a chi ha l'esigenza chi produce mette a disposizione quelli che sono gli strumenti di produzione poi in caso mai il vantaggio di replicare il prototipo su una scala un pochino più ampia quindi rende accessibile quel prototipo anche a chi eventualmente non se lo può autoprodurre e contestualmente e contestualmente ha un vantaggio comunque di poter creare una piccola economia su questo tipo di processo queste sono alcune delle gambe che mi vengono in mente forse volevi chiedermi qualcosa esatto non parliamo grazie grazie a Bruna Fiore a Walter Franco Carlo Milani grazie alle vostre domande e c'è ora il momento per se ne avete altre per gli ospiti per per fare al coffee break quindi adesso faremo una pausa e riprendiamo alle puntuali alle 16 con il panel su movimenti e istituzioni grazie ma bisogna ricominciare i nostri lavori mi prego quindi di riprendere posto per cominciare questa sessione 3 della conferenza che si intitola movimenti e istituzioni io sono Antonio Sant'Angelo sono senior research fellow qui a Centronezza e ho il piacere di coordinare i lavori di Stefano Borroni Barale Gianmarco Cristofali e Paolo Cristofali Cristofali e Paolo Borghi che appunto ci parleranno di digitali possibili all'interno di alcune istituzioni direi particolarmente rilevanti per esempio la scuola le aziende i partiti politici e rifletteranno anche sul tema attivismo oltre che immaginazione e resistenza soprattutto sul tema attivismo in questi settori voi vedete che l'ordine è Stefano Borroni Barale Cristofali e Borghi nel programma ma noi ci siamo organizzati diversamente per costruire una sorta di narrazione che parte dal mondo del lavoro passa dal mondo della scuola e infine arriva al mondo dei movimenti quindi darò la parola prima a Paolo Borghi che è ricercatore all'università di Modena e Reggio Emilia e si occupa di rappresentanza collettiva dei lavoratori atipici e freelance in particolare di quelli di piattaforma che studia in vari ambiti ma anche all'interno di un progetto IRC che si chiama SHARE Seizing the Hybrid Areas of Work by Representing Self Employment e coordina insieme ovviamente ad altri colleghi e colleghe il nodo italiano del network internazionale Democratizing Work Paolo a te la parola grazie mille io mi accodo ai ringraziamenti agli organizzatori e anche a tutte le persone che sono intervenute fino ad ora perché dicevo ho detto più volte anche con i colleghi che è un contesto estremamente interessante soprattutto e anche perché è un contesto interdisciplinare finalmente ci si parla insomma e non ci si parla addosso questo è fondamentale e mi sembra giusto ribadirlo grazie per la presentazione non perdo più tempo il titolo dell'intervento è Immaginare resistenza e lotte nel lavoro di piattaforma cercherò di tracciare una sorta di mappa sintetica del dibattito quindi non è neanche una mappa sintetica del dibattito ma prenderò alcune coordinate per far capire qual è il ragionamento di partenza spiegherò minimamente come abbiamo la cosa deriva tutto il lavoro di riflessione che abbiamo fatto quindi anche i fieldwork che abbiamo realizzato nel progetto e poi parlerò di narrazioni dominanti della funzione dello storytelling e di quello che è la sovversione dello storytelling che questa è la proposta finale va considerato come parte della lotta infatti lo story storytelling è lotta qualche conclusione e qualche indicazione biografica e poi spero ci sia un minimo di confronto e lo spazio per farlo il dibattito sugli immaginari sociali diciamo in modo molto sintetico per quanto riguarda io parto dalla mia area disciplinare che è la sociologia però insomma si parla di immaginari sociali e non si può non coinvolgere la filosofia e la psicanalisi due grandi direttrici il rapporto fra gli individui e i loro mondi sociali e la riproduzione sociale delle idee dei significati e quindi anche delle relazioni di potere sottese a queste relazioni parto in modo molto arbitrario però credo in modo utile da un articolo provocatorio di Strom che ha scritto questo articolo nel 2011 e che dice che è impossibile ragionare al di fuori della black box del capitalismo ci siamo tutti dentro e è impossibile uscirne per ragionare e come dire qualche segnale di questa impossibilità ce l'abbiamo nella misura in cui in qualche modo la struttura capitalistica che non è semplicemente una struttura economica ma è una struttura sociale un orientamento sociale sia proprio anche dei concetti e di termini come condivisione ma anche come convigialità cioè la versione neoliberale della condivisione la conosciamo pervasiva quindi ritornando a Wittgenstein possiamo definire anche il capitalismo come una forma di vita totalizzante totalizzante al punto che si appropria e dà forma ai nostri desideri alle nostre azioni o perlomeno cerca di indirizzarle ecco diciamo che il tentativo è anche di mettere in discussione l'idea che non si possa pensare out of the box in ogni caso la pressione di chi dall'alto dei soggetti che dall'altro danno forma ai nostri immaginari implica il fatto che vengano definiti dei criteri normativi dei criteri di adeguatezza e in questo modo si stabiliscono i confini chi sta dentro chi sta fuori chi è legittimato e chi non è legittimato a creare immaginari sociali come non è legittimato a creare anche altre cose non solo immaginari sociali ma di questo stiamo parlando oggi come non mi permetto di tracciare una mappa dei dibattiti sui immaginari sociali non mi permetto nemmeno di riassumere il pensiero di due esimi autori insomma come Castoriadis e Taylor che sugli immaginari sociali hanno prodotto un sapere esperto e estremamente articolato mi limito a prendere veramente alcuni elementi base su cui possiamo fare delle riflessioni anche insieme l'idea di Castoriadis è che la società in fondo si crea e si ricrea e è essa stessa un'istituzione immaginata cioè esiste perché è immaginata se non è immaginata non esiste ed è da questa idea di fondo che Castoriadis trae la conclusione di una tensione dinamica quindi in continuo movimento fra ciò che lui definisce società istituente e quindi anche un'idea di immaginario radicale che si muove che cambia che modifica e la società istituita cioè quella dimensione in cui l'immaginario si consolida si istituzionalizza e in qualche modo si si diventa istituzione sociale e da qui quindi l'idea di omontologia della creazione e contro un'idea di omontologia della determinatezza diciamo che la riflessione è molto molto teorica forse mi permette di dire che Taylor riesce invece a scendere un attimo di livello e a provare a ragionare su un piano un po' più materiale dicendo insomma che nelle società contemporanee sfera pubblica regole democratiche economia sono i pilastri che danno forma alla società e quindi questo dare forma significa sicuramente ragionare su che cosa sono gli immaginari e come gli immaginari interagiscono fra di loro si appoggia anche alle riflessioni di Appadurai e quindi sul concetto di modernità multiple traslocali e quindi su un'idea di una tensione continua di un dialogo continuo di scambio di contaminazione fra queste modernità multiple e anche fra la dimensione globale e anche delle tendenze che sono tendenze globali e però anche delle culture locali che non sono totalmente plasmabili cioè interagiscono in modo dialettico e in questa dialettica anche esse danno forma contribuiscono a dare forma questo è un po' lo sfondo di una riflessione calibrata sugli immaginari ma è una riflessione che abbiamo fatto insieme anche ai colleghi del progetto a cui ho lavorato e che è un progetto molto più ampio che si occupa invece di studiare le organizzazioni di rappresentanza dei laboratori autonomi fra i laboratori autonomi di diverso tipo ci sono anche i laboratori di piattaforma su cui abbiamo fatto un lavoro molto molto intenso che si è basato su un'etnografia che è durata diciamo grossolanamente due anni in diversi paesi d'Europa quindi sono occupato diciamo del fieldwork del Reino Unito e dell'Italia e un'altra collega ha lavorato in Germania e Francia e un terzo collega ha lavorato in Slovacchia e in Olanda abbiamo studiato le organizzazioni che a vario titolo hanno contribuito e stanno contribuendo a ripensare alla rappresentanza qui ho elencato i sindacati i sindacati confederali i sindacati indipendenti ai grassroots groups cioè sostanzialmente gruppi auto-organizzati che sono quelli più centrali nel discorso del lavoro di piattaforma su diversi livelli di scala perché abbiamo siamo partiti dall'organizzazione di fare la faccenda di etnografia nei luoghi e quindi a un livello locale e però abbiamo anche constatato che questi soggetti pur essendo anche soggetti locali radicati localmente poi in realtà hanno e hanno avuto un'influenza nazionale e anche transnazionale sul tema della transnazionalità ci saranno molto da dire diciamo che abbiamo seguito dei casi studio di alleanze transnazionali che sono create peraltro durante la pandemia e quindi tutto il lavoro di connessione e di creazione del network è avvenuto online e io ho partecipato alle riunioni sostanzialmente tramite le organizzazioni che stavo studiando con cui ho concordato la mia presenza e insieme a loro ho partecipato a queste riunioni passiamo a fare due ragionamenti veramente semplici su che cosa sono le narrazioni dominanti nel lavoro di piattaforma e fatemi fare un passo indietro in modo molto transnazionale non è così semplice la riflessione però dobbiamo fare una riflessione su il mito delle start up che sono un po' la scatola magica dei sogni tecnico-innovativi nulla di nuovo perché è la stessa cosa come dire dei tecnocrati degli anni 70 degli ultra-riveristi e tecnocrati degli anni 70 che si aggiorna come dire inglobando la questione digitale e come dire il concetto di start up dalla Silicon Valley si propaga in tutto il mondo e diventa insomma un format mondiale un format mondiale che viene in qualche modo inglobato nei discorsi nel dibattito pubblico anche in modo molto acritico all'inizio e voglio fare solo due esempi di questa mia affermazione qualche anno fa Ale Cross una sorta di star del digitale che è stato anche consulente di Obama viene alla fondazione Feltrinale a Milano e riesce a parlare per 40 minuti delle magnifiche sorte progressive della rivoluzione digitale e riesce in 40 minuti a non citare mai le istituzioni pubbliche cioè come se non avessero un ruolo di regolamentazione solo per dire che questo discorso e la mitologia delle start up del digitale della tecnocrazia nasce in modo come dire in qualche modo acritico si sviluppa in modo acritico dimenticando cioè occultando che se esiste questa rivoluzione esiste anche perché ci sono soggetti che la permettono e quindi forse anche soggetti che dovrebbero regolarla cosa dire del mito della start up e della rivoluzione digitale che è qualche cosa che è così pervasivo è una ubriacatura sociale e quindi in qualche modo dà forma all'immaginario e questo immaginario si nutre di passione fede sogni libertà sono le parole guida e mitologiche insomma che ci fanno anche immaginare il garage in cui poi si creano le grandi compagnie che ora sono come dire quelle che dominano questi contesti è un'impresa sociale un'impresa sociale nel senso che coinvolge tutta la società nel suo complesso e su delle basi però estremamente ideologiche che sono quelle che in fondo senza essere troppo originale riportano anche un po' all'idea dell'entrepreneurial self di cui parla Foucault cioè inglobano il soggetto gli individui la società nel loro complesso e come dire nessuno escluso nessuno si sente escluso come dire la mitologia investe certamente gli innovatori gli imprenditori quelli che in realtà si sentono l'avanguardia però allo stesso modo coinvolge questa questa impresa coinvolge i consumatori che sono parte essenziale ma coinvolge anche i lavoratori ed ora se usciamo un po' dal mito pulito della start-up le start-up le performe di intermediazione di lavoro digitali sono fatte certo da una grande idea quella di connettere chi fornisce servizi di ristorazione e chi consuma come dire c'è una forza lavoro che sgobba suda brutta sporca cattiva in teoria ma non è raccontata così fino a subito come dire lo storytelling non è un dispositivo marginale è un elemento centrale è l'elemento che permette di generare spazi di immaginazione questa pagina risale al primo febbraio 2016 poco tempo dopo dell'arrivo di Fudora in Italia e come dire da subito c'è l'idea che come dire Fudora va raccontata e c'è una web serie che racconta i ristoranti non si limitano a dire vabbè hai fame ti porto a mangiare no ti racconti i ristoranti con una web serie c'è qui c'è anche qualcosa di più interessante da vedere però la fanno perché è funzionale è funzionale tanto quanto creare spazi di immaginazione che mostrano la dimensione globale dell'impresa di Fudora come Fudora di Delivero di Clovo e se vedete anche esteticamente queste sono delle cartoline il bello di ogni luogo e Fudora è dove c'è il bello e dove c'è il sogno dove c'è spazio per immaginare o un certo tipo di modo di immaginare allo stesso modo questa invece è una una pagina la riproduzione di una pagina del sito di Fudora oggi non è molto cambiato il concetto di base Delivering Freedom to Any Doorstep cioè non ti consegnano gli hamburger e il sushi ti consegnano la libertà questo è veramente macroscopico cioè è il sogno è lo spazio per immaginare qualcosa di diverso e probabilmente non a caso come dire una rider che è evidentemente una modella pulita e performante sportiva perché se ricordate Fudora quando arriva in Italia non ti dice vieni a lavorare con noi fai fatica suda e porta i panini ti dice se ami la bicicletta ti diamo un'opportunità per navigare gli spazi urbani e anche guadagnare qualche soldi cioè che dici al minimo perché nell'inquinamento nel traffico al minimo un po' mi devi pagare però ti dice vabbè la mancia sostanzialmente e arriviamo adesso a una riflessione cioè che cosa significa sovvertire lo storytelling significa come come dire il pensiero dominante genera spazio di immaginazione sovvertire lo storytelling significa riprendersi uno spazio di immaginazione e partendo da una destrutturazione della narrazione dominante e in questo senso la protesta la prima protesta contro le piattaforme di food delivery è avvenuta proprio qua a Torino e è avvenuta proprio contro food hora la protesta è come evento catartico che spezza un po' la narrazione ma come dire dobbiamo fare una riflessione sul valore simbolico e quindi sul valore immaginifico della protesta non tanto sull'effetto reale in sé e questo lo dico fra poco lo spiegamento significa banalmente svelare un'altra versione della realtà che viene raccontata e in questo senso ricordiamo Castoriadis che dice la società è ciò che viene immaginato cioè lo spazio della società è lo spazio immaginato è la forma che la società prende attraverso l'immaginazione e quindi come dire la protesta non è qualcosa che avviene prima della comunicazione la protesta è la comunicazione viene anche pensata per essere comunicata in questo senso il ragionamento è che negli scioperi nei flash mob nelle azioni che nei mesi e negli anni si sono susseguite da parte di diversi gruppi auto-organizzati in tutta Italia adesso parlo di Italia ma potrei fare un discorso un altro per gli altri paesi tutto questo movimento tutto questo aggregarsi tutto questo organizzarsi significa prima di tutto cambiare la narrazione e significa cambiare la narrazione perché se volessimo essere rigorosi nel contesto dei food delivery organizzare uno sciopero ha un effetto estremamente limitato in termini di danno all'azienda o se pensiamo al danno materiale delle mancate consegne certo c'è un danno reputazionale e quindi un danno d'immagine un danno che ragiona più sul livello simbolico sul livello appunto dell'immaginario far sapere che in qualche modo i raiver di Fudora non sono dei modelli e delle modelle ma sono quasi da subito lavoratori migranti che in qualche modo come dire nella semi-disperazione sono anche disposti ad accettare condizioni che peggiorano di mesi in mesi insomma è un altro tipo di modi di raccontare il magico mondo del food delivery e allo stesso tempo le proteste se rimaniamo nella dimensione simbolica hanno il primo obiettivo di far vedere che agire è possibile perché come dire strutturalmente il lavoro del food delivery nasce e viene raccontato come un'impresa individuale perché come dire il dispositivo dell'entrepreneurial self è aborigine alla base dell'idea della consegna di cibi a domicilio quindi banalmente mostrare che agire è possibile creare uno spazio per un immaginario alternativo generare consapevolezza io diciamo che dal 2018 perché prima di la fine del 2017 inizio 2018 per altre ragioni mia ho iniziato a seguire una organizzazione auto-organizzata insomma di attivisti che si è occupata di rider io ricordo quando andavamo in giro per la città e iniziavamo a parlare di sciopero i rider ci guardavano come dire come se chiedessero cosa vuol dire che cos'è lo sciopero io vi assicuro che dopo due anni la situazione si è invertita era di rider che parlando con gli attivisti dicevano quando facciamo sciopero cioè come dire è un passaggio piuttosto rapido e considerate il turnover di questo contesto per cui come dire ogni sei mesi devi ricominciare da capo a generare consapevolezza ma qualcosa rimane e in due anni il concetto di sciopero è entrato pur nella sua dimensione simbolica è entrato in un discorso nelle pratiche nell'immaginario prima di tutto dei lavoratori ma anche come dire nel dibattito pubblico perché non è più scontato cioè non è più strano sentire parlare di sciopero e di rider 5 minuti sì sì quindi la protesta come dispositivo per generare uno spazio dell'immaginario la controinformazione come strumento strategico anche qui per costruire spazi autonomi discorsi autonomi e mettere in discussione le narrazioni dominanti in questo modo stimolare un dibattito che dai dalle chat ai social network passa ai media mainstream e questa è stata la grande forza la continuità che ha portato a una visibilità dei problemi e alla ridefinizione di un immaginario sociale su food delivery allora qui c'è un QR code di un video che potete vedervi comodamente a casa non ve lo mostro perché sennò non riusciamo a stare nei tempi ve lo contestualizzo primo maggio 2020 questo video viene prodotto per il primo maggio 2020 quindi quattro anni dopo l'arrivo delle piattaforme di food delivery in Italia e ve lo racconto minimamente è un video in cui l'inizio e la fine è fatta da un rider che in soggettiva racconta la sua giornata di lavoro in mezzo cosa c'è c'è ci sono degli spezzoni di un evento sulla ristorazione online organizzato dalle più importanti piattaforme di food delivery in cui si incensano e raccontano nuovamente le magnifiche sorti progressive del food delivery in modo assolutamente ovviamente era critico ma perché giustamente dalla loro prospettiva è giusto raccontarla così queste spezzoni sono inframmezzate invece dalle voci degli attivisti dei rider che ragionamento per ragionamento smontano i discorsi dei CEO di queste piattaforme non è la qualità non è un gran che però la cosa secondo me importante che ovviamente non si può vedere ma è giusto sapere che le persone che parlano sono parte del network nazionale che si è creato nel frattempo e che si coordina per gestire anche delle azioni coordinate come questa di controinformazione conclusioni ora vi ho parlato di alcuni episodi vi ho potuto raccontare ovviamente tutto tutto quello che abbiamo raccolto in termini di documenti di discorsi di interviste però il ragionamento finale e se volete anche un po' una conclusione che si basa sugli aspetti teorici che riguardano gli immaginari sociali e sulla ricerca che abbiamo fatto è che gli immaginari sociali sono il luogo della lotta un luogo della lotta e abbiamo visto che nell'arco di pochi anni perlomeno in Italia ma anche in altri paesi con dinamiche molto diversi questo meriterebbe un'altra riflessione come dire il discorso è stato sovvertito cioè possono le piattaforme possono continuare a raccontarsi bene come fanno ma sanno che c'è un'altra narrazione un'altra narrazione che si nutre non semplicemente di ritorica ma di azioni quotidiane di organizzazione di proteste che in qualche modo traccimano nel dibattito pubblico diventano visibili e mettono in connessione dialettica le narrazioni l'altro aspetto è come dire il il sottile equilibrio dell'azione locale che però deve avere un riverbero globale e il riverbero globale c'è attraverso le alleanze che qui faticosamente si provano e si provano a costruire e attraverso quelle che Heiman Richard Heiman chiama geometrie variabili di resistenza perché la cosa interessante è che come dire in paesi diversi le geometrie delle alleanze sono diverse perché hanno a che fare anche col sistema di relazioni materiali con i soggetti collettivi con la storia dei soggetti collettivi e quindi la situazione italiana è totalmente diversa anche perché da altri paesi in Italia ci sono ci sono stati tantissimi gruppi che a livello locale poi a un certo punto si sono coordinati e si sono coordinati anche con i sindacati con federali cosa non scontata e qui chiudo semplicemente dicendo che queste riflessioni ci portano a dire che il concetto di cooperazione e di alleanze larghe e composite sono dimensioni necessarie per ragionare su lotte che sono da un lato globali e da un lato locali vi risparmio come dire la bibliografia minima del ragionamento su cui si è basato il ragionamento che vi ho condiviso ora e qui trovate l'indirizzo delle pubblicazioni che abbiamo fatto fino ad ora il progetto si è chiuso da poco trovate tutte le pubblicazioni in open access a proposito a questo indirizzo e questa semplicemente ve la racconto in tre secondi è una delle proteste che ho seguito quando ho fatto filbork a Londra davanti a un McDonald il cui proprietario che aveva altri 29 negozi dietava la sosta ai rider davanti al proprio negozio perché dava fastidio alla cittadinanza che in realtà sarebbe da raccontare meglio era una cittadinanza che stava cambiando velocemente processi di gentrificazione in qualche modo i rider servivano queste persone che vivono qua però non dovevano dar fastidio neanche farsi vedere chiudo vi ringrazio spero ci siamo venuti grazie a tutti grazie a tutti adesso do la parola a Stefano Borroni Barale che è un fisico teorico che è stato ricercatore nel progetto EU Data Grid per l'istituto nazionale di fisica nucleare e poi si è dedicato alla formazione sindacale internazionale per l'organizzazione internazionale del lavoro oggi però insegna informatica che è un istituto tecnico del Torinese è sostenitore del software libero da molti anni ed è autore per altra economia di due libri come passare a software libero e a vivere felici del 2003 e l'intelligenza inesistente un approccio conviviale all'intelligenza artificiale del 2023 e quindi vedete che questo tema dell'approccio conviviale collega anche il nostro pane con quello precedente Stefano a te grazie mille si sente parlerò questa sera vorrei stare in 20 minuti quindi che rodo occhio vi vedrete ma può già essere per occhio una storia che è la storia di quello che è capitato nella mia scuola ma diciamo così nella scuola pubblica in particolare l'anno scorso con lo svilupparsi del famoso piano scuola 4.0 non c'è qui tempo per riassumere tutte le puntate precedenti immaginate bene quel 4.0 ha avuto delle puntate precedenti tutto viene da alcuni documenti che hanno cominciato a vedere la luce più o meno in l'epoca in cui cominciavo a scrivere il software libero e in cui come scrivo qui eravamo tutti noi anche dell'ambito critico come direbbe Carlo Ecker eravamo tutti tecno entusiasti abbiamo anche noi avuto un periodo tecno entusiasta in cui pensavamo che il digitale e internet avrebbero cambiato il mondo sicuramente l'hanno cambiato in maniera molto diversa da come speravamo che cosa è successo allora beh sapete che il piano scuola 4.0 è la realizzazione nell'ambito della scuola pubblica del piano nazionale di ripresa e resilienza il cui obiettivo sostanziale era quello di spingere in avanti il processo di digitalizzazione della scuola come dicevo non abbiamo tempo per rivedere tutto ma provo a riassumere veramente in due parole se il 2.0 era portiamo un computer in ogni classe diciamo così o portiamo strumenti come computer nella scuola cosa sulla quale potevamo anche essere abbastanza d'accordo seguito poi dalle LIM cioè dalle lavagne interattive eccetera il piano scuola 4.0 spinge un passo avanti verso quegli strumenti che sono stati alla base della TAD sostitutiva durante la pandemia cioè nel giorno ci siamo trovati con le scuole chiuse noi docenti e qualcuno ci ha detto beh chi è questo è Google Classroom questo è Microsoft Teams questo è Zoom stacce inventati qualche cosa e purtroppo quello che i docenti la stragrande maggioranza del corpo docente posta di fronte a questo out-out del genere o digitale o niente è stata presa dal panico e ha cominciato a fare delle cose come dire che magari in parte faceva anche in classe ma mai in maniera così estrema cioè diciamo che i due light motive sono stati come faccio ad accorgermi se gli agli copiano come faccio a fare le verifiche e quindi insomma questo è stato il prodotto di questa prima digitalizzazione brutale che il piano scuola 4.0 si proponeva di allargare e quindi su questo abbiamo provato ad aprire un dibattito e quindi come piccola organizzazione sindacale di base molto di base della scuola la scuola università e ricerca ha provato a lanciare una campagna con una parola d'ordine libero insegnamento con libero software vedrete durante tutta la presentazione che non parlerò mai di open source ma sempre di software libero d'ordine libero insegnamento con libero software perché? perché questa era la parola d'ordine la parola d'ordine era questa perché veniva da una riflessione fatta rispetto agli strumenti che stavamo cominciando a utilizzare una riflessione sostanzialmente in quattro punti il primo punto è il primo punto era la tecnologia non è mai neutrale prima che diciamo così io non sono un gran fan del legalismo c'era in quel momento all'inizio dell'anno scorso tutto un dibattito sul fatto se fosse legale se rispettasse il GDPR è quella tecnologia ma prima ancora di questo la cosa interessante da discutere era che il classroom induce un certo tipo di pedagogia cioè certi strumenti non sono neutrali ma inducono determinate scelte perché le domande a scelta multipla inducono un certo tipo di valutazione il fatto di replicare automaticamente cioè di chiedere agli allievi tenete accesa la telecamera mi raccoma tutti con la telecamera accesa perché facciate altre cose quella roba lì induce delle distorsioni nel rapporto docente-dicente che non sono neutrali sostanzialmente c'eravamo accorti più di uno che lo strumento non era piano ma era un piano inclinato e un piano inclinato di un piano inclinato si rotola in approssimazione di studente sferico come si diceva la fisica quando ci andavo io si rotola giù da un piano inclinato quindi la tecnologia non è neutrale secondo punto come scriveva Karkin cercando di raccontare il suo amico McLuhan noi creiamo i nostri strumenti e questi ci plasmano quindi noi peggio ancora se adottiamo lo strumento che qualcuno ha che qualcun altro ha creato questo strumento ciberneticamente non direbbe Wiener ci plasmerà e farà della nostra pedagogia qualche cosa di diverso da quello che era in presenza la tecnologia didattica è quindi essa stessa didattica nel momento in cui c'è qualcun altro che sceglie gli strumenti per noi noi scegliamo meno e siamo meno docenti cioè questa cosa si interpone nel dialogo didattico con gli studenti e quindi soluzioni a questa problematica la proposta è costruire una tecnologia didattica diversa conviviale che ovviamente non può essere unica per tutti perché un grande istituto tecnico pieno di professori di elettronica e informatica non è la stessa cosa di una piccola scuola nella provincia di Siena dove c'è l'elementare e le medie e sono sempre scuole pubbliche ma la distanza è abissale tra questi due contesti e quindi questa era un po' la cosa che avevamo messo sul piatto in mezzo a questo piatto è arrivato un monitor a piano che ha come dire scombinato le carte perché ha cominciato a chiedere ha cominciato a scrivere delle petta alle scuole dicendo voi state violando Gdpr che facciamo? concilia questa è un po' la cosa e questa ha creato ha creato le condizioni perché si potesse intanto cominciare a farsi delle domande perché prima ancora digitali possibili è già un punto di arrivo digitali possibili perché all'inizio del nostro dibattito c'era il digitale punto cioè non c'erano digitali come diceva la tace there is no alternative uno ce n'è è quello di google amazon microsoft e compagnie quindi già in questo senso questo diciamo mi sento di rivendicare come grande risultato che può sembrare piccolo in realtà è piccolo ma il fatto che si dibatte si comincia a dibattere e si comincia a rispondere alla domanda come faccio io scuoletta di provincia a belle queste cose che raccontate bello il racconto però io sono piccolo non ho professori di informatica come posso pensare di costruirmi i miei strumenti per la tecnologia didattica come posso fare la risposta può essere solo collettiva non è una cosa che un singolo professore o due messi assieme possano magari possono anche trovare qualche cosa di geniale accrocchio come lo definiamo come noi che risolve temporaneamente ma poi quell'accrocchio evolve come si diceva prima gli esseri tecnici gli esseri tecnici non sono viventi ma hanno questa cattiva abitudine di evolvere e quindi hanno una versione 7 poi una versione 8 una versione 9 vanno presidiati perché se non li presidi ti scappano di mano diventano qualcos'altro evolvono e se non interagisci con questa evoluzione evolvono nella direzione che più si confà a chi tratta il design e se questo design è fatto molto lontano è un design alieno aliena alla scuola aliena alle problematiche della didattica arrivato a questo punto scoppia il caso Albertelli diciamo così verso l'estate il liceo classico Pilo Albertelli di Roma fa una cosa che come dire dovrebbe essere la cosa più normale di questa terra visto che nella scuola pubblica ci sono ancora gli organi collegiali il suo massimo organo collegiale che è il consiglio d'istituto valuta i progetti che dovrebbero essere sviluppati per il piano scuola 4.0 e li boccia e li boccia sulla base di ragionamenti che sono decisamente sostanziosi nel senso poi c'è il trucco come in tutte le cose volete che vi sfili svegli il trucco il trucco è che al liceo Albertelli si crea una saldatura molto semplice tra genitori e docenti perché fino a quando non succede questo come dire sono due mondi che non si parlano al liceo Albertelli questi due mondi finiscono per parlarsi perché molti genitori di quegli allievi lì sono a loro volta docenti da un'altra parte e quindi questo è come dire il SID che crea queste condizioni per cui succede quello in realtà si è parlato tanto dei Albertelli perché avevano gente che era brava a comunicare ma non sono stati liceo ci sono stati altre scuole che hanno che hanno rifiutato o hanno provato in qualche modo a rifiutare i fondi del PNR lo fanno sulla base di quale concetto? lo fanno sulla base di due concetti sostanzialmente il primo è che questi soldi non sono gratis come ci vengono raccontati la narrazione del piano scuola 4.0 è arrivano a 2,1 miliardi di euro che piovono dal cielo non vorrei mica rifittarli ma sei matto e quando ci ricapita che ci diano dei soldi a squadra e non ci danno mai soldi per niente acchiappali al volo e facci qualcosa allora prima di tutto questa cosa non è vera nel senso che non tutti i fondi del piano scuola 4.0 non tutti i fondi del PNR sono a fondo perduto solo una minima parte il resto li pagheranno i nostri figli io ho una figlia di 15 anni non è chiaro e a molti dei professori e dei genitori i genitori slash professori del TILA Bertelli hanno questa cosa in mente hanno dei figli che hanno quella età lì e quindi si dicono aspetta io devo scaricare sulle spalle della prossima generazione un debito miliardaio per fare cosa perché qui può anche stare bene ma per fare cosa questi progetti prevedevano che agli studenti del Cielo Classico venisse insegnate come fare l'influencer primo si può insegnare come fare l'influencer già su questo io aprirei un dibattito però non abbiamo tempo sarebbe un dibattito interessante secondo posto che si possa insegnare lo puoi insegnare in un corso che fai e a cosa servono i soldi poi a quel punto nel senso che non riesco ad immaginare una cosa più dematerializzata insomma questa cosa si rischiava di essere un enorme spreco di un enorme trasferimento di fondi pubblici nel privato e questo è stato in moltissime scuole infatti una delle cose uno degli outcome di questa cosa dell'Albertelli è stata poi è quest'anno una rete che sta cercando di auto-organizzarsi di genitori e docenti su varie varie scuole sparse in giro per l'Italia e una delle proposte è ovviamente proviamo a fare quello che non sta facendo il ministero che teoricamente dovrebbe questa cosa dei numeri torno ai numeri un attimo 2.04.0 tra una e l'altra ci starebbe io ho questa cattiva abitudine sono stato cresciuto fin da piccolino a questa roba sto taglio della scienza fai l'esperimento delle sensate esperienze con i sensi necessarie dimostrazioni dimostrami che quella roba lì ha migliorato la scuola dove sono andati a finire 2.01 che abbiamo fatto hanno impattato sulla scuola sì no come sono migliorati gli apprendimenti i nostri studenti sono x a me quando arrivano al Politecnico i miei che vengono da un istituto da tecnico quando entrano al Politecnico sanno più o meno quelli poi la maggioranza quando pensa all'università pensa al Politecnico con mio grande dolore perché essendo un fisico c'è questa antica divisione insomma come i sit contro l'ingegneri e fisici quindi va bene però in ogni caso è gente che usa la forza però quando arrivano al Politecnico questi ragazzi li metti a un esame di analisi 1 che succede? hanno un attacco epilettico arrivano in fondo all'esame che voti idano questo sarebbe già una cosa e poi a 1, 2, 3, 4 anni vanno avanti cadono fuori dalla scuola dei drop out come si dice in inglese questo potrebbe essere una cosa interessante come potrebbe essere interessante capire dove sono finiti questi soldi naturalmente non vale a livello statistico perché la mediotica non fa statistica io sento i valanghi di stampanti 3D bellissima la stampante 3D eh al classico vabbè quindi questo è un po' poi direi che vado bene non mi dilungherò così c'è spazio poi eventualmente perché questo credo che sia vorrei che fosse un invito a a intercambio su questo perché adesso io sto parlando della scuola elementari medie superiori ma vale un po' per tutta l'istituzione pubblica questa domanda a valle della storia di Ginecio Albertelli nasce a valle insieme nasce la piattaforma del sindacato perché nasce la piattaforma del sindacato perché all'interno di questo gruppo di persone che ha vario tipo genitori in particolare erano genitori questi alcuni di questi genitori sono dei nerd informatici come è attendibile alcuni di questi genitori nerd informatici lavorano lavorano con il software libero e che hanno fatto con il software libero hanno studiato le cose che ci sono a disposizione nel mondo del software libero hanno scoperto che c'è una roba che si chiama Miss Cloud hanno scoperto che c'è una roba che si chiama Moodle per fare le conferenze hanno scoperto che c'è una roba che si chiama Big Blue Button per fare le videoconferenze e hanno fatto una cosa ancora in più hanno messo assieme tutta questa bella baracca e il risultato è questa roba questa roba qua cioè uno spazio dove tutto questo è coordinato insieme non è ancora automagico come Google per cui tu fai il login da una parte e sei logato dappertutto a volte qua e là di fare un login come sempre gli accrocchi conviviali richiedono un pochino più di un maneggio manuale però fa delle cose belle perché nello stesso spazio io posso vi ricordo che quando ho mostrato questa cosa per la prima volta io posso fare dei moduli senza bisogno di usare Google Forms sembra una stupidaggine ma vuol dire tutta una serie di dati non vanno a finire nel database di Google database di Google che poi sta alla base delle sue intelligenze artificiali Gemini Bard Gemini Gemini più di Ancrad e questa è una cosa l'altra cosa è uno scambio di file come il Google Drive che c'è funziona e per di più è configurabile gli spazi non devono essere necessariamente uguali insomma fa un sacco di cosette di cosette carine ma soprattutto quello che come dire è stata la nostra killer application è stato BBD nel senso uno spazio dove non solo ci si poteva incontrare e si poteva fare conferenze anche da 200 partecipanti perché questo questo è stato possibile perché convivialmente ci si è seduto ad un tavolo con chi montava questa baracca e si è detto ma voi quanti siete che cosa fate da dove venite eccetera quanto disco avete bisogno perché per fare una conferenza non c'è niente di magico anche il Google Meet non so se prima è stata toccata questa questione la questione del Google funziona invece la vostra roba non funziona questo è interessante come concetto mi permetto di spiegare 30 secondi funziona o non funziona quello che è stata la mia esperienza nella scuola è stato naturalmente nella scuola inizialmente aveva il Google Meet come si fa a fare un collegio docenti in Google Meet i docenti sono docenti il limite di Google Meet gratis è naturalmente la cosa che sei un docento allora si fa una in metà collegio docenti su un computer poi si fa uscire l'audio viene preso dentro un cellulare e il cellulare diventa l'audio e funziona funziona questo è un accrocchio funziona quando questo accrocchio smette di funzionare perché Google ha cambiato idea o qualcosa è andato storto non c'è niente cioè nessuno non c'è una controparte con quelli di gare quindi è colpa mia è colpa mia è colpa del cellulare è colpa del computer della preside è colpa di qualche cosa colpa tua no? mentre invece quando noi da 150 volevamo salire a 200 e non funzionava io alzavo il telefono e mi dicevo Giorgio oh ora sei detto un 200 allora con un intercambio insomma una cosa poi arriva a funzionare funzionare davvero funzionare sempre funzionare con regolarità quindi questo è è una cosa che come dire vi lascio nel momento in cui non c'è una controparte con cui litigare diciamo così diciamo che chi viene messo di fronte a questo non funzionamento si accolla masochisticamente la colpa del non funzionamento della macchina ok siamo quasi arrivati alla fine del racconto dico solo due cose più sul prossimo passo perché nel frattempo le cose vanno avanti questa tecnologia non si ferma e adesso come docenti siamo come dire messi di fronte a questa questione dell'intelligenza artificiale a scuola che non sembra che non c'è niente con il discorso delle piattaforme invece io sono totalmente convinto che sia assolutamente logica senza soluzione di continuità perché l'intelligenza artificiale a scuola cosa vuol dire? Vuol dire intelligenza artificiale generativa quindi chatbot sostanzialmente che per funzionare hanno bisogno di enormi dataset enormi basi dati e dove le prendiamo queste nuove basi dati le prendiamo da google plus e similia perché se vogliamo fare un tutor automagico che fa il professore con gli allievi raccontandoci magari che funziona con gli allievi BESS lo facciamo a partire dai dati che abbiamo preso da lì e questa è una tecnologia del controllo non l'ho detto io non l'ho detto io c'è la vita che ha scritto un bel articolo su questo casualmente le cose interessanti io faccio per la serie casualmente riprendo casualmente casualmente sull'intelligenza artificiale le cose più interessanti guarda un po' le scrivono delle donne io mi farei una domanda e mi darei una risposta guarda caso e succede questo secondo me non è un caso ovviamente quindi il dataset viene da lì quindi la domanda accaduta è ma può esistere un'intelligenza artificiale mondiale nel momento in cui anche solo per tirarla su ho bisogno di enormi dataset e questi dataset li devo in qualche modo espropriare ai legittimi proprietari o attraverso trucchi o attraverso truffe come si fa? due punti di un progetto che ho provato a descrivere che vedremo se riusciremo a portare a termine però l'idea è quella prima di tutto il dataset il dataset potrebbe venire da quello che suggerisce un articolo che è uscito a luglio di quest'anno che si intitolava textbooks are all you need i libri di testo sono tutto ciò di quel bisogno l'idea di fondo è intelligenze generative molto più piccole cioè software con molti meno gare di libertà ottimizzati con materiali di qualità invece che con la qualunque su internet che nel caso non lo sappiate c'è GPT che è stato allenato con la qualunque su internet il risultato è che spunta fuori come la famosa adage dell'informatica garbage in garbage out spunta garbage e a quel punto che cosa fai? e qui mi collego a quanto alla narrazione precedente chiami Sama che è un'azienda che ha sede negli Stati Uniti ma che lavora con personale in Africa e a 200 dollari al mese gli fai fare la ripulitura di quel database cioè la post-ottimizzazione fino a che questa roba non produce risultati tollerabili per quello che è il nostro biologibilità se no lo potresti buttare sul mercato e poi lo butti sul mercato interessante questa cosa ci sono delle ricerche molto belle fieldwork di due anni che mostrano come l'intelligenza artificiale viene narrata come una roba che succede nel nord del mondo Silicon Valley eventualmente Europa il lavoro necessario a far funzionare queste intelligenze artificiali è svolto puntualmente nel sud del mondo quando fai questa osservazione agli entusiasti dell'intelligenza artificiale questi ti rispondono no ma è temporaneo calma perché adesso c'è tanto supervised learning ma evolveranno e queste nuove intelligenze saranno in grado di insegnarsi le cose da sole ci sarà l'unsupervised learning peccato che negli ultimi dieci anni questi mini task di catalogazione delle informazioni indispensabili della creazione dell'intelligenza artificiale non stanno diminuendo anzi stanno crescendo e si dicono male ci fai soldi sopra dico Amazon e qua di cosa quindi questo è il contesto fino al punto in cui si arriva addirittura all'apoteosi che è il caso delle telecamere con intelligenza artificiale piazzate in UK in Gran Bretagna dicendo no in un momento vedete queste telecamere quando qualcuno fa shoplifting quando vi rubano la cosa dal supermercato vi avvisa come funziona questa intelligenza artificiale si collega col Madagascar dove un pool di 120 persone 24 ore su 24 guarda stream video e quando vede il tipo che ruba manda una mail a mano e questa è e quando viene fatto notare questo dice no ma questo è just in time training gli stiamo insegnando in tempo reale come deve fare quindi questo quindi dataset test il processo di ottimizzazione passa da una comunità docente discente cioè l'idea di un'intelligenza artificiale conviviale fatta a scuola è che il docente insieme agli studenti prova a ragionare che cosa di che cosa mettere in questi modelli per vedere che cosa poi questi modelli spunteranno fuori anche nell'intelligenza artificiale anche se lo dico io per primo it's a video stretch molto stretch si può pensare ad una tecnologia ad un digitale conviviale ho finito grazie adesso la parola a Gianmarco Cristofalo che è un buocato specializzato in protezione di dati personali ma è qui perché ha quasi acquisito un torato di Global Status lo discuto la prossima settimana per la sua università di Storcerata sul tema delle sfide politico-giuridiche per l'Unione Europea derivanti dalle piattaforme digitali come infrastrutture su questo argomento lui comunque ha già pubblicato un libro che si intitola The Politics of Platformization uscito nel 2023 e tra l'altro ha fatto anche un lavoro pratico perché ha provato a mettere in pratica le cose che scrive in questo libro partecipando all'organizzazione del movimento Extinction Rebellion Italia quindi adesso ci parlerà di questa esperienza ok buonasera a tutti è un grandissimo piacere essere qui grazie dell'invito io seguo Nexa da quando mi occupo di digitale e devo dire che mi ha aiutato un sacco durante la pandemia a sviluppare un pensiero critico grazie anche alla mailing list che però è veramente intesante allora oggi vorrei parlare di cioè anzi partiamo dal fatto che questo libro parla di immaginari di piattaforme digitali quindi il tema è un po' il tema di questa conferenza io ho un libro di interviste io sono andato ad Amstia perché è stato un po' l'epicentro degli studi di piattaforma e ho chiesto a questi accademici ma magari immaginate voi delle piattaforme digitali diverse risultato ho cambiato il titolo del libro in corsa perché no nessun accademico si immaginava delle piattaforme digitali diverse non so se fosse il fatto che fossero accademici o forse olandesi questo però oggi vorrei riprendere il tema delle tecnologie digitali e della democrazia il grande tema della gorra elettronica c'è vecchio quanto la teoria dell'informazione torna da noi a un portato ideologico fortissimo perché il movimento 5 stelle ovviamente non è stato il primo che si è appropriato di questo tema però vorrei intersecare questa idea con la pratica dei movimenti ecologisti negli ultimi anni in particolare distinction e rebellion quindi un intreccio agli interventi dall'alto e dal basso prima però volevo fare una precisazione terminologica la mia ricerca è stata molto concentrata su la genealogia della piattaforma digitale sostanzialmente e su che cosa la comunità accademica intende la piattaforma digitale per come è cambiata questo concetto negli ultimi 10 anni infatti facciamo un sacco di disegni anche ebbene ci sono diciamo due termini secondo me che vale la pena sottolineare da una parte la piattaforma è sostanzialmente un'infrastruttura che da che costituisce un mercato un mercato più parti questo è stato ricercato sul management soprattutto quindi qualcuno produce i servizi con gli strumenti che la piattaforma gli dà e qualcuno è chiamato a diciamo è attirato da questi servizi e quindi in ultima versione si tratta di un mercato che produce valore che si tiene una parte di questo valore ma che è un mercato centralizzato in buona parte questa è la differenza rispetto al un mercato all'interno del mercato quindi questa qui sarebbe la definizione accademica a cui si è arrivati adesso su che cos'è una piattaforma però altro invece il termine piattaforma utilizzato in senso diciamo più generalista o più anche antico cioè un insieme di persone che si ritrovano con delle idee politiche quindi una piattaforma da più parlare quindi questo è il secondo significato che userò oggi dicevo Extinction Rebellion nasce nel 2019 in Italia nel 2018 in Inghilterra ed è un movimento che sostanzialmente dice adesso c'è la crisi climatica ecologica e di perdita della biodiversità e le cose cambiano è un po' una scusa se vogliamo per cambiare l'ordine costituito io lo chiamo un orizzonte epistemologico c'è tutta una sorta di millenarismo in Extinction Rebellion in cui si pensa che sostanzialmente noi potremmo tutti morire da un momento all'altro è un movimento che però è decentralizzato quindi si chiama monumenti sociocratici o olocratici cioè né gerarchici né però diciamo completamente decentralizzati non c'è un leader ma ma ci si organizza tramite piattaforme digitali ce ne sono alcune che sono come telegram matter most slack che sono commerciali altre sono autocostruite come Extinction Rebellion base che è una sorta di forum e soprattutto Glassfrog allora Glassfrog è una bella metafora per spiegare questa idea auto-organizzante di Xara che si rifà proprio alle scienze della complessità cioè è un movimento che comunque è fatto da è pensato da alcuni accademici di base e questa è una rana che in assenza di pigmentazione è possibile vedere gli organi interni allo stesso modo c'è questo software che si chiama Glassfrog che permette di vedere l'organizzazione ricorsiva di Extinction Rebellion Italia nella sua divisione quindi il governo nazionale quello locale la differenziazione funzionale tra i dipartimenti di media finanza eccetera eccetera quindi c'è proprio l'ideologia della trasparenza radicale che è insomma la base anche della democrazia Xara ha tra richieste politiche la prima è quella di dire la verità circa l'attuale crisi climatica ed ecologica sulla base di ciò che dice la scienza qui Xara secondo me ha fatto un buon lavoro perché rispetto a dieci anni fa il tema del cambiamento climatico ha acquisito molta più centralità anche il greenwashing non so di Eni al festival di Sanremo cioè positivo in questo senso non può più dire cioè almeno un po' la narrazione è cambiata la seconda è che bisogna agire ora nel 2018 si diceva i governi devono prendere tutte le misure per azzerare le emissioni di Eni delle Carmonica entro il 2025 chiaramente anche qui non si è arrivato però anche qui non è tutto perduto perché ha anticipato il dibattito è un po' essere realisti demandare l'impossibile altrimenti Greenpeace diceva entro il 2040 però si iniziava a parlarne nel 2030 quindi anche qui secondo me non è un fallimento completo e poi abbiamo la proposta politica paradossale di andare oltre la politica ovviamente si intende oltre la politica rappresentativa di nuovo l'oggetto sono i partiti della critica ma anche le istituzioni della governance globale se vogliamo per dare voci alle comunità locali del popolo cosa vuole fare XSAR di istituire delle assemblee cittadine allora le assemblee cittadine sono una nuova istituzione democratica volta da affiancare il Parlamento il Governo e le giunte locali per dare più voce ai cittadini e più forza alla democrazia consistono nell'affidare a un campione di cittadini sorteggiati in base a specifici criteri affiancati da esperti l'analisi e l'indirizzo su questioni di interesse generale a cui la democrazia elettorale non riesce a dare soluzioni adeguate quindi questa qui è un po' la proposta politica su cui tornerò alla fine come si ottiene questo cambiamento ha una teoria del cambiamento specifica il SAR si basa sugli studi di questa studiata di Harvard Erika Chenoweth la quale appunto a seguito di un'analisi comparata di dati storici sul successo dei movimenti sociali del XX secolo arriva a dire guardate che uno nelle democrazie del XX secolo la lotta non violenta non violenta è più efficace di quella violenta e due il tipping point per i movimenti sociali è sempre stato quello di aver raggiunto il 3,5% della popolazione cioè quando si arriva a questo numero potrebbe veramente partire un cambiamento come si arriva a questo numero si arriva attraverso le azioni non violente non so se avete visto quelle dell'altro giorno in cui hanno messo hanno colorato il verde appunto il Calangrande a Venezia e anche un'altra serie di l'acqua di un'altra serie di città in particolare ci sono delle azioni che si chiamano azioni dilemma in cui il potere costituito deve scegliere tra reprimere il movimento però sulla base di una credenza molto condivisa cioè noi stiamo per salvare l'umanità e l'occasione climatico oppure oppure lasciare non reprimere però a quel punto si può alzare il tiro si legittima il movimento ad andare avanti quindi flashback teorico computazione e democrazia noi sappiamo che la democrazia è un sistema di governo che è sempre sospeso tra istituzione e rivoluzione nel senso che non inizia non finisce con il voto il buon cittadino con la propria vita deve essere attivo nella democrazia ideale è un'idea normativa ovviamente e quindi il cambiamento sociale influenza in maniera determinante il funzionamento della democrazia stessa se noi partiamo da quello che secondo me era un personaggio pazzesco che è Stafford Beard che è quello che ha costruito Cybersim questa piattaforma cilena nel 1970 lui appunto era un cibernetico quello che ha inventato la cibernetica organizzativa ed è insomma a me sembra che contrariamente a quello che si pensa si pensa la genealogia delle piattaforme digitali non comincia con il neoliberismo e neanche con il capitalismo ma proprio con la cibernetica sovietica e quei tentativi di organizzare attraverso i computer qualcosa che assomiglia al mercato sostanzialmente che non ci avevano e infatti quando avevano i computer questi qua si dicono ah ma che bello gli americani li utilizzano per efficientizzare i processi noi li usiamo per pensare le istituzioni democratiche giustamente poi la cosa non va proprio così però l'idea di Stafford Beard è quella di disegnare la libertà ovviamente anche qui parlo sale e lui fa una critica al sistema delle istituzioni ereditate dalla stampa e dice che queste cadranno sotto i polpi della computazione e invece ci potrebbe permettere di avere un rapporto tra governanti e governati diverso perché i governanti possono sapere cosa i governati vogliono e i governati possono farglielo sapere come sostanzialmente attraverso la collezione di dati mentre la televisione c'è una forma passiva e quindi bello per la democrazia però come istituzionalizzare tutto ciò a mio avviso lo abbiamo visto come si è istituzionalizzato in maniera assolutamente perversa con l'economia delle piattaforme Bernard Sigler nel suo ultimo libro Tecniche del Tempo 4 le chiama proprio le piattaforme per la singolarizzazione computazionale delle masse nello spazio-tempo secondo me definizione calzante perché e di nuovo è un problema del socialismo se vogliamo coordinare l'azione delle persone allora anche all'interno della sinistra secondo me ci sono un po' due poli l'analista marxista barra sistemico uno come Danilo Zola ad esempio ha proprio messo in luce già negli anni 80-90 come in ultima analisi l'età informatica sia incompatibile con lo stato di diritto io sono d'accordo però sono anche d'accordo con qualcuno tipo Gattari che invece dice il rinnovamento della democrazia deve passare attraverso una gestione pluralistica di tutte le sue componenti macchiniche non possiamo abbandonarci e quindi la forma del potere moderno è proprio l'API l'API l'Application Program Interface che sono queste che collegano una piattaforma all'altra e gli permettono di parlarci tra di loro ma questa idea che il sistema democratico è editato dalla stampa sia sostanzialmente destinato a scomparire ce l'hanno esattamente anche quelli di estinzione perché se andiamo a vedere le parole di George Monbiot che è uno degli ideologi giornalista del Guardian il quale ha scritto questo libro che tra l'altro è un libro stupendo in quanto a esercizi di immaginazione politica riprendere il controllo lui dice appunto che ci viene negata la possibilità di esercitare un controllo democratico capillare sulle decisioni che influenzano la nostra vita questo sistema poteva avere una sua particolare parziale giustificazione ai tempi in cui la penna e il calamaio erano i mezzi di comunicazione e i cavalli i mezzi di trasporto più veloci nell'era digitale non ha ragione di esistere l'idea che un governo possa soddisfare le esigenze di una nazione moderna senza un continuo meccanismo di verifica e senza un consenso vero non soltanto formale è assurda quindi da molte parti si discute di come utilizzare le piattaforme digitali per sostanzialmente una democrazia deliberativa o comunque per modificare un po' la democrazia rappresentativa secondo il principio no taxation without deliberation invece che representation allora andiamo a vedere quelle che ci sono già le piattaforme deliberative che ci sono già non è semplice ma è straordinario che è il referendum il referendum abbiamo capato che aveva fatto tutta questa campagna in referendaria sulla cannabis che era riuscita proprio grazie al fatto che dal 2020 c'è questa legge che dice che già dovrebbe esserci una piattaforma per riuscire a collezionare le firme ora questo è pazzesco perché sostanzialmente è la piattaformizzazione buona cioè se per raccogliere una firma adesso al gomitato organizzatore costa un euro a firma e qui diventa si eliminano i costi quindi buono e quindi era riuscito attraverso un ammendamento che gli permetteva di usare una piattaforma privata di raccogliere le firme e fare in questo referendum un po' bocciato dalla consulta però per la prima volta dopo 12 anni perché l'ultimo era stato quello sulle tribelle e quindi anche questo qui era un cioè è uno strumento secondo me molto forte e bisognerebbe immaginarsi modi diversi di usare il referendum abbiamo esempi come la piattaforma VTaiwan che è stata utilizzata effettivamente per prendere delle decisioni poi ratificate dal Parlamento lì c'era un dibattito sulla possibilità di vendere al coalition online con diverse fazioni e la discussione all'interno di questa piattaforma ha portato a delle deliberazioni che poi sono state ratificate stessa cosa per la regolamentazione sul Rai Seng c'è una piattaforma diversa che è in Svizzera che è quella di SmartVot dove sostanzialmente si fa un matching il votante che ha un questionario con una certa per capire la propria posizione politica la si matcha con appunto i candidati e anche questo è un sistema interessante oppure c'è dei sistemi di software come quello proposto dalla Every Voice Engage Foundation utilizzati invece in contesti di comunità molto più piccole dove appunto si può deliberare tramite anche l'utilizzo non solo del software ma di un facilitatore che sono una delle figure molto importanti anche agli interni di distinction e rebellion e si può visualizzare tutte le posizioni e come queste cambiano nel tempo e questo aiuterebbe in un certo senso ad arrivare a delle deliberazioni invece per tornare appunto alle proposte immaginifiche ce ne sono alcune che sono state fatte da XR appunto dai suoi ideologi una secondo Bombiot è quella di ricreare un'assemblea costituente in 20 anni quindi questa è un po' provocatoria ma è un po' per cercare di andare a risolvere il problema del cambiamento continuo delle tecnologie e dall'altra parte come dicevamo l'utilizzo della democrazia del sorteggio cioè ci sono tanti casi in cui il sorteggio è utilizzato per garantire l'imparzialità nella scelta e il problema è quando lo si applica alla politica questa dicevamo è una proposta politica di XR XR dice facciamo le assemblee cittadine ci sono degli esperti questi esperti coordinano i lavori di una serie di persone sorteggiate ma secondo però diciamo la filosofia politica questo è il buon problema perché in ultima analisi in realtà il sorteggio è come dire che la politica non deve fare più il suo lavoro è una deresponsabilizzazione ad esempio Platone da bravo antidemocratico quando parlava di costruire la città bella Callipolis sorteggiava tutti però poi diceva il problema è che dobbiamo scegliere bene i pool da cui sorteggiare e quello lo costruiamo come vogliamo noi e quindi ad esempio la Robinati parla del demiurgo ingegneristico parla del fatto che la tecnica che si istituisce alla politica non so se bisogna arrivare così in fondo però il punto è un po' è che gli esperti cioè i movimenti dal basso in ultima analisi fanno delle proposte politiche in cui vogliono escludere gli esperti che hanno portato all'inazione ma questi esperti poi rientrano dalla finestra nel decidere appunto lo specchio della società che deve essere in pool dei sorteggiabili quindi anche questo problematico ma potenzialmente non da escludere perché dato lo stato della politica attuale appunto confrontato con una crisi come la crisi climatica dove c'è il ruolo della policy normalmente è quello di ridistribuire i rischi all'interno della società come fai a ridistribuire dei rischi sistemici cioè chi è che decide è meglio sorteggiare ecco un'altra proposta la pensavo io cioè perché non dare una corsia preferenziale di voto parlamentare per le proposte legislative popolari cioè queste cose a mio avviso si prestano ad essere piattaformizzate con tutti i suoi problemi ma perché diciamo segmentare la popolazione cioè chi è che è bravo a categorizzare segmentare il software cioè è proprio lui che fa queste queste cose però anche qui ci sono proposte immaginitiche perché ne va dalla sovranità del Parlamento ma il problema come dice Montbeau è politico non è logistico cioè si possono immaginare dal punto di vista tecnico queste cose un altro esempio che si ho concluso un altro esempio che invece facevano ad Amsterdam era quello di dire beh se c'è una risorsa comune un common noi lo prendiamo e creiamo una piattaforma che potrebbe essere invece di un contratto di condominio una piattaforma di condominio di quartiere tokenizziamo tutto e e quindi io ho uno TOTI token in cui qualcuno va a prendere il mio figlio a scuola e pago TOTI token poi utilizzo la macchina condivisa TOTI token anche qui è problematico perché soprattutto non c'è più spazio per il dono perché tutto diventa una transazione però efficiente se vogliamo quindi conclusione solamente il fatto ovvio che insomma io vedo un feedback tra il funzionamento dell'attuale sistema politico e la politica della soluzione della piattaforma e secondo me il ruolo comunque dello Stato dall'alto è ancora molto importante quello che propone XR cioè la sperimentazione istituzionale è importante perché è un tentativo di provare cose nuove e vabbè io da giurista partivo come il centro Nexa da Rodotà lui diceva habeas data io nel libro scrivo habeas infrastruttura cioè il diritto di aver diritti passa soprattutto al controllo delle infrastrutture strategiche questa cosa mi sembra ormai abbastanza chiara e grazie grazie abbiamo una decina di minuti per interagire con i nostri relatori io raccolgo le vostre domande se volete porle altrimenti dovreste venire diciamo in favore di telecamera e prendere grazie si sente? si una domanda un momento alla sua proposta di usare l'intelligenza artificiale sui certi dati che si erano con dignità come si dice quindi prelevando proprio dai libri dalle cose formate io volevo solo fare un commento a me ricorda un po il Bignani di una volta non so se ve lo ricordate cioè io ci ho fatto un esame alla maturità ho preso un po' di storia perché ho saputo dire al professore dove Garibaldi era stato ferito durante la battaglia dell'astromovere perché il Bignani era fatto da poche persone Kamba faceva una bella selezione e secondo me preparavano anche il testo il testo sintetico e riassunto come fa chat CPT rispettando l'esigenza degli insegnanti quando uno rispondeva rispondendo con quello che aveva imparato sul Bignani quasi sempre beccava quello che gli insegnanti si aspettava di sentir dire però allora era uno strumento malvisto guai se uno diceva che aveva segnato sul Bignani veniva colto da una maledizione di tutti quindi come si mette questa specie di Bignani elettronico perché è ben visto adesso perché invece una volta era malvisto fatte opportunamente opportune differenze di scala bella domanda grazie magari ne raccolgo due o tre e poi facciamo rispondere i nostri relatori qualcun altro vuole interagire sì una domanda io a il professor Bordi Marco vieni a prendere il microfono e mettiti in favore una domanda al professor Bordi relativa agli sviluppi che ci sono stati nella organizzazione dei lavoratori nell'ultimo periodo ricordo in Italia tre anni fa un decreto che ha detto cose importanti che l'algoritmo andava enunciato nel contratto sia dal punto di vista dei corrispettivi delle modalità di calcolo governo Meloni prontamente l'abolito ieri la direttiva io non l'ho ancora vista ma magari lei ha qualche flash da darci grazie allora forse vengonoci con me buonasera per il professor Bordi sembra di comprendere che l'emergere di nuove figure professionali anche proprio a livello organizzativo pensiamo si parla di solo self employment determineranno delle loro esigenze organizzative a livello di tutela ma mi viene anche da pensare per contro si parla molto di multinazionali vediamo che Amazon nel caso esemplare i dipendenti hanno cercato di organizzarsi sindacalmente allora potrebbe sapere il suo parere per l'altro a riguardo quasi sembra l'apparente divergenza tra multinazionale e il desiderio di tutela insomma da parte dei dipendenti e poi con riferimento alle nuove figure professionali ripeto la figura del solo self employment quindi siamo al di fuori di una categoria generale che può avere un articel attraverso una contrattazione collettiva la figura del singolo l'operabilità sulle piattaforme coloro a comprensa grazie grazie bene se non ci sono altre domande una domanda nel momento prego allora visto che non ci sono domande ne ho una io quando hai raccontato Estincio Rebellion uno dei punti era una delle richieste era uno stato di emergenza per la questione climatica due coordinate shock economy non decline tutto il discorso sulla sull'ateria dell'emergenza come si pone sinceramente rispetto a questo perché evidentemente l'immaginario verde è sempre stato ascritto alla sinistra l'immaginario del governo attraverso l'emergenza da l'altra parte anche se mi rendo conto che questo è un momento estremamente complesso in cui le cose sono molto labili però ecco io intorrei questa domanda e anche da questa segue a cascata quanto tecno-entusiasmo c'è in tutte queste proposte direi che essendo io figlio di quella generazione tecno-entusiasta che ha preso la mazzata dell'open source questo è il motivo perché io non parlo mi nego a parlare di open source se non sotto tortura con i ferri 20 perché lo penso che sia la legazione completa del sottotituto quindi il tecno-entusiasmo ha portato a quella roba lì ci facciamo una domanda quale va bene allora io forse rispondo il tuo ma va bene ok allora la prima direi e quindi sul prima hai detto che era sul movimento di XR e sì la richiesta dello stato di emergenza ah sì 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 certo lo stato di emergenza è fondamentale ovviamente ma chi è che non può far leva sullo stato di emergenza oggi nel senso e si può fare inizia tutto questo dibattito sul non sconfinare nell'ecofascismo sostanzialmente no perché in realtà cioè una volta che sei così millenarista così il passo è breve a dire ah vabbè non funziona allora via democrazia no e effettivamente ci sono argomenti razionali a favore di questo punto cioè che che il tempo di reazione delle società non democratiche possa essere più possa essere più veloce e anche più efficace invece si è ancora contestato però insomma è una tesi che può essere sostenuta e quindi sì c'è un problema anche perché in XR appunto vuole arrivare a includere il 3,5% quindi più includi più sono diversi quelli che includi e quindi c'è dentro di tutto ovviamente in questi movimenti qui un po' come anche il 5 stelle all'inizio necessariamente diventa un bandwagon in cui poi piano piano con l'istituzionalizzarsi c'è il movimento o cambia però quello che è interessante proprio dal punto di vista etnografico è che il bello dei movimenti sociali in quei momenti lì ti senti proprio in un posto che dici ah qua si fa la storia tipo no che poi non è così però quello che conta è quello che percepisci e quello era molto rilevante secondo me a livello di invece sull'altro io però sono anche come dire contrario non contrario però perplesso nei confronti di Morozov che allora qualsiasi tentativo di creare qualcosa di diverso dal punto di vista statale è bollato di tecno-soluzionismo allora non si può più fare niente ma anche quello lì mi sembra mi sembra esagerato perché comunque dall'altra parte continuano a fare cose no? allora i poteri pubblici vabbè male minore non lo so però la sperimentazione è tecno-soluzionista sì ma dico cioè quando nel 1800 hanno codificato il diritto venivano accusati di essere tecno-soluzionisti distruggi il diritto naturale non lo so mi sembra un po' no è proprio un problema molto istituzionale se vogliamo cioè le piattaforme nel frattempo sono diventate le nostre nuove istituzioni e se i poteri pubblici devono fare qualcosa cos'è la mia idea allora provo a rispondere anche se sono due domande impegnative che richiederebbero come dire un confronto ad hoc e me la cavo in questo modo forse non è elegantissimo cioè non mi voglio sostituire a giuristico perché l'analisi dei dispositivi giuridici è estremamente deve essere necessariamente estremamente raffinata quello che io quello che mi limito a constatare è e la nessuno in due episodi due aspetti secondo me significativi il dibattito come dire l'acquisizione del dibattito sul lavoro di piattaforma in Italia avvenuto in un momento preciso cioè quando Di Maio è diventato ministro del lavoro e lasciatevi fare la battuta la sua ha voluto provare a regolare una cosa che neanche aveva capito quindi per questioni banalmente come dire di visibilità ha acquisito come dire l'insieme di proteste e ha fatto sue le proteste per dire dobbiamo regolare il food delivery che come diceva la professoressa Pais è una piccolissima parte del lavoro di piattaforme e quindi come dire quello che io constato è che la porosità che parte spesso anche dal basso e arriva alle istituzioni a volte arriva anche per questioni casuali contingenti legate ad accidenti politici ma questi accidenti politici tutto sommato fanno il gioco di chi dal basso cerca di organizzarsi in tempi medio lunghi allo stesso modo tempi medio lunghi per la direttiva sul lavoro di piattaforma a livello europeo che non ho ancora letto nel dettaglio e quindi ribadisco non mi permetto di commentare ma so perfettamente perché in parte l'ho seguito tutto il lavoro di back office che c'è stato di interazione fra parlamentari organizzazioni di attivisti che hanno in qualche modo contribuito a definire delle posizioni che poi sono state in parte tenute e che sono state poi trasportate in quella proposta di direttiva che adesso comunque deve essere votata per cui siamo ancora all'atto finale rispetto invece al tema del solo self-employment del solo self-employment è un tema che adesso può essere centrale anche nel dibattito istituzionale e si riflette sia a livello nazionale e a livello europeo su come regolarlo questo dibattito è nato almeno se guardo come dire soggettivamente al contesto italiano nel 1997 quando Sergio Bologna operaista e Andrea Fumagatti parlano di lavoratori autonomi di seconda generazione cioè ridiscutono un po' l'idea del lavoro autonomo che era in realtà il lavoro dell'elite architetti avvocati notai che forse era cambiato e in quel cambiamento c'è la contraddizione di un soggetto che è diverso e nessuno capisce bene che cos'è e perché nessuno lo capisce il fatto che nessuno lo capisca genera problemi perché i bisogni sono diversi da quelli del passato questa cosa mi fa dire e qui chiudo che discutevo con un collega per cui stiamo ragionando sul lavoro in piattaforma sulla democratizzazione del lavoro che mi rappresenterebbe anche questa declinazione un po' più dettagliata ma sul fatto che lo riassumavamo in uno slogan in uno slogan nel senso che è un concetto che poi va declinato il sindacato ha i margini e i margini del sindacato cioè come si può muovere il sindacato come soggetto comune uno dei tanti soggetti collettivi e il sindacato ha i margini cioè è il soggetto collettivo il sindacato o i vari tipi di sindacati che devono esplorare i margini per esempio delle relazioni industriali del sistema delle relazioni industriali classiche dove sta avvenendo il cambiamento il lavoro di piattaforma il lavoro autonomo insomma tutta quell'insieme di soggetti collettivi che non sono più esattamente quelli che noi avevamo definito tempo fa e che però hanno lo stesso nome i lavoratori autonomi come dire si fa fatica a capire cosa siano perché spesso non sono un'impresa e non sono neanche dipendenti a volte a volte lo sono hanno un potere di contrattazione a volte sì a volte no e come dire è una pluralità di soggetti variegata con bisogni stratificati e non è un soggetto perché sono tanti e questo è un grosso problema perché è un po' il segno come dire della frammentazione che genera la società contemporanea e la complessità del mercato del lavoro stefano provo a offrire una possibilità quindi una possibile interpretazione perché perché il bignami era una roba brutta e che poi in realtà lo era potrebbe essere invece un punto di partenza per qualcos'altro per uno studio più approfondito che si potrebbe addirittura dire bignami fonte e base della didattica attiva la didattica attiva tu la fai quando hai qualcuno che qualcosina sa questa è una delle cose che sono emerse nel dibattito dell'Albertelli per questo è un altro dei grandi come dire dei gatti light monti che viene insieme con i digitali facciamo la didattica attiva è peggiore certo che siamo d'accordo sulla didattica attiva abbiamo letto tutti i freire e compagnia bella non è che siamo caduti dal pero facciamo questo mestiere da qualche anno non siamo caduti dal pero e viene presentata questa cosa come sì intanto didattica attiva a 5 anni cioè se ha 6 anni in prima elementare o a 17 18 in quarta o a quinta superiore fa una certa quale differenza mentre invece nel discorso generale è tutto uguale se è buono è buono sempre se è cattivo se è cattivo è cattivo sempre no se c'è un mondo in cui le cose dipende in cui la risposta dipende questo è il mondo dell'educazione dipende tantissimo perché è di fronte perché sono esseri umani quindi è la cosa più complessa possibile in cui tu possa avere a che fare dopo i sistemi complessi è un sistema complesso via perché invece il pigname digitale è figo la cosa sta nella parolina magica digitale io rifletto su questa cosa l'ho ripetuto su questa cosa a lungo il digitale dà tempo più di un decennio ormai è sinonimo di figo se è digitale allora questa narrazione e qui di nuovo chiaramente viene fuori morso ma non solo non è che lui da scrittore è stato particolarmente chiaro ma non è l'unico si inserisce all'interno del dibattito per cui in generale io che sono cresciuto facendo prima l'ITIS e poi fisica io di umanistico non dovrei avere niente sono cresciuto alla scuola raggedetto e poco e dopo mi sono mobilitato all'università ma dico sempre vi meccanico rimango e con orgoglio questa roba qua mi sono di rischio di perdoli perché il bignano digitale piace perché il digitale è buono la scienza viene raccontata a chi fa questo percorso degli strchi tecnici fino all'università come un eterno presente e quindi non esiste una storia della scienza quindi non esiste cyber scene non esiste VINE se va bene esiste Turing giusto perché non è che poi ignorà Turing e von Neumann già dici non von Neumann che peraltro è stretta attualità infatti a me viene voglia di scrivere mi sta facendo mi voglia di scrivere un perfetto avvocatorio e dice il digitale è superato il futuro è analogico perché se uno guarda le ultime ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale vanno in quella direzione lì vanno nella direzione di macchine non von Neumann che utilizzano partendo dalla capacità di trattare segnali analogici però questa è la narrazione e quindi questo è sostanzialmente marketing la ragione per cui il vigname digitale va bene e quello analogico è brutto è che c'è dietro a una campagna di marketing una campagna di marketing su cui queste imprese che dopo vent'anni di cavalcata gloriosa adesso cominciano ad avere loro alcuni problemi licenziamenti crisi eccetera su questa questione dell'intelligenza artificiale si giocano tutto sulla questione digitale si giocano tutto sulla sua narrazione si giocano tutto e quindi chiaramente tutto ciò che è identificato come prossimo deve essere lanciato come il non presunta e quindi questo è la soluzione se esiste una soluzione dal mio punto di vista è cercare di allargare lo sguardo questo è quello che cerco di fare con i vieni aderi allarghiamo lo sguardo adesso c'è l'intelligenza artificiale di che figlia da dove viene chi c'era prima dire dire eccetera questo è il tentativo va bene io vi ringrazio abbiamo già tolto un quarto d'ora le conclusioni dei direttori e quindi non le toglierei ulteriormente non toglieremo ulteriormente tempo però ringrazio i miei esattori ringrazio anche i presenti e chiamo quindi qui all'interno di innanzitutto io penso di interpretare il sentimento di tutti dicendo che è stata una conferenza splendida una di quelle conferenze splendida per il valore dei contenuti che sono stati discursi il dialogo interdisciplinare che è una cosa rara diciamo nelle conferenze sul digitale e anche per la partecipazione per la vostra partecipazione quindi innanzitutto vorrei ancora ancora una volta ringraziare Antonio Sant'Angelo e Antonio Betrò che hanno immaginato e reso possibile questa conferenza e poi non 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 mi azzarderò nel tentativo di riassumere i temi che sono stati toccati quindi dirò solo alcune cose alcune impressioni che io personalmente ho ricevuto così a caldo diciamo che il tema dei digitali è stato toccato attraverso diverse sfere diciamo dalla sfera individuale del rapporto dell'individuo con il mondo digitale la sfera familiare e la sfera collettiva la sfera collettiva nel senso collettiva nel senso sociale e scolastico anche la la scuola è una collettività che è tornata in vari interventi in questa conferenza il tutto con incombente questa tecnosfera che abbiamo imparato a essere anche molto pesante e che un po' opprime queste sfere la sfera individuale familiare e collettiva e quindi dirò solo poche impressioni tenendo un po' il filo conduttore del titolo della conferenza quindi resistenza immaginazione e attivismo resistenza abbiamo visto direi resistenza declinata in due sensi secondo me da un lato una resistenza al potere tecnosferico di questo impersonato dalle piattaforme dalla struttura del potere digitale che oggi è in vigore quindi una resistenza a contro ma anche una resistenza all'interno una resistenza dentro il sistema delle piattaforme quindi una resistenza per esempio al determinismo tecnologico all'invasione della tecnologia nello spazio familiare ma anche la resistenza a trasformare le piattaforme nel senso della cooperazione nel senso del sopperire ai vuoti che le politiche di austerità hanno scavato nel tessuto sociale per quanto riguarda l'immaginazione beh allora abbiamo visto che innanzitutto qui si tratta di diciamo il tema dell'immaginazione è stato in qualche modo monopolizzato da promesse tecnologiche diciamo per essere brevi soluzionismo tecnologico dove non arriva la politica arriverà la tecnologia se la tecnologia non arriva oggi arriverà domani ci stiamo lavorando e così via a cui si ricollegano molti dei miti ricordati nelle relazioni che abbiamo sentito oggi il mito delle start-up dell'immaginario del garage il mito della fine del supervised learning dell'AI adesso stanno lavorando nel sud del mondo ma tra poco questo sarà risolto dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale e così via e quindi diciamo il tema dell'immaginazione consiste innanzitutto nel riprendersi nel riappropriarsi uno spazio di immaginazione ampiamente monopolizzato da questa narrativa e sovvertire sovvertire questa immaginazione soprattutto nell'ultimo panel abbiamo sentito varie suggestioni in questo senso e infine l'attivismo l'attivismo siamo partiti apprendendo una cosa che di cui forse ci dimentichiamo è il fatto che le categorie sociali che non erano tenute in considerazione che quindi non erano attive in questo senso prima dell'avvento della parte del comit non lo sono nemmeno oggi quindi partiamo da una constatazione di mancanza di attivismo da parte di lavoratori lavoratrici che non sono mai stati protagonisti dell'attivismo politico nell'attivismo ecologista il modo in cui la lotta non violenta prende forma nelle piattaforme come le piattaforme possano essere utilizzate per essere trasformate in forme che facilitano la partecipazione e anche la deliberazione su temi sui quali la politica non ha risposte allora in questo ho riassunto un po' rapidamente malamente quelli che mi sembrano i temi che hanno attraversato i tre panel del keynote della conferenza e volevo per concludere Maria Larcharmi al keynote di Tre Re e a una frase che lui ha detto nella sua presentazione lui ha detto e ha argomentato anche dato diciamo un qualche elemento convincente in questo senso dove c'è potere c'è resistenza e sempre ci sarà resistenza e allora io mi sento di condividere questa visione credo però che il problema qui sia proprio la parola potere e quello che abbiamo sentito oggi di cui abbiamo discusso secondo me riporta sul tavolo il fatto seguente che noi in realtà il potere non sappiamo com'è oggi e non sappiamo dov'è allora io penso che il 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 compito che la discussione di oggi ci affida magari per la prossima conferenza del prossimo anno sarà quello di insistere nel cercare di rispondere a questa domanda com'è il potere oggi dov'è il potere e e quindi uno sforzo diagnostico che probabilmente lo sguardo verso i digitali possibili ancora ci invita ci invita a rafforzare a coltivare ancora di più e lascio la parola a Marco Ricolfi sì grazie grazie Maurizio grazie a tutti in particolare siete fermati moltissimi questo è un bel segno lasciatemi dire due parole sul sul rapporto che esiste tra questo convegno e i precedenti convegni di Nex io voglio ricordare qualche anno fa abbiamo parlato dei digital devices c'era qualche cosa tra fedeltà e tradimento qualcosa del genere abbiamo già toccato molti di questi temi e voglio ricordare la presenza di Tiziana Maiolino della CGL di Antonio Casille che è uno dei nostri dei nostri garanti in realtà c'è tutto un discorso che va avanti negli anni e che si precisa e benissimo ha fatto Maurizio dire ci sono ancora dei punti che vanno chiariti perché sono grandi punti oscuri quindi c'è una continuità tra il lavoro che abbiamo fatto oggi che avete fatto oggi e quello che è stato fatto in passato e quello che faremo in futuro che è un po' la nostra forza perché non sono cose campate in aria per un'occasione che poi si dimentica un lavoro io che continua mi riallaccio poi in particolare quelli che sono i temi che mi sono cari il potere io sto lavorando da anni al concetto dei poteri di fatto perché notate che nell'ultimo periodo i poteri che erano normativi e quindi con un sovrano che dettava delle regole sono diventati poteri diciamo da piattaforma cioè dei poteri imposti dall'algoritmo che noi subiamo non sapendo che allora neanche li avrebbero subiti e quindi il tema di cui mi occupo è come si creano dei contropoteri non il sindacato piuttosto che i partiti di opposizione ma contropoteri rispetto ai poteri di fatto io mi occupo di Marti brevetti diritto d'autore quindi ovvio che lo veda nell'ottica della proprietà intellettuale ma il tema è più ampio e la resistenza algoritmica è un punto fondamentale per questo quando Emiliano Trerre si è messo a parlarci di queste cose mi sono sentito preso per mano e portato verso ragionamenti che ancora mi mancano e così per tutti gli altri io non ho seguito tutta la conferenza per problemi miei ma una buona parte l'ho seguita mi sono sentito accompagnato accompagnato in questa ricerca l'ultima notazione riguarda di nuovo Nexa io questi temi li vedo da giurista ma è chiaro che vedervi da giurista vuol dire vederli col paraocchi ed è chiaro che questo paraocchi viene rimosso quando ne parlo a Nexa e quando ne parlo con voi quindi grazie allora grazie molte qualche riflessione relativamente a Nexa in quanto tale nel senso che è Nexa 17 anni abbiamo compiuto il diciassettesimo anno della costituzione formale che risale dal 26 novembre del 2006 quindi ormai è un tempo lungo anche comparato con la vita di una persona e nasce dopo qualche anno di attività come dire di volontariato con Marco Ricolfi con Maurizio Borghi con diversi altri alcuni erano presenti in sala vedo Carlo Plengino e altri ancora e dopo qualche anno di volontariato relativamente a Creative Commons Italia che era stato il punto di partenza di questo gruppo interdisciplinare ci eravamo detti non possiamo continuare a lavorare di sera nei weekend ci vuole una istituzione ci vuole una struttura e quindi nasce l'idea di emulare il Bergman Center di Harvard con cui eravamo montati in contatto e ci operiamo troviamo degli interlocutori che ci ascoltano il rettore dell'epoca Francesco Profumo troviamo interlocutore della regione Piemonte e quindi si creano le condizioni per creare una istituzione piccolina con relativamente poche risorse ma un'istituzione e credo che questa sia stata una scelta corretta perché l'attività fatta puramente in maniera di volontariato puramente in maniera episodica non reggono nel tempo neanche le istituzioni necessariamente reggono nel tempo ovviamente quindi la sfida per Nexa è di durare altri 17 anni e il mondo cambierà ancora il digitale cambierà ancora sicuramente però diciamo che l'istituzione ha una possibilità di vivere più lunga che non un gruppo di persone come direte in maniera così di volontariato nel tempo libero fanno le cose anche perché comunque si cresce nell'età cose che fai a 30 anni non le fai a 50 e neanche meno a 70 da questo punto di vista la sfida per le istituzioni è di sopravvivere ai fondatori noi siamo vivi e leggeti e speriamo di rimanere ancora lungo però un primo passo della sopravvivenza dei fondatori è i fondatori ancora viventi e ancora attivi che lasciano spazio a chi viene dopo in maniera tale che l'istituzione diventi indipendente il più possibile da chi le è ideata e pensata inizialmente c'è tutta un'ampia letteratura sull'organizzazione in momento ideale e sul grande problema di sopravvivere e questo direi che oggi la testimonianza avendo questa conferenza sendo stata pensata organizzata gestita praticamente interamente senza contributo sicuramente mio ma credo anche limitato di Marco posso dirlo quindi dei due fondatori originali penso che questo sia anche un risultato molto importante per Nex in quanto organizzazione cioè il fatto che una conferenza così bella così interessante sia stata fatta senza il nostro contributo nel mio caso è stato contingente dovuto alla mia candidatura a rettore ma direi che avrei dovuto farlo comunque anche se non mi fossi candidato a rettore proprio per mettere alla prova nuove energie perché nuove energie si mettono in campo nel momento in cui si fa un passo indietro e si dice il testimone è tuo vai avanti tu quindi sono molto contento di questo quindi grazie molto di nuovo come dicevamo all'inizio a Maurizio che si è unito a noi recentemente come codirettore ad Antonio Sant'Angelo Antonio Vietrò e a tutto lo staff perché è un bellissimo segno per me grazie voglio ancora dare un segno di ottimismo dicendo che questa evoluzione che abbiamo parlato oggi è molto recente alla velocità del cambiamento stiamo organizzandoci per resistere per creare dei contropoteri ce la faremo anche grazie a tutti 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 grazie a tutti